al canto di riede mercanti il segretario fece una profonda scappellata all'ingegner ginoni che gli rispose con il suo solito buongiorno segretario amato poi infilò via san francesco d'assisi per rientrare in casa mancavano 20 minuti alle 9 era quasi certo di incontrar per le scale chi desiderava a dieci passi dal portone intoppò sul marciapiedi il baffuto maestro di ginnastica fassi che leggeva delle prove di stampa questi si soffermò e mostrando gli fogli e disse che stava scorrendo le bozze di un articolo sulla sbarra fissa della maestra pedani scritto per il nuovo agone giornale di ginnastica del quale egli era uno dei principali redattori è giusto soggiunse quello che dice non ci ho da dare che qualche ritocco qua e là è veramente una maestra di ginnastica non dico per scrivere ciascuno alle sue facoltà e poi nella ginnastica come scienza il cervello di una donna non sfonda si sa ma come esecutrice non ce n'è altra già madre natura l'ha fabbricata per quello le ha dato le proporzioni schelettoniche più perfette che io abbia mai viste una cassa toracica che è una meraviglia l'osservavo giusto ieri nella rotazione del busto che faceva per esperimento alla flessibilità di una bambina di 10 anni e mi vengano a dire i signori estetici che la ginnastica sforma il bel sesso quella maneggia i manubri come un uomo e ha il più bel braccio di donna se lo vedesse nudo che si sia mai visto sotto il sole la riverisco così egli troncava bruscamente ogni discorso per imitare il celebre bowman il grande ginnasi arca come egli lo chiamava che era il suo dio il segretario rimase pensieroso quel feroce maestro fassi senza saperlo lo andava tormentando da un pezzo con tutti quei ragguagli descrittivi delle forze delle bellezze della maestra a cui egli già troppo pensava ora quelle due immagini del busto roteante e del braccio nudo gli crebbero l'agitazione con la quale s'avviava sempre verso la scala quando sperava ad incontrarvi la sua vicina salì i primi scalini a passi lenti e leggeri con l'orecchio teso che quando fu sul primo pianerottolo udendo sopra uno stropiccio di piedi si sentì salire il sangue alle guance erano la maestra pedani e la maestra zivelli che scendevano insieme come di solito per andare alla scuola egli riconobbe la voce di contralto della prima quando si trovarono di fronte a metà della seconda branca di scala il segretario si fermò levandosi il cappello e invece di guardarla pedani vinto dalla timidezza guardò come faceva sempre la sua compagna la quale anche questa volta credette d'essere lei la cagione del suo turbamento e lo incoraggiò con un sorriso amorevole e tennero uno dei soliti dialoghetti stupidi di quelle occasioni così presto vanno alla scuola balbettò lui non è tanto presto rispose con voce dolce la maestra zivelli sono a momenti le otto e tre quarti credevo le otto e mezza i nostri orologi vanno meglio del suo e può darsi c'era una nebbia questa mattina la nebbia precede il buon tempo qualche volta speriamo e al piacere di rivederle a rivederla a rivederla arrivato a capo della scala il segretario si voltò rapidamente e fece ancora in tempo a lanciare un'occhiata ladra alla bella spalla e al braccio poderoso della pedani il momento che la zivelli senza che la sua amica se ne avvedesse si voltava a lanciare a lui uno sguardo sorridente allora egli prese una risoluzione no non poteva continuare in quella maniera quella nuova sciocca figura che egli aveva fatto in presenza di lei gli dava l'ultima spinta non gli era possibile regger più oltre con quel tormento di desiderio in corpo inasprito ogni giorno da quegli incontri nei quali non gli riusciva neppure di procurarsi il gusto di guardarla era deciso avrebbe mandato la lettera che teneva da una settimana sul tavolino voleva una sentenza di vita o di morte arrivato al secondo piano aprì l'uscio con un movimento risoluto e andò di filato verso la camera di suo zio il commendatore celzani padrone di casa per rimettergli le pigioni dell'altra sua casa di vanchiglia e andar subito dopo a rileggere l'ultima volta la lettera che doveva decidere del suo destino ma un passo dall'uscio udendo due voci nella camera s'arrestò e messo l'occhio al buco della serratura vide in compagnia del padrone un uomo bassotto e grasso con un largo viso in berbe rugoso di ragazzo invecchiato e infiato ad un tratto e una piccola parrucca nera messa per traverso che gli conosceva da un pezzo era il direttore generale delle scuole municipali che passando ogni mattina per via san francesco per andare all'uffizio saliva ogni tanto a salutare il commendatore col quale aveva stretto amicizia intima otto anni prima quando quelli era assessore supplente dell'istruzione pubblica non di meno essendo diventato diffidente di tutti dopo che aveva il segreto di quella passione nel cuore il segretario si mise a origliare all'uscio col sospetto che parlassero di lui si tranquillizzò un poco udendo che il direttore discorreva secondo la sua consuetudine delle grandi e delicate difficoltà della propria carica per ciò che riguardava le maestre lei capisce diceva con voce asmatica e lenta vanno a dar lezioni in famiglie nobili hanno conoscenze fra i deputati e i senatori alcune sono anche in relazione con altri funzionari del ministero bisogna andare ad agio qualche volta sono perfino appoggiate dalla casa di sua maestà si fa presto a sollevare un vespaio è una carica lei lo sa che richiede un tatto una delicatezza che pochi hanno si tratta di mandare avanti una famiglia da 250 a 300 fra signorine giovani e mature maritate e vedove provenienti da tutte le classi sociali e con loro un corpo di direttrici che sarebbe più comodo aver da fare con le trenta principesse di casa onzollern si immagini i pensieri che mi danno fra amori malattie matrimoni lunedimiele esami puerperi rivalità contrasti con superiori e parenti creda che alle volte io darei il capo nel muro e andava avanti così sulle generali il segretario rassicurato del tutto si trasse in disparte ad aspettare uscito appena il direttore entrò dallo zio che era ancora seduto sulla poltrona ravvolto nella veste da camera coi suoi gravi e dolci occhi azzurri fissi alla volta come assorto in contemplazioni celesti e resogli conto del suo operato li mise sul tavolino e i biglietti di banca quegli fece un cenno d'approvazione con la sua bella testa bianca senza parlare com'era a suo uso e volti di nuovo gli occhi per aria si rimise a pensare allora il segretario se ne andò in punta di piedi entrò nella sua camera cavò da un cassetto chiuso una lettera di quattro facciate scritte con perfetta calligrafia la rilesse con profonda attenzione la rimise nella busta con gran riguardo vi attaccò un francobollo con molta cura uscì di casa senza farsi sentire e arrivato al canto della strada dopo essere rimasto un po' incerto con la mano alzata davanti alla buca delle lettere vi lasciò cadere la sua poi tirò un lungo respiro il dado era tratto non c'era più che a rimettersi a dio il segretario celsani passava di pochi anni la trentina ma aveva la compostezza d'aspetto e di modi d'un uomo di cinquantina una figura di notaio da commedia o di precettore di casa patrizia clericale rimasto orfano da ragazzo era stato raccolto da uno zio materno parroco di villaggio che l'aveva tirato in su in sagrestia e poi messo in seminario per farlo prete ma morto il parroco lasciandogli un po' di peculio l'aveva levato di seminario e preso in casa sua lo zio celsani vedovo senza figlioli per fargli fare da segretario e da fattore di campagna ufficio in cui egli metteva una probità e uno zero veramente esemplari andava in chiesa frequentava dei preti e di prete gli erano rimaste certe mosse certi atteggiamenti come quello di tener spesso una mano nell'altra serrate sul petto l'avversione ai baffi e alla barba e l'abitudine di vestir tutto di scuro ma non era un bigotto e si vantava senza mentire ed essere patriotta e liberale ciò nonostante a cagione della sua apparenza tutti gli inquilini della casa lo chiamavano da anni per celia don celsani eppure trovando in lui un'ombra leggera di ridicolo lo stimavano e gli volevano bene perché era cortese e servizievole timidamente rispettoso con tutti e sempre uguale non avendo quando la sua pazienza era messa alla dura prova altra escramazione più risentita di quella di dio grande che gli metteva fuori alzando gli occhi al cielo e allargando le braccia in atto di invocazione ma vera un lato della sua natura che nessuno conosceva sotto quell'aspetto composto di prete travestito si celava un temperamento fisico vivacissimo una forte sensualità contenuta non per ipocresia ma in parte per timidezza in parte per sentimento di decoro e dissimulata per lo più da un'area di profonda meditazione a veder per la strada quell'uomo vestito di nero un po curvo coi capelli scuri spioventi col viso liscio con due occhi così piccoli che quando sorrideva non si vedevano più con un naso lungo e sottile di asceta con un'andatura come se gli studiasse di farsi piccolo e sempre con lo sguardo rivolto a terra a dieci passi davanti a sé nessuno avrebbe mai pensato che non sfuggisse alla sua vista né un piedino scoperto sul montatoio di una carrozza né una fotografia libera in una vetrina né una coppia tortoreggiante sotto un portone né alcuna cosa o d'immagine che potesse eccitare i sensi un osservatore non avrebbe potuto riconoscere il suo temperamento che dalla grande bocca mobile che pareva formata di due serpentelli vermigli e da certe ondate di sangue che al passar di certi pensieri gli coloravano per un momento il collo e la faccia certo la buonanima dello zio prete non avrebbe potuto seguirlo in ogni suo passo ma la sua condotta era così dignitosamente prudente che anche chi conosceva meglio le sue abitudini non scopriva nulla che gli potesse far sospettare che egli non fosse anche per quel riguardo quello che pareva del resto egli era una di quelle nature nella loro sensualità non volgari le quali non si abbandonano al vizio perché non vi si appagano e son fatte per non trovare appagamento che in un possesso unico sicuro ed onesto non scompagnato dall'affetto nature più che semplicemente sensuali amorose che aspettano e cercano frenandosi senza grande sforzo finché non trovino incarnato un certo ideale fisico e morale che covano in mente nel quale sono forse più difficili a contentarsi da altri uomini più freddi e più raffinati a cui non fa velo il fumo della passione ora egli aveva trovato quest'ideale nella maestra pedani lombarda venuta tre mesi prima sul cominciare di dicembre ad abitare con la sua collega zibelli in un quartierino al terzo piano di quella casa di fronte all'uscio del maestro fassi il quale l'aveva tirata là per assicurarsi meglio la sua cooperazione preziosa al nuovo agone quell'alta e robusta giovane di 27 anni larga di spalle e stretta di cintura modellata come una statua che spirava da tutto il corpo la salute e la forza e che sarebbe stata bellissima se non avesse avuto un asino non finito e un'espressione di viso e un'andatura un po' troppo virili gli aveva fatto fin dal suo primo apparire l'effetto di una persona lungamente desiderata e aspettata era il tipo che aveva carezzato nei suoi sogni ardenti di seminarista la figura che aveva vagheggiato confusamente per tutto il corso della sua calda gioventù castigata la prima volta che era salito in casa sua a prender da lei la pigione anticipata del trimestre non gli era riuscito di contare i biglietti da cinque che essa gli aveva messo in fila sul cassettone da quel giorno la sua passione era andata crescendo avvampate e appena egli ebbe compreso dal contegno di lei il suo carattere vigoroso e calmo ripugnante a ogni civetteria che quasi non le lasciava avvertire l'impressione prodotta dalla propria persona e non dava speranza alcuna né di leggerezza né di capricci il pensiero di lui andò diritto e risoluto al matrimonio come all'unico modo possibile di conseguire la soddisfazione dei suoi desideri nonostante il suo ardore peraltro egli prevedeva le difficoltà che avrebbe ragionevolmente opposto lo zio al suo matrimonio con una maestra sola e senza fortuna ma a sperare che il no non sarebbe stato assoluto lo confortava in parte il fatto d'una passione singolare di cui pareva acceso il commendatore la sola che egli conoscesse uno spirito attivissimo di propaganda in favore della ginnastica educativa che gli aveva promosso in tutti i modi durante il suo breve vice assessorato dell'istruzione da qual propaganda si era poi sdato ma servando una viva e costante simpatia per tutti gli spettacoli ginnastici di scuole collegi istituti accademie ed esami di cui non perdeva uno solo essendo invitato a tutti come uno dei primi e più benemeriti fondatori della palestra di torino era appunto questa simpatia per la ginnastica che gli aveva fatto ridurre d'un terzo la pigione al maestro fassi conosciuto da lui alla palestra molti anni prima e accordare lo stesso favore alla signorina pedani maestra di ginnastica in vari istituti nota per il suo valore di insegnante e per i suoi articoletti vivaci nei giornali tecnici il segretario pensava che lo stesso sentimento che gli aveva fatto calare la pigione all'inquilina gli avrebbe fatto scemar l'opposizione alla sposa da questa parte dunque non era la difficoltà più terribile la più terribile era quella di arrischiarsi a dichiarare aperto a lei la sua passione al che se era formidabilmente opposta per tre mesi la sua invincibile timidezza cagionata soprattutto dalla considerazione della grande inferiorità che egli riconosceva in sé rispetto alla maestra dal lato dei pregi esteriori della persona da tre mesi conoscendo appunto l'orario di tutte le sue lezioni egli si ingegnava ogni giorno e più volte al giorno d'uscire o di rientrare in casa in quei dati momenti per incontrarla per le scale ed aprirle il suo cuore e cento volte l'aveva incontrata ma non una gli era venuto fatto di cacciar dalla bocca altro che le più usuali e insignificanti parole e non gli serviva prepararsi prima la frase inghiottire in furia due bicchierini di caluso o cercare il coraggio nel sentimento dell'onestà dei suoi fini quando si trovava di fronte a quell'alta e forte ragazza che ostesse sullo scalino di sopra o su quello di sotto gli pareva sempre che lo dominasse come una figura colossale tutto il suo ardimento fittizio cadeva senza che il più delle volte egli osasse nemmeno di staccare lo sguardo di torno alla sua bella vita o dalle sue spalle stupende per sollevarlo fino al suo viso non era forse neppur riuscito a farle indovinare la propria passione tanto era tranquilla e sempre uguale la disinvoltura di giovanotto con la quale essa lo salutava e gli parlava e così egli viveva ruminando il suo amore aggiungendo ogni giorno l'eccitamento d'una nuova immagine a una interminabile collezione di atteggiamenti di suoni della voce di mosse di guizzi della persona che gli aveva in capo e che passava a rassegna di continuo meditandoli ad uno ad uno e assaporandoli con una volutà e con un tormento crescenti che non gli davan più pace finalmente non potendo più reggere aveva scritto la lettera la casa si prestava ai maneggi e ai segreti di una passione amorosa era una delle più vecchie case di torino un antico convento dicevano senza soffitte senza terrazzini sul cortile con due sole scale mal rischiarate su ciascuna delle quali non erano che sei quartieri la più parte a sei piccoli e abitati tutti da gente tranquilla sulla scala del padrone di casa al primo piano abitava l'ingegner ginoni con la sua famiglia con la quale la pedani era in relazione per essere stata maestra elementare ed una delle figliole che allora era alunna della scuola margherita stavano sullo stesso piano due vecchie sorelle agiate tutte di chiesa scrupolose a segno che non alzava mai gli occhi in viso ad un uomo e buonissime in fondo le quale avevano dapprima salutato la pedani cortesemente e poi smesso di salutarla dopo che per via delle persone di servizio avevano saputo che essa frequentava un corso di anatomia e fisiologia applicate alla ginnastica fatto dal dottor gamba al secondo piano in faccia al commendatore abitava un vecchio professore di lettere certo cavalier padalocchi vedovo e pensionato un linguista terribile dicevano ma di maniere compitissime il quale si accompagnava qualche volta con la pedani su per la scala parlandole dei suoi malanni il terzo piano era tutto scolastico e ginnastico e i due quartieri per la via che vi si menava erano senza dubbio i più bizzarri della casa quello delle maestre principalmente a cagione delle differenze grandi che correvano fra di loro nell'indole e nella vita le quali facevano parere strano che si fossero decise a mettersi insieme la zibelli aveva 36 anni ed era anche nel fisico l'opposto della sua amica anche lei era alta ma magra e stretta di spalle un viso bellino ma troppo piccolo e già appassito non aveva che i contorni apparenti d'un corpo ben fatto grazie al gusto con cui si vestiva e dal suo modo di buttare i piedi si capiva che i suoi ginocchi erano troppo intrinseci amici doveva essere stata una giovinetta assai simpatica aveva avuto dei capelli castani bellissimi la sua gloria era ad aver innamorato alla scuola domenico berti un giovane professore di fisica il quale arrossiva interrogandola ma la gloria era antica e i capelli s'eran diradati le amarezze della lunga vita di ragazza per cui non era nata le avevano messo due pieghe aspre agli angoli della bocca un che di torbido negli occhi che rivelava un'anima malcontenta il fondo era rimasto buono con questo ma l'umore irritabile e mutevole lo guastava essa aveva fatto amicizia con la pedani fin da quando questa era entrata nella sua sezione municipale presa subito da una simpatia di sorella maggiore per quella bella ragazzona incurante di sé delle cose domestiche con la quale aveva comune l'entusiasmo per la ginnastica e le si era stretta anche meglio per soffocare con l'affetto un principio di gelosia e di invidia che sentiva per la sua opulente bellezza per questo anzi le aveva proposto di far casa fra due e vivevano insieme da due anni ma col crescere della familiarità sarà presto turbata la buona armonia la prima discordia era nata l'anno precedente in occasione del grande congresso ginnastico di torino nel quale determinandosi la divisione fra le due scuole obermannista e bomannista la pedani si era gettata risolutamente nella seconda che era la più ardita e l'altra era rimasta come voleva l'indole sua più femminia nella prima poi erano sorti altri dissensi da cause più gravi la zibelli si innamorava ogni momento con una incredibile facilità a credersi corrisposta per uno sguardo per una frase gentile o d'equivoca per il più piccolo atto di cortesia d'un maestro d'un superiore d'un parente d'una sua alunna e sempre in queste accensioni subitane della fantasia trovava o le pareva di veder sorgere tra sé e il supposto amante la sua bella amica che sviasse l'attenzione di lui dalla sua persona attirandola sulla propria forse involontariamente ma per questo appunto con suo più vivo dispetto e allora seguivano dei brutti periodi durante i quali essa non la poteva soffrire e attaccava questioni interminabili per un lume messo fuori posto perché quella si levava troppo presto perché si faceva aspettare a tavola per tutti i più futili pretesti irritata anche più del non trovare alcuna presa alla sua stizza in quell'animo sano in corpo sano in cui circolava la vita rapida e calda e pareva che l'operosità continua ed allegra soffocasse ogni senso per i piccoli screzi della vita domestica poi la zibelli si incapricciava ad un altro e finché l'illusione durava tornava con essa all'amicizia espansiva e protettrice dei primi giorni aiutandola a vestirsi divertendosi del suo disordine compiacendosi quasi dell'ammirazione con cui la vedeva guardata se non che via via che le delusioni si succedevano come ella credeva per ragion di lei le manifestazioni della sua acrimonia s'andavano facendo più forti e duravano più a lungo ora quando era in uno di questi periodi non le si accompagnava più per andare a scuola sparlava di lei con i vicini stava delle intere giornate senza aprire bucca o la contraddiceva ferocemente dalla mattina alla sera ma sempre senza riuscire a metterla in collera nelle discussioni l'amica le dava ragione quando l'aveva ragionava pacatamente nel caso contrario non dando importanza altro che al fondo della cosa e quando la zibelli le teneva il broncio si contentava di guardarla ogni tanto in atto di curiosità seguitando a fare gli affari suoi naturalissimamente immutabile nella sua amicizia virile senza tenerezza e senza grilli la quale non dava molto ma pretendeva poco l'ultima rottura era seguita a cagione del maestro fassi che aveva ispirato alla zibelli una calda simpatia e di cui le continue conferenze con la pedani a proposito della ginnastica la indispettivano acerbamente ed essa avrebbe compiuto allora il proponimento fatto molte volte di piantarla casa se la forza dell'abitudine un resto di bontà e il non avere alcun pretesto confessabile non l'avessero trattenuta ma più di tutto aveva poi giovato a trattenerla la persuasione che il segretario si fosse innamorato di lei e non soltanto era rimasta ma era tornata con l'amica alle tenerezze di prima ma neppure a questo la pedani aveva badato essa viveva d'un solo pensiero la ginnastica non per ambizione o per spasso ma per profonda persuasione che la ginnastica educativa diffuse ed attuata come esse ed altri l'intendevano sarebbe stata la rigenerazione del mondo alla predilezione di quell'insegnamento l'aveva sempre portata il suo carattere maschio avverso tanto ad ogni mollezza e sdolcinatura dell'educazione che nei componimenti delle alunne essa cancellava inesorabilmente tutti i vezzeggiativi e non tollerava nemmeno i più usuali bei nomi di battesimo consacrati dal calendario dei santi ma dopo il nuovo impulso dato alla ginnastica dal ministro de sanctis e la propaganda potente del bohman la sua era diventata una vera passione che le aveva procacciato una certa notorietà nel mondo scolastico torinese oltre ad insegnare la ginnastica nella sezione femminile monviso dove era anche maestra ordinaria essa insegnava alla scuola margherita all'istituto delle figlie dei militari all'istituto del soccorso e alle bimbe dei soci della palestra dando dappertutto all'insegnamento la mossa vigorosa del proprio entusiasmo pareva veramente nata fatta per quell'unica cosa non riusciva soltanto ad eseguire per suo piacere i più difficili esercizi virili alla sbarra fissa e alle parallele era anche riuscita con lo studio una insuperabile maestra di teoria ammirata da tutti gli intendenti per la rara prontezza nel variarli esercizi dei quali si era fatta di suo capo razionalmente innumerevoli combinazioni per il singolare vigore del comando che rendeva i movimenti pronti facili e simultanei per il colpo d'occhio acutissimo a cui non sfuggiva la più piccola irregolarità di atteggiamento o di mossa anche nelle schiere di alunne più numerose seguiva allora un corso d'anatomia alla palestra ma ne aveva seguito già un altro con gran diligenza due anni prima aiutandosi con molte letture di modo che poteva fondare e regolare il suo insegnamento sopra ogni cognizione più che mediocre dell'organismo umano e dell'igiene alla prima occhiata riconosceva se una ragazza avesse attitudine o no alla ginnastica esaminava i corpi malformati cercava le spalle asimmetriche i petti gibbosi gli addomi prolassati le ginocchia torte e studiava di correggere ciascun difetto con un ordine particolare d'esercizi a questo si dedicava con zelo materno si sforzava di persuadere le madri dell'efficacia del suo metodo quando riluttavano faceva una guerra implacabile ai busti troppo stretti e ai vestiti troppo stringati teneva un quadro della statura e del peso di certe alunne per accertarsi degli effetti della sua cura si era comperato a sue spese un dinamometro per misurare la loro forza andava facendo dei piccoli risparmi per comprarsi un apparecchio per misurare la capacità polmonare avrebbe voluto che si inventassero dei congegni per misurare la bellezza del portamento la destrezza la facoltà d'equilibrio ogni cosa e oltre alle sue lezioni si occupava di problemi tecnici speciali teniva dietro ai vari congressi regionali dei maestri di ginnastica registrandone le deliberazioni leggeva quante opere straniere sulla materia le capitassero alle mani tradotte e non perdeva un numero dei dieci giornali ginnastici d'italia di parecchi dei quali era corrispondente uno dei suoi articoli sull'utilità pratica del salto scritto con garbo e con forza aveva destato l'ammirazione del maestro fassi e dato occasione alla loro amicizia la quale peraltro era da parte del maestro un po' interessata poiché pieno di idee di cognizioni nella sua scienza egli mancava affatto di stile come il marescial di emilio voget e anche un po' di grammatica e la pedani provvedeva ammirabilmente alla sua deficienza convertendo i suoi appunti in articoli ai quali egli metteva con mano franca la propria firma ma la pedani che non scriveva per la gloria non se ne curava tutta dedicata alle sue scuole in giro tutti i giorni ai quattro angoli di torino a tavolino a studiare quando non era in giro occupata da sé sola in esperimenti ginnastici quando non studiava sui libri essa esercitava infaticabilmente il suo apostolato per la rigenerazione fisica della razza senza vedersi né dei mille sguardi che si avvolgevano da ogni parte intorno al suo bellissimo corpo né delle invidie e delle gelosie che suscitava tanto che chi la conosceva da vicino la considerava come una natura di donna misteriosa refrattaria all'amore e quasi priva di istinto sessuale e l'ingegner ginoni a cui piaceva di scherzare con lei la chiamava la vulneratrice invulnerabile e pareva che la giustificasse quest'idea con la nessuna o pochissima cura che prendeva del suo abbigliamento se non per la pulitezza che serbava irreprensibile usciva un giorno col cappellino messo di sbieco un altro col cappotto sbottonato con gli stivaletti da casa camminava a passi troppo lunghi si lasciava sfuggir delle note di voce maschile che facevano voltare la gente stupita e pronunciava un r quadruplicata che dava lo stridore d'una raganella ma in vano tutti questi difetti e anche il nasino non finito scomparivano nella bellezza poderosa e trionfante del suo corpo giovanile di guerriera avevano lei e la zibelli una donna di servizio fra tutte e due e una stanza che serviva di salotto comune da una parte del salotto c'era la camera della pedani dall'altra quella della sua amica diversissime fra loro come le indoli delle due persone quella della zibelli era tenuta con molto ordine ornata di quadretti a pastello dipinti da lei in altri tempi ed una profusione di lavori d'uncinetto e di traforo di fiori finti di carta e di cuoio di paralumi di guernizioni e di ninnoli fatti pure dalla sua mano fra cui vari scaffali coperti di tendine ricamate nei quali erano mescolati ai libri scolastici molti romanzi francesi poiché secondo le lune essa si chiudeva rigidamente nella scuola e nella pedagogia come in un inchiostro intellettuale per dimenticare il mondo e le sue tentazioni o si buttava con tutta l'anima alle letture di fantasia nella camera della pedani all'opposto c'era sempre l'arruffio d'un magazzino di rigattiere vestiti gettati qua e là delle bluse da ginnastica di rigatino oscuro appese a dei chiodi in un canto un bastone jager due paia di manubri sotto il letto degli zoccoli da esercizio a pie dell'armadio e sparpagliati un po dappertutto numeri del nuovo agone del campo di marte della palestra di padova delle gymnast belge ed altri giornali della stessa famiglia a capo del letto accanto a un calendario scolastico stracciato pendeva dal muro dentro una cornice dorata una iscrizione calligrafica regalatale dalle sue alune di due versi del parini che non può un'alma ardita se non in forti membra a vita la libreria era un monte di volumi scuciti sopra un tavolo coperto da una gazzetta una collezione tutta ginnastica di prontuari di manuali d'atlanti di letteratura meloginnica di opuscoli sull'igiene sul nuoto sul velocipedismo e di pubblicazioni del club alpino poiché la sua passione per la ginnastica abbracciava tutte le discipline fisiche del genere umano ma quello che dava alla sua camera un aspetto curiosissimo era un gran numero di ritratti tolti più da giornali illustrati e appiccicati alle pareti come in una bottega di venditor di stampe oltre al boman che campeggiava c'erano i ginnasti italiani più benemeriti il gallo di venezia il pizzarri di chioggia il ravano di genova e sopra questi il ravestin il nestore dei ginnasti tedeschi firmino lampier l'uomo vapore una fotografia del bargossi un ritratto in oleografia di ida lewis decorata della medaglia d'oro dal congresso degli stati uniti per aver salvato dei naufraghi ed altri a decine questo strano bazar le serviva da camera da letto e da scrittoio e perfino da palestra e da scuola poiché lì faceva ogni giorno i suoi esercizi appena levata e dava le sue lezioni particolari ed era anche un secondo salotto per tutte e due perché quando erano in buon accordo ci veniva ogni momento la zibelli attirata dalla bizzarria di quel disordine a far quattro chiacchiere con la sua amica erano lì appunto tutte e due alle 7 della sera dopo aver desinato sedute a un piccolo tavolino rischiarato da un lume di benzina e la pedani sfogliava sotto gli occhi dell'amica che le teneva un braccio intorno al collo la ginnastica degli anelli del dottor orsolato quando venne la portinaia a portare la lettera del segretario la pedani la fece entrare nella sua camera per ripeterle ancora una volta quello che le andava dicendo da un mese di non torturare più la sua bambina aveva una figliola che ingobbiva diceva lei e si era lasciata persuadere da un bottegaio ortopedico del vicinato a metterle un busto di lastrine metalliche il quale premendola troppo al costato la faceva soffrire e strillare come un'indemoniata la pedani voleva che la mamma buttasse via quello strumento cagione possibile di una consunzione polmonare e che affidasse la bimba a lei per la cura ginnastica ma quella non ci credeva e anche questa volta le diede la risposta solita ah ci vuon altro che la sua ginnastica signora maestra mi fate pietà le rispose la pedani poi uscita la portinaia guardò la soprascritta della lettera di cui non riconosceva i caratteri la zibelli si alzò come per uscire ma l'incertezza del suo passo mostrava così poca voglia ad andarsene che la pedani le disse di rimanere d'altra parte essa non faceva segreti né con lei né con altri aperta la busta guardò la firma e cominciò a leggere senza dare alcun segno di maraviglia solo quando ebbe finito sorrise tentennando il capo con gli occhi fissi sul foglio come se per la prima volta le si chiarissero alla mente i vari indizi che le avrebbero dovuto far prevedere quel caso la zibelli punta dalla curiosità ma trattenuta da quel silenzio non usò far domande ma seguì con l'occhio tutti i suoi movimenti l'altra salzò buttò sbadatamente la lettera nel cassetto del tavolino dei libri e avvicinatasi all'armadio prese il suo cappello la zibelli si ricordò che la sua amica doveva andare al club alpino a sentire una conferenza della contessa palazzi lavaggi sulle ascensioni alpine delle donne un'idea le balenò ma per stornare ogni sospetto disse sorridendo ah tu fai dei misteri no non è un mistero rispose la pedani con indifferenza te lo dirò poi e si mise il cappellino alla carlona la zibelli scherzando l'accompagnò fino all'uscio s'andò ad accertare che la serva era in cucina rientrò l'esta nella camera dell'amica pigliò la lettera nel cassetto guardò la firma e impallidì poi lesse la lettera intera e fu presa da una tal fiammata di rabbia che si guardò intorno con la tentazione di rompere e di calpestare ogni cosa anche quello le portava via oh la nefasta creatura essa l'avrebbe in quel momento crivellata a colpi di spillo e ciò che l'arrabbiava di più era che sebbene nella lettera non fosse nessun accenno al matrimonio si capiva però dalla gravità quasi comica ad ogni frase che non era una dichiarazione d'amore fatta alla leggera con uno scopo di semplice galanteria ma una lettera ruminata e pensata lo sfogo d'una passione che durava da un pezzo e con un proposito serio e lei si era potuta illudere in quel modo e aveva fatto da comodino a tutti e due sbatté il foglio nel cassetto fece due o tre giri per la camera come se quell'aria la soffocasse e avendo bisogno subito di una vendetta datasi in fretta un'arrabbiata ai capelli uscì di casa attraversò il pianerottolo e picchiò all'uscio del maestro fassi accomodando alla meglio un viso ridente le aperse la signora fassi con un viso arcigno che aveva preparato per ricevere la pedani ma vedendo lei si rasserenò e la fece entrare in una piccola stanza con le pareti bianche e nude nella quale quattro ragazzetti facevano un baccano d'inferno intorno a una tavola a mezzo apparecchiata la zibelli sapeva di trovare nella signora fassi un'alleata sicura contro la pedani la cui familiarità con suo marito le spiaceva anche più che non dicesse era una donna sui 40 con un seno enorme che le impicciava le braccia e con una gran bocca che perdeva le labbra vestita sempre in casa come una bracina la quale metteva tre quarti d'ora a scendere e a salir le scale soffermandosi a parlare con voce piagnucolosa con quanti incontrava e in particolar modo col segretario che risapeva i fatti di tutti dalla bocca sua era molto gelosa dei robusti 38 anni di suo marito e pareva che avesse un concetto meraviglioso della sua rozza bellezza di caporalone la quale non consisteva in altro che nella fierezza delle impostature in due folti baffi che gli andavano dalla bocca alle orecchie ma lo temeva pure e non osava per questo di far degli sgarbi aperti alla rivale la zibelli disse ad esser venuta per svagarsi un pochino fece l'allegra carezzò i bambini girò per la stanza aspettando il momento opportuno il quale le parve giunto quando la signora fassi le domandò se quella sera era sola in casa sola rispose maria è uscita del resto ora non bada più a me ci ha ben altro e vista la curiosità della fassi non potendosi più contenere con un tono forzato di scherzo senza parlare della lettera le accennò l'amore del segretario quella rimase con la bocca aperta la cosa le pareva incredibile poi disse come lo sa lo so rispose la maestra ma per sposarla la maestra fece un segno come per dire che non c'era dubbio il segretario è matto disse la fassi con dispetto malcelato ma e lei lei rispose la zibelli per ora fa l'indifferente ma dirà dieci sì l'uno dietro l'altro ma esclamò la signora dopo un momento di riflessione il signor celsani ci penserà prima un par di volte ma cosa vuol che pensi don celsani ribatte la zibelli e certa di deporre il seme in buon terreno buttò là come alla sbadata alcune parole che quella raccolse e registrò nel più profondo della memoria don celsani è un ingenuo per lui una ragazza di trent'anni e una di quindici sono tutt'uno non conoscendo lui il mondo crede che non lo conosca nessuno scommetto che non sa neppure che prima di venire a torino maria è stata maestra in mezza dozzina di comuni e si misi a ridere si sa le avventure delle maestre nei villaggi di lei poi non parlato anche i giornali c'è perfino una storia di una compagnia di bersaglieri niente meno ci sono dei belli originali a questo mondo e trascinata dalla rabbia stava per dire di peggio quando sudì una forte scampanellata i ragazzi ammutolirono a un tratto la signora corse ad aprire e il maestro fassi entrò molto eccitato con la gazzetta di torino nella mano tornava allora da chieri dove andava due volte la settimana a dar lezione di ginnastica al liceo e alla scuola tecnica salutata appena la zibelli si voltò verso sua moglie mostrando il giornale stretto nel pugno ne vuoi sapere una nuova un asino d'un maestro di ballo che salta su con un articolo nella gazzetta di torino offeso con me perché nel lagone della settimana passata ho detto che il ballo è una diramazione della ginnastica ma sai che ci vuol tutta ma le ho fatto un onore che non merita all'arte delle pirulette te lo concerò io in un altro articolo hai da vedere in che maniera quello sgambettino presuntuoso e seguitò a declamare abbozzando l'articolo mentre faceva dei nastri per la stanza è tempo una volta di cantarla chiara a questi ignoranti loro non fanno una differenza al mondo tra un maestro di ginnastica e un acrobata di circo ma il maestro di ginnastica è un uomo di scienza signori egli deve conoscere la ginnastica teorica l'anatomia applicata la pedagogia l'igiene la storia della ginnastica la costruzione di attrezzi e palestre e la tecnologia e deve essere artista pezzi d'asini non sanno che ci vuol la vita ad un uomo soltanto per imparare e tenere a mente tutti gli esercizi che si potrebbero scrivere 100 volumi solamente sull'installazione degli attrezzi e poi vedete a che cosa deve ricorrere un maestro di ginnastica e cavò di tasca un foglio sul quale da un professore di matematica di chieri si era fatto cercare per mezzo di formule algebriche il numero dei cambiamenti di posizione nell'esercizio delle bacchette questa era la sua grande smania di renderla ginnastica quanto più possibile complessa e difficile non solo nel concetto altrui ma nel proprio non aveva come la pedani alcun ideale del bene dell'umanità adorava la sua scienza per le soddisfazioni che vi trovava e vi sperava il suo orgoglio oltre che a chieri insegnava al liceo e alla scuola tecnica di carmagnola a un ginnasio e a un liceo di torino agli artigianelli e alla società di ginnastica e dappertutto s'adoperava inculcare la sua idea la prima nazione del mondo aveva detto un grande uomo sarà quella che avrà più salute ossia quella che farà più ginnastica a questa scienza dunque soggiungeva lui dovevano convergere tutti gli sforzi dei grandi ingegni dei governi della società intera questa doveva essere messa in cima a tutte le scienze e la classe dei maestri di ginnastica diventare l'aristocrazia della nazione e intanto cercava la celebrità per tutte le vie covando molte diverse ambizioni delle quali era principalissima quella di inventare un attrezzo e di dargli il proprio nome e ricasco addosso al ballerino rimproverandogli di aver profanato a proposito del ballo il nome di ginnastica come lo profanavano le compagnie acrobatiche che s'appropriavano dell'aggettivo e si scagliò contro il governo che nonostante le istanze del secondo congresso della federazione sostinava a non voler proibire ai salti in banchi di vituperare la scienza già a tutto si sarebbe riparato adottando come gli aveva proposto la denominazione più nobile e più logica di istruzione fisica poi domandò bruscamente alla bohman che novità la moglie gli sciorinò la novità don celsani che voleva sposare la maestra pedani ma dicendo questo non vide affatto sul viso del marito l'espressione di gelosia che s'aspettava infatti egli non sentiva per la pedani che l'ammirazione ed un meccanico per una bella macchina e non aveva mai avuto alcun altro pensiero su di lei che quello di servirsene per i suoi fini ambiziosi quella notizia non di meno gli spiacque prevedendo che maritata essa gli sarebbe sfuggita di mano ed egli sarebbe rimasto senza stile ma non espresse questo pensiero pazzie disse invece una vera maestra di ginnastica non deve prender marito deve conservarsi come un soldato libera dell'anima e del corpo la maestra pedani deve consacrarsi tutta alla sua missione e la sua missione non è di far dei figlioli è di raddrizzare quelli degli altri non farà questa asineria io la persuaderò poi domandò di scatto ma come mai quel santificer ha avuto la faccia di innamorarsi di una così bella ragazza la signora fassi arrischiò qualche osservazione sulla bellezza trovava per esempio che don celsani aveva l'aria più distinta di lei e poi la pedani era una ragazza senza sentimento si vedeva anche la zi belli fece i suoi appunti aveva una bella vita ecco tutto del resto nessuna finezza di fattezze era troppo grossa mancava di grazia in casa urtava tutto aveva il passo d'un'elefantessa il maestro scrollò le spalle tutto questo non conta un'acca disse la pedani non è pane per i suoi denti lasciando stare che lui è un ciuchino e lei una ragazza di talento talento esclamò la moglie voltandosi verso la zi belli mio marito le corregge gli articoli la zi belli sapeva la verità su questa faccenda ma mostrò di credere sorridendo e disse con gravità non assintassi scrive assalti questo è vero osservò il maestro anzi per quel che riguarda il giornalismo sarebbe meglio che si contentasse d'una parte più modesta che la mettesse meno in vista c'è delle questioni nel campo della ginnastica che una donna non può e non deve affrontare ma insomma don celsani non la sposerà voi vedrete li metterò io una pulce in un orecchio so io come si fa abbassare la coda a questi chiericotti lo interruppe una scampanellata era la pedani che tornata dal club alpino dove non c'era stata conferenza veniva a prender l'amica entrò nella stanza e non si volle sedere era colorita di rosa dall'aria frizzante della sera ansava un poco dilatando le narici e sollevando il largo petto e tutta la sua persona spiccava in nero sulla parete bianca con tale arditezza e vigoria di contorni che la signora fassi dovette volger la parola ai ragazzi per rompere il silenzio ammirativo cagionato da quella vista ti vengo a prendere disse la la zibelli mettendo quattro r nell'ultima parola e chi l'avesse sentita senza vederla l'avrebbe creduta piuttosto un marito che un'amica la zibelli si mosse e scambiate altre poche parole coi padroni di casa uscirono tutte e due la pedani per ultima riempiendo per un momento con le sue belle spalle tutto il vano dell'uscio mezzo aperto tutto sommato disse il maestro fissando ancora l'uscio dopo che era uscita non si può dire che don celsani abbia gli occhi nel sedere e sua moglie soggiunse con un sorriso astuto non l'ha ancora sposata il segretario stette penosamente incerto tutto quel giorno e la mattina dopo se dovesse aspettare una risposta per iscritto oppure farsi coraggio e chiederla a voce finì col farsi coraggio e al tocco e tre quarti ora in cui sapeva che di domenica la maestra usciva sola per andare alla palestra si piantò dietro all'uscio di casa sua spiando per il buco della chiave quando ella fosse comparsa sul pianerottolo a vederlo in quell'atteggiamento si sarebbe preso per un uomo appostato per commettere un assassino tanto tutta la sua persona era agitata e la respirazione affannosa un rumore lo scosse egli cacciò fuori il capo ma lo ritrasse subito non era che il vecchio professor padalocchi chiuso nel suo gran cappotto impellicciato e tutto curvo che usciva tossendo per la sua solita passeggiata igienica ma un momento dopo egli sentì il passo della pedani dio grande l'occasione era perduta la maestra raggiunto sul pianerottolo il vecchio che le fece un grande saluto si soffermò e attaccò discorso con lui ogni parola della loro conversazione cadde come un peso enorme sul cuore del povero innamorato il signor padalocchi si lamentò d'un nuovo incomodo aveva la respirazione incompleta perché gli domandò la pedani non fa un po di ginnastica polmonare quelli sorrise e la insiste glielo dico sul serio non c'è niente di meglio per dilatare il petto provi a fare tutti i giorni appena levato delle ispirazioni ed ispirazioni lunghe e ripetute in questa maniera e le fece e il segretario ebbe un'ondata di sangue alla testa ne faccia dieci o venti da prima continuò la maestra e ne aggiunga tutti i giorni se può una decina le assicuro che a capo di due settimane si sentirà molto meglio è un esercizio di effetto immancabile io ne faccio ogni mattina a cento e trenta il professore parve persuaso e la ringraziò faccia la prova ripete la pedani e me ne riparlerà e poi le impresterò io un libro che contiene tutti i precetti arrivederla ciò detto affrettò il passo il segretario sperò di indovinare un barlume nell'animo di lei dal modo come avrebbe guardato l'uscio di casa sua passandovi davanti ma essa passò senza guardar l'uscio e questo lo sgomentò era non di meno ancora in tempo a raggiungerla sotto il portone non fosse altro che per interrogarla con gli occhi ma nell'atto di slanciarsi fuori si sentì gridare in viso dolce segretario dio grande era l'ingegner ginoni il quale veniva come tutti gli anni a pregare il padron di casa suo vecchio amico di scendere quella sera da lui per un piccolo trattamento di famiglia che soleva fare nel giorno natalizio dei suoi gemelli anche il secondo colpo era fallito non gli restava più che aspettare la sentenza dalla posta c'era poca gente quella sera in casa ginoni il professor padalocchi non aveva potuto venire la zi belli non aveva voluto il padron di casa non compariva nella sala da pranzo intorno a una gran tavola ovale coperta di fruttiere piene di dolci e di bottiglie di vini sardi e siciliani non c'era che la famiglia la maestra pedani e tre piccole amiche della figliuola con la loro nonna che stavano di casa sull'altra scala ma la gioventù che era la maggioranza della riunione le dava grazia e allegrezza formandovi una bella corona di teste bionde sotto alla luce calda ad una ricca lampada gas che indorava ogni cosa la bimba di cui la pedani era ancora maestra di ginnastica alla scuola margherita aveva 13 anni e pareva il ritratto del figliuolo più piccolo suo gemello alunno di terza ginnasiale il figliuolo maggiore alfredo di 21 anni studente di matematica all'università e velocipedista chiarissimo era un biondino ardito con due begli occhi maligni già disinvolto come un uomo rotto al mondo e si era messo a sedere così vicino alla maestra che questa aveva dovuto farsi un po indietro per non strisciarlo con la spalla e col fianco egli era l'idolo di sua madre che non aveva ancora 40 anni una ciuga elegante e indolente con un gran naso aristocratico benevola quando non l'urtavano nell'amor cieco che aveva per quel figliuolo il più simpatico della famiglia era l'ingegnere bell'uomo sulla cinquantina grigio ridente lavoratore gran parlatore gran celione amante della vita larga ma senza fumo marito e moglie avevano una simpatia cordiale per la pedani in parte per l'originalità rispettabile del suo carattere e più perché la loro bibba l'adorava e non dissentivano da lei che per un'avversione dichiarata alla ginnastica nata da che un loro nipote all'uno d'un collegio convitto di milano anni prima si era rotto un braccio cadendo dalle pertiche d'ascensione amici le soleva dire il ginoni incontrandola su per le scale ma fino alla soglia della palestra oppure abbasso la ginnastica e ogni volta che si trovavano insieme la stuzzicava facetamente su l'argomento e la conversazione cadde lì anche quella sera fra le altre cose per criticare il nuovo metodo di insegnamento l'ingegnere raccontava di aver visto l'anno prima eseguire i passi ritmici alle figlie dei militari dell'istituto di san domenico dove era andato per visitare i locali sì lo spettacolo gli era piaciuto quelle 150 ragazze grandi con quei bei vestiti neri e azzurri e con quei piccoli grembiali bianchi schierate in un vasto cortile che si muovevano tutte insieme al comando d'una maestra con dei movimenti graziosi di contraddanza facendo un fruscio cadenzato che pareva una musica di bisbigli tutte quelle belle braccia e quelle piccole mani per aria quelle grosse trecce saltellanti sulle nuche rose e sui torsi snelli quei 300 piedi arcati e sottili e la grazia indefinibile di quelle mosse così tra il ballo e il salto con quelle vesti lunghe che davan loro l'aspetto di un corpo di ballo pudibondo era senza dubbio nuovo e seducente ma dio mio quante parole metteva fuori quella maestra per farle muovere chiacchierava più lei di quello che esse muovessero erano dei comandi interminabili da generale di brigata una complicazione faticosa di coreografia e poi un movimento rattenuto e misurato a centimetri insufficiente per quei corpi fatti e pieni di vita una combinazione d'esercizi compassati cercati con la penna per servir di spettacolo a commissioni e a invitati a lui sarebbe venuto voglia di troncar la rappresentazione a metà e di sguinzagliarle tutte in un prato fiorito come una mandria di puledre ma la pedani su questo era d'accordo con lui essa era bomanista appunto perché il boman faceva guerra alla ginnastica coreografica e voleva per le ragazze una scuola più virile allora disse l'ingegnere per farla arrabbiare le dirò male del boman e io lo difenderò rispose la maestra si provi no disse lui sorridendo non lo farò sono abbastanza enciclopedico perché ora la ginnastica abbraccia tutte le scienze e citò un conferenziere della filotecnica che sere innanzi dovendo trattare della ginnastica aveva fatto prima una corsa sterminata attraverso alla filosofia all'etnologia all'antropologia e messo sotto sopra tutto lo scibile umano poi aveva finito coi manubri la ginnastica rispose tranquillamente la pedani a relazione con tutte le scienze e come no ribatte l'ingegnere anzi è la chiave di tutte ora dicono che un ragazzo che trova difficoltà a risolvere un problema non ha che da fare un quarto d'ora d'esercizio alle parallele poi si rimette a tavolino e tutto è fatto il signor ingegnere scherza disse la pedani alzando una spalla io non rispondo più non scherzo rispose il ginoni continuando a scherzare non si è anche detto che la ginnastica darà il gambetto alla medicina mi par che sia il maestro fassi che ha scritto che ci sono certi esercizi che equivalgono a certe ricette bel tipo quel maestro fassi è anche lui credo che trova delle trasformazioni meravigliose nella muscolatura dei suoi alunni dalla mattina del lunedì alla sera del sabato per esempio egli ha un ideale di società originalissimo la gente saltellante per le strade capre parallele in tutte le piazze la lotta obbligatoria in tutti gli uffici esercizi degli arti superiori nei salotti non dica più ingegnere disse la pedani perché mi rincresce davvero di sentire un uomo come lei mettere in ridicolo una cosa tanto seria come si fa a scherzare sulla ginnastica mentre abbiamo su 300.000 iscritti alla leva 80.000 riformati per inattitudine fisica mentre abbiamo i ginnasi pieni di giovanetti scoloriti che hanno petti e braccia di bambini e su dieci ragazze della miglior società non se ne trovano due senza qualche difetto di costituzione è un triste scherzo domando perdono rispose l'ingegnere io non combatto la ginnastica ginnastica io ce l'ho con questa nuova ginnastica scientifico letterario apostolico teatrale che hanno inventata per dar delle feste e degli spettacoli per fabbricare dei grandi uomini e moltiplicare i congressi e per menare la lingua e la penna mille volte più che non le braccia e le gambe non è mica questa credo la ginnastica che difende la signorina non la difendo rispose questa perché non esiste perché non è altro che un'invenzione di lor signori io non conosco altro che una ginnastica ragionata fondata sulla conoscenza dell'anatomia della fisiologia e dell'igiene che dà l'infanzia la forza l'agilità la grazia la salute il buon umore e rialza tutte le facoltà morali e intellettuali io credo a questi effetti perché sono provati e li vedo credo quindi che la ginnastica sia la più utile la più santa delle istituzioni educative della gioventù e quelli che la combattono mi scusi mi fanno pena mi paiono gente accecata nemici incoscienti dell'umanità l'ingegnere rise un poco del leggero tono declamatorio delle ultime parole no signorina disse poi sono nemico di chi senza consultare il medico come si dovrebbe far sempre e non si fa mai metti a far ginnastica dei ragazzi che hanno delle infermità e dei difetti e che si fanno del male mi comprende sono anche nemico di chi fa nascere fra i robusti e i deboli delle gare d'amor proprio che ai deboli costano delle rotture di collo nemico di chi riduce la ginnastica che dovrebbe essere un sollievo dello spirito a un artificio teorico che occupa e affatica la mente come un altro studio qualunque e questo è quello che succede e sono anche nemico delle esagerazioni credo che i buoni effetti che non sono innegabili della ginnastica si esagerino iperbolicamente ingannando il mondo mi permetta di assicurarle per esempio che nessun esercizio e nessun attrezzo avrebbe mai dato a lei la fiorente salute e la conformazione che ella si può vedere nell'armadio a specchio il figliolo maggiore approvò facendo l'atto di batter le mani negli occhi della pedani passò il lampo d'un sorriso ma si rifece subito seria sempre così rispose io dico delle ragioni lei degli scherzi non le dico più che una cosa la germania e l'inghilterra che sono le due prime nazioni d'europa sono quelle che fanno più ginnastica il popolo greco che fu il primo dell'antichità era il popolo più ginnastico del mondo esso giunse con un sorriso lei lo sa aristodemo perché gli abitanti di kuma che gli aveva soggettati non potessero più ribellarsi alla sua tirannia proibì loro di far la ginnastica l'avrà fatto per amicarseli rispose l'ingegnere la maestra tacque un momento poi disse con vivacità per fortuna non la pensano tutti come lei lei non conosce il nostro mondo l'idea si fa strada da ogni parte anche in italia lo sa lei che abbiamo delle centinaia di società di ginnastica che ci sono dei signori appassionati che profondano il loro patrimonio per fondare palestre che c'è un gran numero di giovani medici che consacrano alla ginnastica tutti i loro studi e delle centinaia di maestri che imparano apposta le lingue straniere per studiar la letteratura ginnastica universale la quale conta migliaia di volumi scritti da scienziati eminenti l'ingegnere fece un gesto vago senza rispondere perché era occupato da qualche momento a far dei cenni col capo al suo figliolo maggiore il quale si avvicinava tanto alla maestra e la bruciava con gli occhi in un modo che era una vera indecenza abbasso bohman disse infine per dire qualche cosa ma quando le toccavano il bohman la pedani non ammetteva celie salto su il bohman era benemerito del paese era il fondatore di una nuova ginnastica che avrebbe dato immensi frutti un grande ingegno un grandotto un creatore di caratteri essa l'aveva conosciuto al congresso era una figura di uomo predestinato a grandi cose vicino alla sessantina pareva un giovane aveva una fronte superba il gesto fulmineo la parola scultoria un eloquenza dominatrice di soldato ed apostolo il bohman dati gli i mezzi avrebbe rifatto una nazione non fosse altro che per la riforma che voleva fare della ginnastica femminile le donne d'italia gli avrebbero dovuto innalzare una statua l'ingegnere fece insieme una piruetta e un frullo con una mano la signora ginoni prese allora la parola con la sua voce indolente eppure cara maestra la ginnastica per le ragazze ha anche i suoi inconvenienti i maestri di ballo osservano che toglie la grazia e abitua a movimenti scomposti così i maestri di pianoforte dicono che quando tornano dalla palestra le signorine non sanno più suonare anche i professori di disegno si lamentano è la gelosia di mestiere rispose la maestra lo creda signora è impossibile che faccia danno al ballo o a qualunque arte l'esercizio ginnico perché per effetto appunto di questo esercizio la sinovia si versa più abbondante nelle articolazioni mobili delle ossa e rende tutti i movimenti più facili e più liberi vede anche il suo figliolo mi dà ragione a proposito soggiunse voltandosi verso lo studente debbo ringraziarla del suo bel regalo il giovane diede un senso ma non arrossì per niente ci voleva altro però avrebbe preferito il silenzio e con molta disinvoltura disse a sua madre che aveva mandato alla maestra supponendo che le dovesse piacere il piano d'un ginnasio greco copiato da lui in biblioteca la signora sorrise a fior di labbra e disse alla pedani domenica scorsa alfredo ha vinto il premio di una bandiera alle corse dei velocipedi la pedani si fece raccontare essa si occupava con curiosità di quelle gare conosceva i nomi dei vincitori soliti andava qualche volta alla pista e benché non fosse mai montata sopra un velocipede discorreva di bicicli di tricicli e di biciclette con piena cognizione della materia ma questa volta raccontandole le vicende della sua corsa nella quale egli aveva a cavallerescamente aspettato che si rialzasse il suo competitore caduto il giovane le si strinse addosso in un modo civettando col capo e con gli occhi che suo padre non poté fare a meno di fargli un cenno severo che egli non vide vede dunque disse la maestra l'ingegnere facendosi un po indietro con la seggiola anche il suo studente è con noi siamo dunque in maggioranza per la ginnastica in questa casa il fassi io e la mia amica il signor padalocchi che fa ginnastica a polmonare e suo figlio il commendator celzani al nome di celzani l'ingegnere diede una risata quanto al commendator celzani disse lo lasci stare come domandò la pedani non va forse a tutti i saggi di ginnastica che si danno dal primo all'ultimo alla palestra a scuole a istituti la sua approvazione vuol dire molto non mi potrà negare la serietà del commendator celzani io non la nego tutt'altro rispose il ginoni con brio tanto più che mio buon amico anzi dico che è una delle più venerande canizie di torino soltanto e qui guardò furtivamente le bimbe grattandosi il mento come se cercasse un modo di spiegarsi senza farsi capire da loro ma le bimbe occupate a spartirsi i confetti non gli badavano soltanto riprese il suo culto per la ginnastica è troppo parziale veda un po se gli si cura più che tanto della ginnastica maschile e poi da troppa più importanza alla seconda età che alla prima però è ammirabile la puntualità con cui va a quegli spettacoli e l'attenzione che vi presta egli ci trova proprio degli alti godimenti intellettuali e ne esce tutto grave coi suoi dolci occhi azzurri socchiusi immerso in profondi pensieri se si potessero scrivere io lo conosco e non è il solo egli è un tipo la ginnastica femminile è stata un ritrovato impareggiabile per questi signori una vera consolazione della loro vecchiaia una sorgente di delicatissime delizie cerebrali di cui noi profani possiamo farci appena una lontanissima idea il commendatore celsani non ha a che vedere con la ginnastica scientifica lo creda a me citi delle altre autorità signorina un giorno citerò lei rispose la maestra per tagliare quel discorso perché io la persuaderò e lei si farà iscrivere alla palestra tutti risero jamais de la vie esclamò l'ingegnere o se andrò alla palestra non sarà che per vedere lei alle parallele e n'avrà da vedere rispose la ragazza sa che solamente alle parallele ci sono 500 movimenti l'ingegnere stava per rispondere con uno scherzo un po fuori di luogo quando sonò il campanello e un momento dopo entrò il segretario fu un colpo di scena veniva a portare le scuse dello zio che non poteva uscire di casa a causa d'un raffreddore entrato senza pensare che potesse esser lì la maestra al vederla ebbe come il senso d'una forte scossa elettrica e per quanto grande fosse il timore di farsi scorgere egli non poté vincere sul primo momento il violento bisogno di cercare sul viso di lei l'impressione della sua lettera e la fissò dilatando smisuratamente i suoi piccoli occhi e facendo una faccia stranissima tremante in tutti i muscoli e accesa ad un vivo rossore a cui succedette una pallidezza di coleroso quella faccia rivelò in un lampo ogni cosa al signor ginoni il quale guardò subito la maestra che si lasciò sfuggire un sorriso indefinibile non espresso dalla bocca né dagli occhi ma quasi diffuso sul viso immobile come il riflesso esteriore d'un'immagine comica il segretario fece la sua ambasciata muovendo a stento le grosse labbra come se fossero appiccicate con la colla to to disse intanto fra sé l'ingegnere assaporando la sua scoperta e porta al segretario una seggiola su cui egli sedette come sopra un mucchio di spine gli offerse un bicchiere di malvasia che gli prese e si tenne sul petto con un atteggiamento pretesco e sul momento il signor ginoni concepì e cominciò a porre in atto un disegno di faccetta persecuzione giusto segretario amato gli disse lei è caduto nel bel mezzo d'una discussione di ginnastica si discuteva con la signora maestra ci deve dire anche lei che scuola appartiene è della scuola del boma è della scuola che altra scuola c'è signorina pedani oberman è della scuola dell'oberman quali sono le sue idee intorno agli effetti della ginnastica sulle funzioni del cuore la maestra alzò gli occhi al soffitto il segretario atterrito si levò in fretta il bicchiere dalla bocca e guardò l'ingegnere poi trangugiò il vino ad un sorso e rispose alzandosi confuso signor ingegnere vuole scherzare mi rincresce di non potermi trattenere debbo risalir subito dal commendatore oh no signore disse il ginoni non le permetto di scappare in questa maniera d'altra parte non può andarsene ora perché il portone di casa rimanendo aperto fino alle 11 non si sa mai chi possa incontrare per le scale e lei da buon cavaliere da cortese segretario è in dovere di accompagnare fino all'uscio la signorina pedani il segretario risedette subito ma lo studente fece un atto di dispetto poiché sperava ad essere lui l'accompagnatore io non ho paura di nessuno disse con voce virile la maestra non basta rispose ginoni non aver paura bisogna farla agli altri e lei non è nel caso lo studente sviò la conversazione interrogando la pedani sulle grandi feste che erano state annunziate per il congresso ginnastico di francoforte ed essa gli diede dei raguali dovevano essere le più belle feste che si fossero mai celebrate in germania vi sarebbero intervenuti i rappresentanti di tutti i paesi d'europa fra i quali molti dell'italia essa invidiava quei fortunati suoi colleghi che avrebbero visto quello spettacolo unico al mondo e fatto conoscenza dei più illustri gennasiarchi degli stati tedeschi il kloss il nigerlerg il danneberg il famoso padre della ginnastica jean den taver e tanti altri mentre lei purtroppo non avrebbe nemmeno potuto procurarsi i loro ritratti mentre essa parlava il segretario la dardeggiava con occhiate di fuoco geloso a morte dell'apparente familiarità con cui si intratteneva col giovane e sconsolato ad un tempo di veder tutti i suoi pensieri e sentimenti volti alla ginnastica con tanto ardore da non lasciar luogo a sperare che le potesse carpire un'altra passione nel cuore luccicava ciò nonostante nei suoi piccoli occhi un barlume di speranza l'aspettazione trepidante e impaziente insieme del momento d'andarsene per accompagnarla balzò dalla seggiola quando vide la pedani alzarsi per uscire ma l'ingegnere fu feroce una che ci penso disse mentre tutti s'alzavano il signor segretario è così timido con le signore che è capace di lasciare la maestra al secondo piano la accompagnerò anch'io dio grande quella fu per don celsani come uno schiaffo d'una mano di ghiaccio ma non osò rifiutare e mentre tutti si salutavano e lo studente stringeva la mano alla maestra egli osservò un moto sfuggevole sul viso di lei come se quelli li avesse dato una stretta troppo forte e fu per il povero uomo un secondo schiaffo uscirono tutti e tre e salirono lentamente per le scale quasi oscure l'ingegnere seguitò a dire barzellette e il segretario con suo gran dolore non trovò una parola da dire andò su a fatica soffermandosi quando il ginoni e la maestra si soffermavano e restando un po indietro ogni tanto per divorare con gli occhi quella bella persona e quasi per cavare una risposta dalle sue forme o per pugnalare con lo sguardo la schiena del suo aguzzino quando furono davanti all'uscio dove non arrivava la luce del gas l'ingegnere accese un fiammifero la maestra tirò il campanello il segretario stette pronto per cogliere e interpretare lo sguardo del saluto e infatti rientrando essa lo guardò ma oimè lo sguardo non disse nulla e nel punto stesso che si spegneva il fiammifero si spense la sua speranza l'ingegnere indovinò dal suo silenzio la tristezza di una delusione e fatto più libero dall'oscurità gli disse a bruciapelo segretario caro lei è innamorato della maestra il segretario scattò negò si stizzì si mostrò meravigliato e offeso di quello scherzo e perché mai domandò il ginoni tra il serio e il faceto sarebbe forse un disonore quando fosse è una bella e onesta ragazza e originalissima non della solita stampa perché non mi dice la verità sono suo buon amico e le potrei dare dei buoni consigli sono un gentil uomo e rispetto gli affetti don celsani stette un po in silenzio nel buio poi rispose con voce commossa ebbene è vero alla buon ora disse l'ingegnere e viva la sincerità intanto lei ha avuto una delusione si capisce ma non si scoraggi io conosco le donne conosco il carattere della maestra è una di quelle mine che hanno la miccia lunga e nascosta che brucia per un pezzo senza darne segno ma poi scoppiano tutta un tratto quando meno uno se l'aspetta abbia una costanza di ferro e una pazienza da santo e un giorno perché lei fa la corte pur le bon motif non è vero mi stupisco rispose don celsani io ho delle intenzioni oneste ma è quello che voglio dire disse l'ingegnere rimesso al faceto da quel malinteso ebbene senta un consiglio le donne come quella non vanno prese da salto diretto bisogna girarvi attorno essa ha una passione la ginnastica ebbene conviene pigliarla pel manico di quella passione lei deve farsi socio alla palestra esercitarsi studiar la materia nei libri parlargliene entrarle in grazia in questa maniera questo è il primo consiglio che le do poi ne verranno degli altri per ora agli attrezzi e coraggio don celsani incerto se quelli parlasse da senno o per burla non rispose intanto erano arrivati all'uscio del commendatore buonanotte disse l'ingegnere sono galantuomo metterò il segreto il segretario gli rispose buonanotte fioco e diffidente e rientrò pentitissimo di aver parlato pentito e scorato gli balenò ancora una speranza quando entrò nella sua camera nell'atto che accendeva la candela sul comodino chissà forse essa gli aveva scritto quel giorno e la lettera sarebbe arrivata la mattina dopo poteva ben presagire che lettera purtroppo ma qualunque fosse gli sarebbe parsa meno dura di quella indifferenza muta che lo schiacciava con questo pensiero si svestì tendendo l'orecchio poiché la sua camera era sotto a quella della pedani e non essendoci che un solaio leggero egli sentiva tutti i più piccoli rumori ma subito non sentì nulla essa doveva essere al tavolino a studiare gli venne un sospetto allora e con questo una nuova speranza aveva forse fatto male a non esprimere nettamente nella sua dichiarazione il proposito del matrimonio lei aveva forse creduto che egli non le chiedesse che una corrispondenza d'amore a quale errore aveva commesso eppure la lettera gli pareva così chiara dio grande quant'era bella non l'aveva mai vista bene come quella sera seduta col busto eretto come un'imperatrice sul trono con quell'ampio petto fremente di vita sul quale egli avrebbe rotolato il capo a costo di bruciarselo come in un bracere la luce della grande lampada dava alla sua carnagione un tale splendore di gioventù da far pensare che si dovesse ringiovanir d'un anno a ogni bacio che vi si stampasse egli aveva osservato sulla tavola la sua mano un po' ingrossata dagli esercizi ginici ma lunga e bella piena di forza e di grazia e vi si sarebbe gettato su come un avvoltoio sopra una tortora ah no certo egli non le piaceva doveva essere una ben altra forma d'uomo l'ideale di lei eppure si sentiva dentro la piena della passione che colma tutti i vuoti che eguaglia tutte le differenze e sfida ogni paragone il cervello gli bruciava come una girandola accesa al primo rumore che sentì di sopra balzò a sedere sul letto e fissò gli occhi infiammati al soffitto trattenendo il respiro mai quei rumori gli avevano agitato il sangue come quella sera egli li conosceva tutti e seguitava con essi tutti i movimenti di lei rimuove la seggiola gira per la camera buttando i panni qua e là apre e chiude l'armadio mette il candeliere sul tavolino da notte lascia cadere uno stivaletto un altro miseria della vita era proprio quello il momento in cui il povero don celzani sentiva più forte il rancore contro la natura che pareva lo avesse scolpito apposta per il ministero ecclesiastico e avrebbe dato vent'anni di vita per cambiare viso ma poi poco a poco col prolungarsi della veglia l'esasperazione dei desideri si stancava e si raddolciva in un sentimento di tristezza affettuosa ed umile durante il quale abbandonando la persona adorata egli si contentava con la fantasia degli oggetti di lei che aveva sentiti cadere a uno a uno e gli pareva che gli sarebbe bastato di avere quelli di palparli baciarli addentarli per uno sfogo e quasi non dormì quella notte e si svegliò prima dell'alba per aspettare il rumore solito che gli soleva ridestare tutta la violenza dei desideri acquietati dalla stanchezza e infatti allora precisa in cui la pedani soleva saltar giù egli sentì il tonfo dei piedi nudi sull'impiantito che lo scosse tutto sentì il fruscio usato che la faceva per vestirsi poi il rumor sordo dei manubri tirati di sotto al letto poiché ogni giorno appena levata faceva un po di esercizio e quell'ultima immagine di quelle braccia gagliarde che scattava nell'aria sopra il suo capo gli diede finalmente l'impulso a una risoluzione ardita voleva abbreviare il martirio dell'incertezza aspettarla all'uscita delle otto e mezzo e domandarle una risposta e per sua fortuna essa scese sola gli andò incontro la salutò e le domandò con voce tremante non ha nulla da dirmi la maestra rispose tranquilla sì una cosa sola ho da ringraziarla dei suoi buoni sentimenti null'altro no signor segretario rispose essa con garbo null'altro e discese allora incominciò per lui una sequela di giorni tristissimi il matrimonio ma capiva che il farlo subito dopo quello smacco senza prepararsi il terreno sarebbe stata una follia e intanto gli piovvero dispiaceri su dispiaceri il primo fu che la maestra zibelli di punto in bianco gli tolse il saluto è afflitto meno se avesse saputo che essa era entrata allora in una delle sue fasi in cui delusa dal mondo si chiudeva tutta in una specie d'entusiasmo forzato per il suo lavoro di maestra leggendo libri di scuola anche per la strada per non vedere la gioventù e l'amore che le passavano d'accanto pedantemente zelante nei suoi doveri rigida con le alunne coi parenti con le colleghe col mondo intero ma don celsani che non sapeva questo e ignorava la vera cagione del suo sgarbo buono e gentile com'era con tutti non supponendo in lei che un moto improvviso di antipatia ne fu punto nel più vivo del cuore poi trovò strana la condotta del maestro fassi costui incontrandolo per la scala gli mostrò le bozze d'un articolo intitolato berlino spende mezzo milione all'anno per la ginnastica nel quale faceva un confronto con l'italia intera che spendeva la metà e poi voltando bruscamente il discorso sulla pedani gran bel pezzo di donna esclamò quella sarebbe degna di sposare il più bell'uomo d'italia scommetto che lei non regge con le braccia tese i due manubri che quella tiene con una mano sola chi avrà da sposarla farà bene a far prima i suoi conti che discorsi erano quelli egli non si sentiva offeso dal paragone delle forze il suo solo pensiero era la disparità della bellezza per il resto aveva la coscienza tranquilla ma lo inquietava il sospetto che il maestro conoscesse le sue intenzioni un altro giorno gli ritoccò quel medesimo tasto ho lasciato sulla pedani che sta studiando una nuova combinazione col bastone jagger per le ragazze è tutta dedita allo studio lei non ha distrazioni amorose anche perché non trova chi le convenga forse già anche nell'amore similia cum similibus lei che sa il latino ma dove pescare chi le faccia il paio essa disprezza gli uomini di mezza tacca e se avrà la sbadataggine di legarsi a uno di questi povero lui e guardò fisso il segretario ma anche questa volta egli si turbò per il timore che il maestro gli leggesse nell'animo non per le parole che gli disse le quali al contrario acquivano tutti i suoi desideri e le rimasticava poi quasi con un senso di volutà ci fu di peggio però due o tre volte mentre seguiva la pedani giù per le scale egli vide uscire sul pianerottolo lo studente ginoni con un viso su cui si leggeva il proposito d'un assalto e ogni volta nel vedere lui aveva un attimo di stizza e rientrava in casa una mattina lo vide che pedinava alla lontana la maestra in via san francesco d'assisi e ne ebbe un vero dolore la gioventù la grazia e la sfacciataggine di quel biondino gli mettevano lo sgomento nell'anima e prese a vigilarlo ogni giorno ma il dispiacere più grave l'ebbe dalla moglie del maestro fassi costei lo cercava da vari giorni lo incontrò una sera sotto il portone e lo fermò come va il signor fassi domandò lui con la sua voce piagnucolosa come uscente da un petto oppresso dal peso delle appendici essa rispose glorificando secondo il solito le grandi occupazioni di suo marito su che lavora che fa un confronto fra gli stipendi dei maestri di ginnastica della svezia e quelli dell'italia perché è una vergogna che deve finire dice che con gli studi che ci vogliono i maestri di ginnastica sono pagati come impiegatucci e nemmeno il titolo di professori che hanno tutti quelli che insegnano a scarabocchiare quando ci penso col suo ingegno e con la sua presenza che altra carriera avrebbe potuto fare perché lei non ha un'idea degli studi di quell'uomo ma è ancora che è disturbato in tutte le maniere da faccende e da visite c'è quella maestra pedani che ogni momento è lì a domandare aiuti e consigli mi dica lei una ragazza giovane con un uomo ancora nel fiore se è decente quella libertà e vedendo che ci sono io si figuri se non ci fossi vada a giudicar le ragazze dall'aria che si danno quella parrebbe la dignità in persona già una signorina che in piena scuola come fece l'anno passato al corso d'anatomia col pretesto di non aver inteso salsa per domandare al professore signor professore dov'è il nervo della simpatia è giudicata e visto con un rapido sguardo l'effetto che produceva in don celsani tiro avanti con l'aria di dire delle cose che non lo riguardassero del resto ci sarebbe ben altro da dire queste maestre giovani che prima di venire a torino hanno girato per mezza dozzina di comuni si sa le avventure delle maestre nei villaggi c'è una certa storia di una compagnia di bersaglieri che ha fatto del chiasso quello che mi stupisce che l'abbiano accettata a torino ma certo è che in città la conoscono e che è iscritta sul libro nero basta il mio parere è che non andrà molto tempo che ne vedremo o ne sapremo delle belle dopo di questo disse male di altri vicini ma il segretario non udì altro e benché diffidasse della sua lingua quando quella lo lasciò rimase tutto sconvolto l'idea di un brutto passato di quella ragazza gli dava un'amarezza indicibile una gelosia feroce una tortura che lo straziava quella compagnia di bersaglieri soprattutto lo incalzò con le baionette ai fianchi per una settimana e soffriva di più perché da vari giorni non gli riusciva di vederla e smanioso di sapere di liberarsi da quell'orribile dubbio non vedeva a chi si potesse rivolgere non sapeva da che parte battere il capo una mattina finalmente la incontrò e una gran parte dei suoi sospetti svanì al primo vederla no dio grande non era possibile tutta quanta la sua persona dalla fronte ai piedi smentiva la calugna tutto quel bel corpo spirava l'alterezza d'una verginità vigorosa uscita intatta e trionfante da ogni battaglia come un'armatura fatata ma un'ora dopo i sospetti rinacquero e lo riprese l'affanno di prima ma intervenne un fatto in quei giorni che lo spinse a una risoluzione improvvisa incontrato una mattina il maestro fassi questi gli disse bruscamente come continuando un discorso avviato quella pedani che spartana ho visto dal mio camerino alla una povera diavola che va a imparare i passi ritmici e lei le fa lezione con tanto di finestra spalancata con questa grazia di temperatura è una sua idea fissa che bisogna far la ginnastica all'aria viva il segretario fece tra sé un ragionamento rapidissimo se dal camerino del maestro si vedeva nella camera della pedani tanto meglio vi si doveva vedere dall'abbaino del soppalco posto sopra alla finestra del camerino appena fu solo rientrò in fretta in casa prese la chiave del soppalco salì a lunghi passi le scale aprì l'uscio s'avanzò curvo sotto alle travi basse del tetto in mezzo alla legna ai rottami di mobili ai mucchi di fornelle andò fino all'abbaino s'arrampicò e si distese quant'era lungo sopra una catasta di fascinotti sporse il viso nel vuoto ed emise un'esclamazione di piacere la finestra della camera che restava nell'altro muro della casa era spalancata la pedani stava col fianco verso la finestra volta di fronte all'alunna che non si vedeva la sua voce sonora di contralto arrivava distintissima fin sul tetto ma no diceva in questo modo lei non mi fa il mezzo passo semplice saltellando mi fa un lungo passo saltellato non ci intendiamo lo rifaccia il segretario sentì il passo della luna invisibile no ripete la maestra è ancora troppo esagerato la bella voce profonda calda vibrante che avrebbe fatto immaginare un corpo ammirabile anche a chi l'avesse intesa occhi chiusi la pedani parve scontenta anche della seconda prova perché scrollò il capo con vigore e afferrata impazientemente con le due mani la gonnella nera per scoprire il movimento dei piedi sti attenta disse ed esegui dio grande gemme il segretario egli vide balenare sopra i suoi stivaletti una bianchezza che la bagliò come un raggio di sole e gettatoli negli occhi da uno specchio e il sangue gli diede un giro come se l'avessero capovolto fu un momento solo ma bastò egli non sentì più gli altri comandi saltò giù dai fascinotti si scosse di dosso con le mani tremanti le foglie secche e i fuscelli e sempre con quella visione biancheggiante negli occhi riattraversò quasi correndo il soppalco scese le scale a passi risoluti e rientrato in camera e sedutosi a tavolino si prese il capo fra le mani e raccolse i suoi pensieri aveva irrevocabilmente deciso di tentare il colpo supremo con una aperta ed esplicita domanda di matrimonio se non che egli aveva un dovere a cui sentiva di non poter mancare quello di rivolgersi prima allo zio per chiedere la sua approvazione e i suoi consigli anche per questa ragione che la domanda fatta col suo contesto e forse da lui stesso in persona avrebbe avuto tutt'altra efficacia la passione lo accecava a tal punto in quel momento che il consenso di lui non gli si presentava nemmeno più come dubbioso alla peggio egli non avrebbe detto un no risoluto avrebbe titubato ci avrebbe pensato gli avrebbe insomma dato una speranza che poi non avrebbe più avuto il cuore di toglierli preparò dunque il suo discorso e quando ne ebbe bene in mente il primo periodo e l'orditura generale in aspetto grave con una mano nell'altra strette sul petto si recò nella stanza del commendatore gli sedette davanti e chiesto il permesso di parlare lentamente con la voce tremolante fissando gli occhi sulle ginocchia di lui gli spiattellò il suo segreto il commendatore celsani era un uomo che non si stupiva di nulla perché dava pochissima importanza alle cose di questo mondo ma quando sentì di che cosa si trattava non poté fare a meno di alzare dalla poltrona alla maestosa testa bianca per guardare negli occhi il nipote poi si riabbassò sulla spalliera rimvoltandosi nella veste da camera e stette a sentire il resto con lo sguardo errante sulle pitture a fresco della volta il segretario aveva avuto la fortuna di coglierlo in un momento di ottima disposizione d'animo perché doveva andare quel giorno con un ispettore di milano a vedere un saggio di ginnastica femminile all'istituto del soccorso d'altra parte rapito come era quasi sempre nelle delizie d'un mondo fantastico nel quale era impaziente di rientrare ogni volta che era forzato ad uscirne egli non contraddiceva mai nessuno e riservandosi a non far nulla poi o tutto il contrario di ciò che gli altri aspettavano non rifiutava mai né un consenso né una promessa quando suo nipote ebbe finito si guardò prima le unghie nitidissime e poi le pantofole ricamate e mormorò qualche parola vaga che non era un consenso esplicito ma nemmeno una disapprovazione voleva dire soltanto che si doveva procedere con cautela senza dubbio la signorina ispirava simpatia e aveva tutto l'aspetto e il contegno di una persona degna di stima ma e questa era la meta del suo giro di frasi prima di fare un passo egli credeva conveniente di procedere alla ricerca di altre informazioni e mentre il nipote lo guardava con aria interrogativa ed inquieta egli masticando le parole e guardando per aria buttò là il consiglio di ricorrere al suo amico cavalier pruzzi direttore generale delle scuole municipali il quale certamente poteva dare dei raguagli minuti e sicuri intorno a qualunque soggetto del personale insegnante e il consiglio parve eccellente a don celsani il commendatore contò sulle dita e gli fissò il sabato successivo come il giorno più opportuno gli sarebbe bastato per presentarsi un suo biglietto di visita il cavalier pruzzi era un uomo del quale si poteva essere certi che qualunque l'insultato avesse avuto l'affare avrebbe mantenuto il segreto con la delicatezza più scropolosa detto questo come se si fosse trattato d'una cosa di secondaria importanza passò a un altro discorso la grande contentezza che ebbe don celsani di quel mezzo consenso fu profondamente amareggiata nei giorni seguenti dal ridestarsi dei tristi sospetti che gli aveva messo in cuore la signora fassi i quali ingrandirono man mano e si fecero così terribili nella sua immaginazione che il giorno fissato egli salì le scale interminabili del palazzo di città con l'animo di un malato che va dal medico a udire la sua sentenza di morte oltre che sebbene conoscesse il cavalier pruzzi come un buonissimo uomo e fosse conosciuto da lui li ripugnava di dovergli confessare la sua passione e i suoi propositi poiché non avrebbe potuto senza confessarli rivolgergli le domande delicate che erano necessarie entrò timidamente nel modesto ufficio del direttore che era una piccola stanza rischiarata da una finestra sola con degli scaffali in giro su cui si vedevano scritti in grandi caratteri i nomi di tutte le scuole di torino il direttore stava coi gomiti sul tavolo e le mani nella parrucca curvo sopra un mucchio di carte al vederlo così piccolo e grasso con quella buona faccia in berbe e floscia sulla quale errava perpetuamente il pensiero inquieto della sua enorme responsabilità il segretario riprese un po' d'animo quelli lo ricevette con un viso pieno di rughe sorridenti somigliante a una maschera di terracotta che si screpolasse e lo fece sedere davanti a sé prese il biglietto dello zio e lo invitò a parlare il segretario fu un po' stupito esponendogli a parole tentate e confuse lo scopo della sua visita di non vedergli dare il più piccolo segno di meraviglia egli non fece che dondolare il capo e atteggiare il viso a quella espressione particolare di serietà che vuol dire signore in questo momento entro in carica quando don Celsani ebbe finito si passò una mano sul ciuffetto della parrucca e disse gravemente la cosa è delicata poi domandò nome e cognome della maestra e a quale sezione appartenesse inteso tutto si mise le due mani sugli occhi e stette un po' raccolto in quel modo come ricercando i connotati fisici e morali della signorina in mezzo a quel piccolo esercito femminile che egli portava quasi effigiato viso per viso nella sua memoria lucidissima. Eh diamine esclamò a un tratto scoprendo il viso stupito di non aver ritrovato subito una figura così originale e squadrò con uno sguardo lento il segretario come per raffrontare la sua persona con quella di lei. Poi si grattò leggermente la punta del naso con la punta dell'indice e disse inchinando un po' il capo mi rallegro ma troppo tardi. Don Celsani aveva capito il risultato del raffronto peraltro non ne fu colpito e stette aspettando con ansietà. Dunque cominciò a dire col fiato corto il direttore prendendo sul tavolino un foglietto di carta che si mise poi a piegare e a ripiegare senza guardare il segretario. Lei vorrebbe delle informazioni come è naturale di ordine come suol dirsi privato ma non è così facile da dargliene come lei suppone. Pensi un po' con 500 insegnanti come si fa a sapere e poi un monte di cose per la testa di sopraccapi di noie. Giusto abbiamo un inverno dei più disgraziati un visibilio d'assenza in tutte le sezioni. Si direbbe che tutte le maestre maritate si sono date la parola per accrescere la popolazione in questo mese. Queste benedette famiglie di insegnanti. Quando è malata la maestra manca anche il maestro. Quando è malato il marito manca la moglie. Quando è malato il bimbo mancano tutti e due. Non parliamo delle signorine che si raffreddano per un filo d'aria e poi ci sono gli impedimenti a data fissa. Guardi qui la sezione Savoia e mostrò uno stato delle assenze. È un ospedale. Come vuol fare? Mandar sempre il medico di città a accertarsi a domicilio? Apriti cielo. Oltre che non è sempre conveniente. Ci dovrebbe essere l'ammenda per ogni assenza abusiva. Ma come si fa? O ci sono dei dubbi o si ascolta il cuore o si... Le assicuro caro signor Celsani che è un affare serio, serio, serio assai. E qui mise fuori un anelito come dopo una corsa. Il segretario fece un atto rispettoso per richiamare il direttore all'argomento. Ah, disse questi, lei è qui per le informazioni. Appunto, come ne dicevo, si figuri il da fare che c'è a vigilare delle centinaia di signorine, la più parte delle quali sono giovani, molte anche troppo belline, vivaci, moltissimo indipendenti, sparpagliate per una grande città nei soborghi a due a tre miglia fuori dalla mura. Si fa il possibile, certo, come vuole il decoro. Ma insomma, non possiamo avere un corpo di polizia per i corteggiatori delle maestre e neppure si possono violare i confini d'una libertà ragionevole. È una cosa delicatissima. E non può immaginare le denunce, le vendette coperte, gli intrighi. Riceviamo dei mucchi di lettere anonime. E qui gli mancò il fiato un momento. Ci sono delle personcine che ci fanno disperare, anche senza loro colpa, per colpa di madre natura, che le ha fatte come sono, che attirano gli occhi. E non dico del resto, dei lamenti senza fine che ci piovono dalle famiglie per una votazione ingiusta, per un rimprovero non meritato, per la scuola troppo fredda o troppo calda, per le tossi, per gli orecchioni, per le malattie degli occhi. E poi il signore offese per una parola, maestre che si credono perseguitate, direttrici, queste benedette direttrici, che sono come le madri badesse dei tempi andati. E aggiunga un ginepraio di questioni per ogni esame di concorso, per ogni trasferimento, per ogni distinzione, per ogni castigo. Immagini le difficoltà, mio caro signore, immagini la delicatezza, immagini il tatto che ci vuole. E fece appunto un sospirone. Signor cavaliere, osservò timidamente il segretario, le informazioni. Vengo alle informazioni, riprese il direttore. Certo, sarebbe molto più facile dare informazioni ad un maestro. In questo caso non si tratta che di dire è un galantuomo o no, è monarchico o è repubblicano, ha o non ha debiti, beve o non beve. Io li ho tutti in mente, domandi pure. Ma come si fa per le maestre? Come si fa? È una cosa complessa, è un argomento spinoso. Oltre che, anche sapendo, bisogna andare guardinghi. Hanno dei padri, hanno dei fratelli, hanno delle relazioni. Alle volte uno ha compiuto un atto di giustizia e due giorni dopo trova a una cantonata uno sconosciuto con tanto di barba che gli pianta due occhiacci in viso, mulinando un randello. C'è anche il rischio di qualche brutto tiro. Noti pure che per nulla ricorrono ai giornali. E i giornali, veda per me, i giornali sono una calamità in queste questioni, tanto è il male che fanno. I giornali mi fanno paura, io glielo dico francamente. Non per me, ma per l'interesse dell'amministrazione e della disciplina. mi fanno paura. Veda che ufficio è questo, caro signore. Veda che responsabilità ho sulle spalle. Veda che razza di conti ho da rendere al pubblico e alla mia coscienza. Detto questo, Ansando abbandonò un momento la nuca sulla spalliera del seggiolone. Un sinistro sospetto passò per l'animo del segretario. Che il direttore non volesse parlare per non essere costretto a dirgli delle cose gravissime, di quelle che non si possono né scusare né attenuare. E levandosi in piedi per obbligarlo a dargli il colpo di grazia, insomma, gli disse con voce commossa ma risoluta. Mi dica, se sa qualche cosa, qualunque cosa sia, quale informazioni può darmi della maestra Pedani? Gli le domando schiette e precise, anche in nome di mio zio. Ma io, rispose il direttore, non so nulla. Una ottima insegnante, questo glielo posso accertare. Quanto al resto, Don Celsani fece di tutta la sua persona un punto interrogativo. Non c'è nulla da dire, soggiunse il direttore, che io sappia. Ci sarebbe, ma non c'è. Mi spiego, ci sarebbe da dire quello che si può dire d'ogni bella ragazza, che ha della gente attorno, forse, dei corteggiatori, lei mi intende. Don Celsani gli domandò se sapesse qualche cosa di positivo, se la avesse mai dato argomento a censure sulla sua vita privata, se non costasse nulla l'autorità riguardo alla sua condotta nei comuni rurali dove era stata. Ma se le dico che non so, che non ci consta, rispose il cavaliere. Se mi constasse, rispose il cavaliere, trattandosi come il caso di un affare grave e di un amico, parlerei. Ma non ho tanto in mano. Piuttosto, piuttosto, domandò il segretario. Piuttosto, continuò il direttore. Io direi, se mi permettesse un consiglio da amico, le informazioni negative dell'autorità contano poco in queste cose. Vada per altre vie, cerchi notizie della famiglia, che è Lombarda, di Brescia, se non erro. Proceda cauto. In questi affari non si va mai troppo a rilento. Anzi. Anzi, ripetè Don Celsani. Anzi, disse il direttore quasi con un movimento brusco di sincerità. Se ho da dirle aperto l'animo mio, che cosa vuole? Una maestra. Le maestre, secondo il mio modo di pensare, dovrebbero essere lasciate a fare le maestre. Hanno una missione. Si dovrebbero lasciare a quella, come le monache, ciascuno per la sua vita. E poi, non si sa mai, certo. Perdoni se le esprimo liberamente il mio pensiero, ma questo è fuor del discorso. Ripeto, nulla onsta, ossia, ripeto, o anche, si informi altrove e vada con prudenza. Glielo consiglio per il bene che voglio a casa Celsani. E non ho altro da dire. Un nuovo sospetto balenò a Don Celsani. Una manovra segreta dello zio che, per levarsi il fastidio di un rifiuto o la noia di persuaderlo a indugiare, avesse indotto il direttore a tenerlo sulle corde con parole vaghe. Tentò non di meno un'ultima prova. Lei conosce la mia situazione, disse. Può immaginare lo stato del mio cuore. Mi dà la sua parola d'onore che m'ha detto tutto quello che sa. In quel momento entrò un uscere con un pacco di lettere e di stampe. Ma che vuol che le dia la mia parola? rispose il direttore rifiatando forte. Con questa farraggine di affari lei vede che non ho un minuto di respiro e non so da che parte rifarmi, Dio buono. Tutto quello che potevo dire ho cercato di dirglielo e lei sa che sono affezionato allo zio. Arrivederla dunque e segua il mio consiglio. Poi, per compensarlo, gli disse piano. Una bella signorina, però. Oh, per questo una gran bella signorina. E lo spinse con bel garbo nel corridoio. In conclusione al povero Don Celsani rimasero coi nuovi dubbi gli antichi timori e tornò a casa così scontento, afflitto ed ansioso che non si curò neppure da andare a render conto della visita al commendatore. E il fatto che questi non gliene chiedesse conto quella sera stessa li confermò il sospetto che gli avesse lavorato sott'acqua a suo danno. E ne rimase sdegnato e angosciato. Ma quella divina bianchezza che aveva visto dall'abbaino gli brillava sempre davanti agli occhi come un focolare di luce elettrica e, a dispetto di tutto e di tutti, il suo amore divampava a quella visione più ostinato e più ardente. Eppure, con quelle informazioni vacue del direttore, egli capiva bene che lo zio aveva un pretesto più che ragionevole per negargli il consenso di cui aveva bisogno. Egli ne dovette convenire, benché non avesse perso ogni sospetto di una macchinazione, quando ne parlarono il giorno dopo. E allora, non sapendo a che altro filo attaccarsi, ebbe l'idea rischiata di confidarsi all'ingegner Ginoni. L'andò a trovare e gli espose il caso suo, chiedendo consigli. L'ingegnere si meravigliò. Che bisogno c'era di informazioni? Non si vedevano, scritte e le migliori sul viso di lei? Per parte sua egli avrebbe messo la mano sul fuoco. Del resto sapeva qualche cosa. Era bresciana, orfana, figliuola d'un medico militare, morto da molti anni. Aveva un fratello, onesto negoziante, stabilito nella nuova Granata. Queste notizie fecero piacere a Don Celsani. E che altre informazioni vuol chiedere? Continuò il Ginoni. Vuol mandare una circolare a tutti i sindaci dei comuni dove è stata maestra? Cosa è da ridere. Una ragazza è sempre un mistero. Non c'è che fidarsi al viso suo e all'ispirazione del proprio cuore. Piuttosto mi dica un po', segretario amato, a che punto siamo quanto a corrispondenza? Don Celsani fece un viso così sconfortato, abbassando gli occhi a modo del prete davanti all'altare, che l'ingegnere ne dovette ridere e ne ebbe pietà ad un tempo. E gli disse, senta, e se io mettessi una parolina in suo favore? Eh? Che ne dice? Si può dare una miglior prova d'amicizia? Se io scrutassi un poco il cuore di lei? Scruti, rispose mestamente il segretario. Scruteremo, disse l'ingegnere. Chissà mai, nel cuore delle donne non ci vede chiaro che l'esaminatore è disinteressato. Lasci fare a me e viva Allegro. E si propose di far davvero quel che aveva promesso, non solo per curiosità del caso psicologico, così singolare per la singolarità delle due persone, ma perché da alcuni giorni sospettava che il suo figliolo, con quella faccia che egli sapeva, fermasse per le scale la maestra, la quale si doveva essere astenuta fino allora dal farne l'agnanza a lui, non per altro che per non dargli un dispiacere. Gli pareva un atto di buona politica paterna, il mettere tra il figliolo e lei un impedimento. La mattina seguente, uscendo di casa, trovò sul pianerottolo la Pedani, ferma con la sua cameriera, alla quale suggeriva certi esercizi ginnici per curare i geloni. Il Bowman era stato il primo a trovare che la ginnastica fra i banchi poteva prevenire questo malanno. Essa la sapeva lunga sull'argomento. Alla vista del padrone, la cameriera rientrò e quegli fece alla maestra il solito saluto scherzoso. «Abbasso la ginnastica!» Essa rispose con lo stesso tono. «Abbasso i fautori dell'infatismo e dell'arachidite!» L'ingegnere rise e s'avviò con lei giù per le scale. Poi le domandò a bassa voce, soffermandosi. «Come mai lei può essere così tranquilla mentre ci sono dei disgraziati che soffrono morte e passione per causa sua!» Essa lo guardò fisso e gli domandò. «Chi gliel'ha detto?» «Colui che gliel'ha scritto!» «In tal caso», disse con indifferenza la maestra, «discorriamo d'altro». «Come? Nemmeno ne può sentir parlare?» domandò l'ingegnere. «Neppure un senso di pietà! A tal punto indurisce i cuori la ginnastica!» «No», essa rispose, non aveva il cuore duro. L'aveva occupato. Era dominata da una sola passione e aveva deciso di consacrarvi tutta la sua gioventù. In ogni caso non avrebbe legato la sua vita se non ad un uomo che volesse dedicare la propria allo stesso scopo e disse con semplicità «Quello che sposerà me farà della gran ginnastica!» L'ingegnere rise sotto i baffi e squadrando la maestra con un'occhiata disse «Lo credo». Poi domandò «Dunque il destino dello sventurato è irrevocabilmente deciso?» «Da me», riprese quella «Non dipende il destino di nessuno! E basta così!» «Amen!» mormorò il ginoni. Scesero in silenzio gli ultimi scalini. «Eppure», disse l'ingegnere sotto il portone, «Lei ci pensa ancora!» «Oh, giusto!» rispose la pedane. «Pensavo a tutt'altra cosa. Pensavo che alle bambine sono concessi troppi pochi movimenti degli arti inferiori. Guardi!» L'ingegnere diede in una risata e lasciandola esclamò «Abbasso Sparta!» e quella voltandosi «Abbasso Sibari!» e infilò il marciapiede a grandi passi. Don Celsani fu ferito all'anima dalla risposta, pure un po' raddolcita, che gli riferì l'ingegnere. E non lo confortò per niente l'esortazione che questi gli fece a non desistere, ripetendogli il paragone della mina con la miccia lunga che sarebbe scoppiata più tardi, indubitabilmente. Ricade allora in uno stato tormentoso e compassionevole. Continuò a spiare la maestra quando scendeva o rientrava per incontrarla o seguirla. E avendo ora maggior coraggio datogli dalla disperazione, le lanciava ogni volta un lungo sguardo indagatore e supplichevole accompagnato da una scappellata di mendicante che chiedeva un sorriso per amor di Dio. Ella si manteneva sempre la stessa con lui, salutando con garbo, indifferente, senza ostentazione, non mostrando da vedersi che egli s'appostava dietro l'uscio, dietro i vilastri, agli angoli dei muri, in portineria e che stava fermo un pezzo a contemplarla dopo che era passata. Capiva peraltro che la passione del povero uomo si veniva infiammando ogni giorno di più. Ma vera in questo una cagione nuova che ella non sospettava. La reputazione di lei andava crescendo. Un suo articolo su Pier Enrico Ling, il fondatore della ginnastica svedese, pubblicato nel nuovo agone, curioso per l'argomento e per una certa vivacità evidente e brusca di stile, specie nella descrizione degli esercizi sulla scala a ondulazione e sulla spalliera, era stato riprodotto da un giornale politico di Torino e aveva fatto un certo rumore. Una sera essa tegna una conferenza alla filotecnica sull'istituzione di una speciale ginnastica curativa per certe deformità dei ragazzi, spiegando, senza presunzione pedantesca, una assai rara conoscenza dell'anatomia. E i giornali ne parlarono, accennando con parole di simpatia alla sua persona, alla sua voce bella e strana e al suo modo singolare di porgere, con dei gesti vigorosi e composti insieme che strappavano gli applausi. Tutto questo la faceva molto ricercare per le lezioni private e le venivano a casa delle maestre aspiranti a far dei corsi di ginnastica, non essendoci corsi aperti alla palestra in quei mesi, delle ragazze che avendo dei difetti non volevano fare gli esercizi con le altre, delle insegnanti già patentate che cercavano spiegazioni ed aiuti. E Don Celsani ne incontrava ogni momento per le scale e sentiva ripetere quel nome con ammirazione da loro e da altri, dentro e fuori di casa. Ora questa celebrità nascente di lei dava un'esca nuova al suo amore, un nuovo stimolo mordente e squisito ai suoi desideri. Egli sentiva una più raffinata volutà a immaginarsi possessore sicuro di una donna conosciuta e ammirata. Pensava che sarebbe stato doppiamente felice nell'oscurità sua d'averla quando tornava da una conferenza applaudita, di impadronirsi di quelle forme che tanti altri avrebbero carezzate con gli occhi e desiderate. Gli pareva anzi che quella felicità gli sarebbe stata tanto più dolce e profonda quanto più egli fosse rimasto piccolo e nullo accanto a lei. Nient'altro che marito, a certe ore, anche dimenticato per tutto il resto della giornata, tenuto come un servitore, uno strumento, un sollazzo, un buon bestione di casa. Ah, Dio grande! E questo gli infocava il cuore anche più forte, che con la sua zucca soda, duomo meditativo, non privo di certa finezza pretina, egli aveva letto a fondo nell'indole di lei, e capiva che, quando ella avesse fatto il passo, era donna da rimanergli rigidamente fedele, non foss'altro che per il sentimento della dignità propria e per forza di ragione, per quanto l'avesse tenuto al di sotto di sé in ogni cosa. Che gli ci fosse arrivato soltanto, e poi che gli sarebbe importato delle canzonature e delle insidie, sarebbe stato sicuro del fatto suo. Avrebbe ben saputo custodire il suo tesoro alla barba del mondo intero. Se ne rideva delle satire del maestro Fassi. Giusto, costui continuava a dargli delle bottate ogni volta che l'incontrava, ma con un sentimento nuovo di acrimonia contro la pedani, la quale, diventando luminosa, lasciava lui nell'ombra. Oltre di che, occupata in altro, gli restringeva sempre più la collaborazione di cui aveva bisogno. Egli si era in quei giorni tirato addosso con gli articoli provocanti del lagone un nuvolo di nemici. Assalendo tutti gli avversari della ginnastica, aveva detto che i ballerini, non esercitando che gli arti inferiori, avevano delle gambe atletiche ma dei petti di pollo. Aveva accusato i maestri di scherma di far ingrossare l'anca e la spalla destra a scapito delle giuste proporzioni di tutto il corpo. Se l'era presa coi maestri di pianoforte, dicendogli causa principale della vita troppo sedentaria delle ragazze, e coi bendaggisti, che osteggiavano la ginnastica perché screditava i loro strumenti di tortura. Aveva perfino stuzzicato gli speziali e i droghieri, scrivendo che calugnavano la nuova scienza perché aveva fatto scemare la vendita dell'olio di merluzzo. E da tutte quelle parti gli erano venute acerbe risposte, a cui, da sé solo, si trovava imbarazzato a rispondere. E appunto in quella congiuntura difficile la Pedani quasi l'abbandonava. Il Fassi sfogava il suo dispetto col segretario, senza dirne il vero perché, tacciando la maestra d'ambiziosa e d'ingrata, quantunque per interesse, servasse ancora con lei le migliori relazioni. E il segretario, difendendola, egli diceva peggio. Un giorno, finalmente, vennero a parole secche. Spingendo il maestro alla maldicenza più in là del solito, Don Celsani gli rispose risentito. «La signorina Pedani è un'onesta ragazza!» «Pah!» disse il Fassi, «se avessi voluto!» «Ah, non è vero!» esclamò Don Celsani, indignato. Quegli stette per rispondere una grossa insolenza, ma il pensiero della pigione ridotta gliene ritenne mezza fra i denti. «Le auguro», si contentò di dirgli, «di non farne l'esperimento a sue spese!» Il segretario ribatté, si separarono di Malgarbo e dall'ora in poi non si salutarono più che freddamente. Ma anche quella disputa crebbe fuoco al suo amore. Erano dunque tutti d'accordo per calugnarla e per contrastargliela. Lo zio, il maestro, sua moglie, il direttore, la Zibelli, mentivano tutti. Ebbene, e lui l'avrebbe amata a dispetto di tutti. E l'amava più che mai, infatti, trovando anzi nella severa uguaglianza della sua condotta verso di lui e perfino in ogni suo atteggiamento o movenza nuova che egli scoprisse una risposta dell'onestà della sua vita. Un altro eccitamento gli si aggiunse. Avendo dei muratori, che rifacevano l'ammattonato del pianerottolo, disteso un asse sulla parte smossa per servire di ponte agli inquilini, era per lui una vera voluttà, uscendo di casa in tempo, veder passare su quell'asse lapedani e misurare l'incurvatura del legno sotto il suo passo, la quale gli dava, in certo modo, la sensazione indiretta eppure dolcissima del suo peso. E una mattina gli toccò una gran fortuna. L'asse era stata buttata da parte. Egli uscì in tempo dall'uscio per rimetterla al posto mentre la maestra stava per passare. E lo fece con un atto violento per far vedere la sua forza. Ella non ne approfittò superando il passo d'un salto, ma nel saltare strisciò col vestito la sua faccia china, producendogli l'effetto d'una sferzata voluttuosa, e lo ringraziò con un sorriso che lo rese felice per più giorni. Fu una realtà o un'illusione. Dopo quel giorno egli credette di vedere nei suoi occhi qualche cosa di nuovo, un varlume di benevolenza che gli parve il principio di un mutamento durevole. E cominciò a scrutare quel viso con ardore insolito, come un astronomo la faccia del sole, ora accertandosi, ora dubitando, tanto il mutamento era leggero. Poteva arrischiarsi a fare la sua domanda. Era troppo presto? Ma che altro incoraggiamento c'era da sperare? Li venne allora in aiuto l'ingegner Ginoni con un'idea luminosa. Incontrandolo una sera in via San Francesco. «Segretario amato», gli disse, «Se lei è un uomo fine, deve fare una cosa». C'è, nelle vetrine del Berri, una fotografia del barone Mignol, quello che vinse a piedi, da Parigi a Versailles, un velocipedista famoso. La signora Pedani è grande ammiratrice del barone. Lei dovrebbe andare a prendere il ritratto e portarglielo. Che ne dice? Vedrà che farà colpo. Ma, Badi, non basta regalare le fotografie. Bisogna emulare i fotografati. Faccia una corsa di resistenza da Torino a Moncalieri e che ne parli la gazzetta del popolo. Avrà fatto di più che con dieci anni di sospiri». Don Celzani non disse né sì né no, ma la sera aveva già comprato e rimesso la fotografia alla donna di servizio delle maestre. Egli sperava ben poca cosa da quel lato. Non di meno aspettò la mattina dopo la Pedani, non fosse altro che per ricevere un freddo ringraziamento. Essa discendeva con la Zibelli. Questa, vedendo lui, tirò dritto senza salutare. La Pedani si fermò e gli disse, con vivacità insolita, facendogli il più bel sorriso che il le avesse mai visto. «Ah, signor segretario, com'è stato gentile! Come ha fatto a indovinare il mio desiderio?» Don Celzani gongolò. E la maestra gli disse ancora allegramente andandosene. «Non so come sdebitarmi. Mi comandi, se la posso servire in qualche cosa?» «Ah, Barbara!» Ma Don Celzani andò al terzo cielo. E beato, allucinato, parendogli d'aver fatto un passo gigantesco, giudicò venuto il buon momento. Zio o non zio, informazioni o non informazioni, egli non ci poteva più reggere. Doveva far la sua domanda formale al più presto, finché il ferro era caldo. Solamente era in dubbio se la dovesse fare a voce o per iscritto e tenne in sospeso la decisione. Frattanto si mise a elaborare con profonda cura la formula di cui si sarebbe servito nei due casi, ma mentre la stava elaborando fu prevenuto. Da vari giorni la Zibelli aveva rifatto pace con l'amica ed era seguito nella sua vita un mutamento nuovo. Aveva trovato un giorno sotto il portone un giovane maestro di ginnastica, ex sergente del genio biondo e elegante, che s'aveva sentito parlare una volta con molto garbo a un'adunanza della Società della Cassa degli Insegnanti. Egli andava dal maestro Fassi, di cui era amico. Le aveva fatto una grande scappellata e le si era accompagnato su per la scala, parlandole con una particolare espressione di rispetto e di simpatia. Si erano poi ritrovati due giorni dopo in casa del Fassi assente, dove la moglie, visto che si conoscevano, non aveva fatto presentazioni. E siccome il giovane era maestro al carcere, la generale, la loro conversazione aveva preso un certo colore sentimentale, spiegando egli in che maniera fossero cessate in quella casa le risse sanguinose, le ribellioni e altre violenze per virtù della istituzione della ginnastica, la quale serviva a disfogo all'esuberanza di vita e all'orgoglio dei forti, diventati sdegnosi, dopo la vittoria pubblica degli esercizi, di opprimere i deboli riconosciuti. E continuando il discorso, le aveva chiesto spiegazioni e consigli, e l'aveva ascoltata con così viva e gentile attenzione che essa ne era rimasta commossa. Da questo, con l'usata prontezza, le era rinata l'illusione d'un amore, e insieme l'allegrezza, la cordialità, l'amicizia. Si era rappacificata con la Pedani, soffocando anche l'invidia che la incominciava a mordere delle sue glorie ginnastiche. Se era rifatta buona alla scuola, aveva buttato la cappa nera della pedagogia, nella quale stava rinchiusa da un pezzo, e ricominciato a leggere libri di letteratura e a scrivere perfino dei versi di nascosto, trascurando l'amministrazione della casa, di cui soleva addossarsi tutte le cure. A questa nuova disposizione d'animo dovette la Pedani di essere incaricata, il primo giorno del mese, di portare essa stessa i denari della pigione al segretario, ciò che entrava nelle incombenze della sua amica. Essa ne rimase un po' stupita, appunto perché si trattava di andare da Don Celsani, ma la Zibelli, benché l'avesse sempre amara con lui, non ne era più gelosa. Va, le disse anzi scherzando dopo averle dato i denari nella busta, lo farai felice. La Pedani prese nello scaffale la ginnastica medica dello Schreber che aveva promesso al cavalier Padalocchi ed uscì. Sono all'uscio di questo, il quale la ricevette con molti complimenti e, preso il libro, le disse di risentire qualche miglioramento dopo che faceva le ispirazioni e le ispirazioni. E allora la maestra gli consigliò di provare la rotazione delle braccia, spiegandogli anatomicamente l'azione speciale dell'esercizio ginnico delle estremità superiori sulle funzioni degli organi del petto. Mentre la dava queste spiegazioni, il segretario, solo in casa, seduto a tavolino nello scrittoio del commendatore, stava cercando da un pezzo, con la penna in mano, le frasi più importanti della sua domanda solenne, parlata o scritta che dovesse essere. E dava del capo in difficoltà serie, perché si trattava di armonizzare bellamente una dichiarazione d'amore appassionato con la gravità di una richiesta di matrimonio, la quale dimostrasse di essere stata preceduta da una lunga meditazione e decisa con intera e tranquilla coscienza. E occorreva pure di farci entrare, con molta delicatezza, un cenno delle sue condizioni di fortuna, non dispregievoli, e balenare la speranza ad una futura eredità dello zio, perché questi avesse a Genova e a Milano una falange di nipotini. Egli cercava, scriveva, cancellava, mai soddisfatto, turbato anche un poco dal pensiero che, essendo il primo del trimestre, sarebbe venuta da lui la zibelli, che era la factotum, a portarla pigione. Visita che lo avrebbe messo nell'impiccio dopo che quella gli aveva levato il saluto. Non di meno, la prima frase era ormai assicurata ed immutabile. Cominciava. Signorina, vengo a fare un passo decisivo nella vita d'un uomo. Ed egli finiva appunto di arrotondare il primo periodo quando il campanello suonò. «Eccola, zibelli!» disse tra sé con dispetto e preparò un viso contegnoso per riceverla. In quel momento s'affacciò all'uscio la vecchia serva e disse «Signor segretario, c'è la maestra Pedani per la pigione!». Don Celsani saltò in piedi con le fiamme al viso. Non gli riuscì di dire «Fate entrare!». Non poteva fare che un gesto». La Pedani, entrò e la serva richiuse l'uscio. L'apparizione della maestra gli produsse l'effetto come d'un mutamento improvviso d'ogni cosa intorno a sé. La stanza cambiò luce, i mobili si spostarono, i contorni degli oggetti si confusero. Tutto salterò ai suoi occhi, come succede ai paurosi duelli. Corse qua e là in cerca d'una seggiola, albettando «S'accomodi, s'accomodi!» e andò a prendere la più lontana. La mise accanto al tavolo, gli parve troppo vicina, la scostò, gli parve messa di sbieco. La voltò, accennò a lei di sedersi senza guardarla, sedette lui di traverso e presa alla busta dalla sua mano, non trovò altro di meglio per avere il tempo di ricomporsi che prendere a contare i biglietti con grandissima attenzione, come se sospettasse d'essere truffato. Poi disse con le labbra tremanti «Va bene» e prese un foglio di carta bollata per scrivere la ricevuta. Ma nel cominciare a scrivere, li cozzarono con una tal tempesta nel capo, la tentazione di cogliere quel momento per fare la domanda e il timore che il momento fosse inopportuno e pericoloso. E quindi invece di scrivere sul foglio le parole solite, scrisse «Signorina, vengo a fare un passo decisivo». Se ne accorse, arrossì, stracciò il foglio, ne prese un altro, ricominciò a scrivere, sempre con quella tempesta nel capo. La vista gli si velava, la mano gli ballava, le parole gli sfuggivano, la fronte gli si bagnava di sudore. La maestra lo guardava, tranquilla e seria. Essa non rideva di nulla, non aveva senso comico. Se gli l'avesse osservata in quel punto, non le avrebbe visto negli occhi che una leggera espressione di curiosità compassionevole, come quella con cui si guarda un malato d'alienazione mentale. Quando alla fine riuscì a mettere la firma, la sua risoluzione era già presa. Piegò il foglio e, ritenendolo in mano per trattenere lei, salzò in piedi e di rosso si fece pallido. Poi cominciò. «Signorina, che cosa seguì allora nella sua mente? Forse una sincope improvvisa del coraggio? Forse il pensiero improvviso che sarebbe stato meglio avviare prima il dialogo sopra un altro argomento, perché la dichiarazione non paresse troppo repentina ed ardita. Fatto sta che, invece di dire quello che aveva preparato, mutato tono tutta un tratto, mandando giù la saliva per la gola secca, mormorò umilmente. «Signorina, se ha bisogno di qualche riparazione...» Questa volta la ragazza sfuggì un sorriso. Rispose di no, tutto era in ordine nel suo quartierino. Lo ringraziò della cortesia e, alzandosi, tese la mano per prendere la ricevuta. Il momento era giunto. Ora o mai più. Il segretario tirò indietro il foglio, e rinunciando a dirle parole preparate perché la confusione non gliele lasciava ritrovare, si slanciò con disperato coraggio contro il pericolo. «Signorina», ripetè. «Accade qualche volta anche ai non timidi, quando parlano dominati da una forte commozione, e tanto più se in una lingua che non hanno familiare, che il loro linguaggio, il tono, il gesto, tutto devia involontariamente dal sentimento che vogliono esprimere, in modo che, mentre questo è sincero, semplice e umile, l'espressione esce enfatica, tormentata, predicatoria, stonata, falsa, come se un altro parlasse il luogo loro senza comprenderli, e quasi col proposito di farli fallire al loro scopo. Questo avvenne al povero Don Celsani. Battendosi una mano sul petto, gonfiando troppo la voce, facendo la ruota con lo sguardo intorno alla maestra come per seguire il volo circolare d'una farfalla, e muovendo in cento modi strani le grosse labbra come se le avesse intorpidite dal freddo. Signorina, declamò, io ho una cosa da dirle. Mi permetta, mi perdoni, so che questo non è il luogo, ma vi sono dei momenti, vi sono dei sentimenti, nei quali l'uomo onesto, quando è un affetto onesto, sia pure davanti a Dio. È impossibile, tutto si deve dire, tutto si può scusare, è un dovere lasciar dire. Io già mi sono spiegato, lei conosce il mio sentimento. Mai, mai fu leggerezza fin dal primo giorno. Mai. Sempre ho coltivato quel pensiero. Già mai nella mia coscienza, se ho ardito Dio, me testimonio, la più pura intenzione, il più sacrosanto scopo, l'affezione di tutta la vita. Se anche non l'ho scritto, eccomi a dirlo, signorina. La sua mano. Forse non è il modo, ma parlo a un'anima bella. Il frutto è maturo. Meditai. È un galantuomo che parla. Concorde, è lo zio. Creda a questo cuore, non è più vita la mia. Non domando che la sua mano. Una sola parola. Pronuncia la mia sentenza. Pronuncia fu lapsus lingue. Detto questo, Ansando piantò gli occhi dilatati in viso alla maestra con un'espressione quasi di terrore. La maestra, che aveva sorriso alle prime parole e ascoltato con serietà alle ultime, corrugò la fronte quando egli ebbe finito, soffusa d'un leggero rossore, che subito sparì. Poi, fissando lo sguardo sopra un almanacco appeso alla parete, con una intonazione naturalissima che faceva un curioso contrasto a quella del segretario e con una voce che, abbassandosi, diventava baritonale. Veda, signor segretario, rispose. Io non so trovare giri di parole per dire certe cose, come si dovrebbero dire. Dico il mio pensiero sincero. Lei perdonerà. Non ho che da ringraziarla delle sue buone intenzioni, anzi, mi tengo onorata. Ma se avessi avuto un'idea, l'avrei manifestata subito dopo la lettera, perché avevo capito quello che c'era sottinteso. Le dico che mi ritengo onorata, sinceramente. Però, ecco la cosa. Davvero, io non ho vocazione per il matrimonio. Per le mie occupazioni ho bisogno di essere libera. Ho deciso di essere libera. E poi, ho 27 anni. Se avessi avuto altre inclinazioni, le avrei assecondate da un pezzo. Cosicché, insomma, io non so trovare delle frasi. Mi rincresce, la ringrazio. Ecco tutto. Favorisca la ricevuta. A quelle parole l'amore trafitto urlò e la naturalezza gli venne. Ah no, signorina, no! esclamò Don Celsani agitandosi. Lei dice così perché non sa. Non sono come gli altri io. Cosa crede? Io le voglio bene sul serio. È un pezzo che peno. Non vedo altro io. Come si fa? Dice, voglio essere libera. Che mi importa a me? Non sarei mica un padrone? Ah, lei non mi capisce. Io sarei il suo servitore. Non pretenderei nulla. Non sono niente. Starei sotto i suoi piedi. Sarei troppo felice come un matto. Lei non mi conosce come sono. Che mi fa perdere la testa che le darei il mio sangue e la salute dell'anima. Dio grande, non mi dica di no. Abbia misericordia ad un galantuomo. E così dicendo allargò le braccia e si chinò davanti a lei, sollevando il viso supplichevole come il Sant'Antonio del Muriglio davanti al bambino. La maestra, meravigliata di tanto calore e di passione in quell'uomo, lo guardò un momento, dette un'occhiata all'uscio e lo tornò a guardare con una vaga espressione di rammarico. Pareva che pensasse. Peccato che egli non sia un altro. Ma capì subito che il suo silenzio poteva essere male interpretato e si affrettò a dire col tono più amichevole che le fu possibile. Basta così, signor Celzani. Io gli ho già detto il mio sentimento. Lei, a buon cuore, troverà un'altra compagna che corrisponderà al suo affetto come merita. Lei si inganna sul conto mio. Io non sono come forse mi immagina. Io non sono tenera. Ho il cuore d'un uomo, io. Non sarei una buona moglie. Veda che sono sincera. Si faccia una ragione e mi dia il foglio. Non è conveniente che mi fermi un momento di più. Don Celzani restò lì come pietrificato. Ma il terrore di rimanere solo in casa con la disperazione di quel rifiuto nel cuore lo riscosse subito e gli fece fare un ultimo tentativo sconsolato di preghiera. Prenda tempo a rispondere almeno. Ci pensi ancora? Non mi dica di no per sempre. La pedani fu presa da un principio d'impazienza e facendo un passo avanti allungò la mano per prendere la ricevuta. Per istinto il segretario le afferrò la mano e fu come una vertigine. Cadde in ginocchio d'un colpo e accecato, supplicando, s'avvinghiò furiosamente alle ginocchia di lei, strofinando il viso convulso contro la sua veste. Fu un baleno, però. Due mani gagliarde sciolsero le sue dita incrociate e con una spinta virilmente impetuosa lo misero in piedi d'un balzo, sbalordito. Signor Celzani, disse severamente la maestra, ma con accento più di fastidio che di sdegno. Queste cose con me non si fanno. E soggiunse dopo una pausa. Si è detto una volta per sempre. Ma il segretario quasi non sentì. Il dolore immenso del rifiuto, la vergogna, il terrore dell'avvenire erano per un momento soffocati in lui dalla sensazione profonda e violenta di quell'abbraccio, rivelatore misterioso di tesori che superavano le sue fantasie e che gli lasciavano come lo stupore d'un contatto sovrumano. Si risentì vedendola Pedani avvicinarsi all'uscio e a passi vacillanti e impetuosi la raggiunse. Ma si fermò a un passo da lei. Essa aveva già la mano sulla maniglia dell'uscio. La ritirò guardando lui con un sorriso di indulgenza e poi e la porse con un atto rigoroso di camerata per togliere a quella concessione ogni senso di tenerezza. Il segretario capì e le diede la sua. Morta. Essa si rifece seria e disse. Siamo intesi dunque. Mai più. Egli ripeté macchinalmente come uno stupido. Mai più. E non l'accompagnò. Attraversando l'anticamera la maestra sentì un lamento lungo e sordo come un gemito soffocato tra i pugni e uno strepitio precipitoso di piedi simile allo scalpiccio d'un giumento imbizzarrito. E uscì scrollando il capo pietosamente. Dopo quel giorno Don Celsani fu un altro. Non aspettò più la maestra per le scale. Si mise a fumare dei sigari Virginia. Bazzicò il vicino caffè del Monviso. Frequentò il teatro Alfieri. Prese un'andatura più disinvolta. Si diede alla sua opera di segretario con una operosità mai vista. Come se le proprietà del commendatore si fossero triplicate tutta un tratto. E spinse la bizzarria fino a cambiare il suo eterno cravattino di seta nera con una cravatta di color turchino che gli dava un'aria addirittura baldanzosa. Tutti gli inquilini notarono quella trasformazione. Lo sentivano qualche volta solfeggiare per le scale. Lo vedevano salire o scendere a piccoli salti. Lo incontravano per la strada in compagnia di giovani della sua età coi quali non l'avevano mai visto. Gesticolante, con una faccia nuova, con mosse e impostature di prete spretato che volesse dissimulare il suo carattere antico. Solo l'ingegner Ginoni immaginò il perché di quel cambiamento e se ne prese spassa. Diceva al segretario incontrandolo cadde l'incanto e a terra sparso il gioco. Oppure al fin respiro on ice. Bravo segretario. E questi gli rispondeva con un gesto comico come per dire è tutto passato. E così durò per tutto il mese di marzo. Dopodiché ricadde più perdutamente innamorato di prima. Ma come si fa, Dio grande! Ai primi giorni della nuova stagione la pedagna aveva messo su un vestito di lanetta color marrone, guarnito con una stralicciatura di seta nera, semplicissima. Una miseria che poteva costare trenta lire con la fattura e che aveva forse anche dei difetti di taglio. Ma la sarta vera e meravigliosa era la persona che lo riempiva e lo tirava, informandolo ai più seducenti contorni che avesse mai trovato uno scultore di idee. Verano adesso delle giornate, quando essa tornava dalla ginnastica, delle ore in cui l'aria e il sole, l'esercizio fatto, mettevano nella sua carne come uno splendore caldo di giovinezza matura. La freschezza d'un corpo di nuotatrice uscita allora dall'acqua. Qualche cosa che si effondeva intorno come la fragranza inebriante d'un albero in fiore. E passando accanto a Don Celsani, a passi svelti, gli diceva. Buongiorno, con una nota d'oboe, spiccata e profonda, che pareva un grido involuttario di voluttà, troncato a mezzo. Il povero Don Celsani resistette a tre o quattro di questi incontri, poi perse la testa. Lasciò il caffè Monviso, il teatro, gli amici, i sigari Virginia, le corse per Torino e i balli atteggiamenti. E della sua audace ribellione d'un mese non gli rimase altro segno che la cravatta turchina. Ma durante quel mese aveva meditato, e frutto delle sue meditazioni fu che, entrando nel nuovo periodo, cambiò di tattica amorosa. Si sforzò di dare alla sua passione l'apparenza d'una tranquilla amicizia. Non più appostamenti, non più sguardi supplichevoli, né saluti trepidanti, né silenzi d'adoratore. Egli fermava la maestra su per le scale e le si accompagnava, attaccando discorso a qualunque proposito, ragionando del tempo, degli orari scolastici, d'una riparazione da farsi, d'un inquilino, d'una bazzecola, pur di parlare e di intrattenerla, di abituarla alla sua compagnia, di persuaderla bene che essa poteva star con lui d'ora innanzi senza che egli ricadesse nelle dichiarazioni passate. E vi riuscì. Essa sospettava, bensì confusamente, che sotto quel nuovo contegno si nascondesse un pensiero, un proponimento lontano. Ma, insomma, se era acquietato, egli si poteva discorrere, tanto più che, levato da quel suo matto amore, era una persona educata e un buon diavolo, che non le spiaceva. In tal modo si incominciò a stabilire fra di loro una certa familiarità. E questo avvenne più agevolmente per effetto di una nuova dichiarazione di guerra della maestra Zibelli, che lasciava di nuovo uscir da sola la sua amica. Era seguito questo caso spiritoso, che le due amiche, essendosi incontrate per la prima volta tutte e due insieme in piazza Solferino col maestro biondo della generala, il quale li aveva fermate, s'era dopo poche parole chiarito l'equivoco, che quelli aveva fino allora scambiato la Zibelli con la Pedani, conosciuta da lui soltanto di fama e ammirata per i suoi articoli. E la Zibelli aveva visto rivolgere immediatamente all'altra, ma raddoppiati, gli ossequi e l'ammirazione di cui era stata essa prima l'oggetto. Messa sottosopra da questa scoperta, dopo aver passato dei giorni orribili, astiando l'amica dalla mattina alla sera, s'era data con grande ardore alla religione. Andava in chiesa ogni mattina, aveva stretto amicizia con le signore devote del primo piano, messo un velo nero sul viso, voluto far di magro il venerdì e il sabato, e dedicato tutti i suoi ritagli di tempo a libri ascetici, che leggeva forte anche di notte. Con questo si rincrudì pure in quei giorni, a cagione di un avvenimento straordinario, la gelosia che essa cominciava a sentire da un po' di tempo dei trionfi ginnico-letterari della sua nemica. Era allora a Torino il ministro dell'istruzione pubblica, Guido Baccelli. Egli capitò una mattina inaspettato col sindaco e con l'assessore, seguito da un folto corteo, alla scuola Margherita, mentre la Pedani faceva la lezione di ginnastica. Un'altra avrebbe perso la bussola. Essa non si turbò e, schierate tutte le sue allieve, fece eseguire i passi ritmici con una tal varietà, precisione e vigoria di comandi, che, un po' per questo e un po' per effetto della sua bella persona, il ministro le prodigò i più caldi elogi, intavolando con lei una conversazione su metodi ginnici inglesi, della quale uscì anche più ammirato che degli esercizi. Il fatto fu riferito dai giornali che stamparono il suo nome e fu una gloria. E non ne ingelosi soltanto la Zibelli. Il maestro Fassi andò in bestia. In quei giorni, appunto, la Pedani era anche stata nominata maestra di ginnastica delle monache vincenzine del Cottolengo. Una successione così inaudita di fortune cominciava a non essere più tollerabile, né si poteva spiegare che con qualche protezione segreta. Ora il maestro si ficcò in capo che chi le faceva avere tutti quei favori fosse il commendator Celsani per sollecitazione del nipote, e non poté trattenersi dal fare uno sfogo con costui. E' una vergogna, gli disse un giorno senza preamboli, che mentre ci sono dei professori di ginnastica che sudano da vent'anni agli studi senza aver mai potuto ottenere un favore e neppure il compenso della notorietà, ci sia chi si fa largo e ottiene tutti gli onori per la sola virtù della gonnella. E' un mercimonio schifoso, che denuncerò alla stampa! Il segretario finse di non capire. Ma quella finzione non fece che riaffermare il maestro nella sua idea, tanto che, pur conservando per interesse un'apparenza d'amicizia con la Pedani, egli tolse a lui il saluto e sua moglie fece lo stesso. E così erano già tre che, per causa della maestra, gli avevano dichiarato la guerra. Ma Don Celsani, ostinato e intrepido, continuava a colorire il suo disegno, cercando di guadagnarsi la buona amicizia di lei. Le fece un giorno un vero piacere portandole un numero del ginnasta triestino, venutoli a mano per caso, che conteneva un articolo sulla danza pirrica. Le portò un'altra volta un numero della tribuna che riceveva lo zio, nella quale era riferita la risposta negativa data dall'ufficio di gene del municipio di Roma a tutte le direzioni delle scuole che l'avevano interrogato intorno alla maggiore o minore convenienza di tenere gli alunni nella posizione di braccia conserte. La maestra gradì molto l'offerta, dicendo che aveva già trattato l'argomento in un articolo. Ma il segretario le preparava ben altre sorprese. Era tentato da un po' di tempo di intavolare con lei certi discorsi ai quali si stava preparando, ma non osava. Un giorno osò. Avendogli essa detto che frequentava un corso d'anatomia, egli le rispose timidamente. L'anatomia. Lei fa bene perché senza quello studio non si può conoscere il valore fisiologico dei singoli esercizi e senza di questo gli esercizi non si possono classificare fisiologicamente che è l'ordine più utile. La maestra lo guardò con stupore e approvò. Era un primo passo. Un altro giorno si fece anche più animo e le domandò che cosa pensasse sulla questione degli attrezzi. Anche questa domanda la stupì gradevolmente. Egli rispose. Non stava con coloro che ne volevano abusare, mirando a convertire le palestre in circhi acrobatici, ciò che spaventava le famiglie, ed era veramente un pericolo. Ma dava torto anche agli esageratori della parte opposta che li volevano addirittura abolire. Dove si sarebbe andati per quella via? A una ginnastica bambinesca con cui non sarebbe stata per niente educata nei fanciulli quella facoltà speciale che è il coraggio fisico. A tutti necessaria, senza la quale non si riesce più tardi in nessun esercizio civile e arrischiato se non a prezzo di sforzi penosi e di figure ridicole. Don Celsani approvò con ripetuti decenni del capo. Sono persuaso anch'io, disse cercando le parole, che l'intero sviluppo di tutte le membra non si può ottenere se non con l'aiuto degli attrezzi. Si possono lasciare da parte quelli di cui si può contestare l'utilità, ma quelli che hanno un'utilità antropologica dimostrata, secondo me, sono indispensabili. Alla buon'ora, esclamò la maestra guardandolo con curiosità. E non pensa che riguardo al numero e al modo degli attrezzi sarebbe bene lasciare libero ogni insegnante di seguire il proprio genio e la propria persuasione? Non ci può essere dubbio, rispose Don Celsani con gravità. Se non si fa questo, si toglie all'insegnante ogni incoraggiamento a studiare per farsi delle combinazioni da sé in ordine alle varie classificazioni. E le contò sulla punta delle dita. Anatomica, pedagogica, collettiva, individuale e via dicendo. E allora chi farebbe più esperienze e ricerche? La maestra tornò a guardarlo con meraviglia e al tempo stesso con piacere. E punta da maggior curiosità, soffermandosi per la scala. Quali sarebbero, gli domandò, gli attrezzi che lei giudicherebbe indispensabili? Gli attrezzi che io giudicherei indispensabili, rispose Don Celsani col tono ad un ragazzo catechizzato rimettendosi a contare sulle dita. Sarebbero le pertiche d'ascensione, la trave d'equilibrio, non troppo elevata da terra che è inutile, la sbarra fissa, si intende le parallele e il piano inclinato. E tutt'al più lascerei da parte qualche esercizio. L'altalena di salvataggio, per esempio. Come? domandò con vivacità la maestra. Anche lei è di quelli che trovano pericolosa l'altalena di salvataggio? No, ho sbagliato, rispose il segretario. L'altalena di salvataggio veramente si dovrebbe lasciare. Infatti, che pericolo c'è? Qualche piccolo storcimento alla peggio. Siamo d'accordo anche su questo. Siamo dunque d'accordo su tutto, esclamò la maestra soddisfatta. Dico bene che non si può aver buonsenso e pensarla altrimenti. Poi, ripresa dalla curiosità, mentre erano già sotto il portone, gli domandò con un sorriso singolare. È un pezzo che si è dedicato a questi studi? Il segretario arrossì e fece un gesto indeterminato, senza dire nulla. Ma dopo quel giorno ritornò sull'argomento ad ogni incontro. Il commendatore possedeva dei libri di ginnastica, avuti in dono dagli autori, durante il suo vice assessorato all'istruzione pubblica, dei pacchi di numeri del ginnasta Aretino, che gli aveva mandato anni addietro un amico toscano. Don Celsani leggeva ogni cosa per prepararsi certe domande e certe risposte, e così poteva sostenere la conversazione. Aveva finalmente trovato il gancio e ammirava la perspicacia dell'ingegnere. Ora, quando erano su quei discorsi, la maestra si soffermava ogni quattro scalini, ed egli aveva così un agio delizioso di ammirarla, come non l'aveva avuto, e imparava a memoria tutte le pieghe, tutti i bottoni, tutte le fettucce di quel terribile vestito color marrone. Scopriva dei piccoli movimenti abituali di lei, che non aveva mai osservati. Studiava i suoi denti bianchi, uno per uno. Faceva con l'occhio dei veri viaggi di esplorazione intorno alle sue forme, così profondamente assorto alle volte in quelle indagini amorose, che dimenticava di rispondere. O rispondeva a casaccio. Senonché, in questo gioco, egli perdette ben presto quella padronanza di sé che era necessaria ai suoi fini. A poco a poco, cominciò a pensare che fosse rivolta a lui la simpatia che essa mostrava per l'argomento delle loro conversazioni. Gli pareva ad essere salutato, guardato, ascoltato, in tutt'altro modo da quello di prima. Risentiva dei fremiti sotto lo sguardo che ella gli fissava negli occhi, nell'esporgli le sue ragioni. Fu due o tre volte sul punto di tradirsi, di afferrare il suo bel braccio per aria, quando accennava un movimento alla trave di sospensione. Si contenne, però, ma prese tanto coraggio da decidersi a una nuova prova, più accortamente preparata dell'altra, da tentare il primo giorno di maggio, quando ella fosse tornata in casa sua a portare la pigione. Credeva che questa volta non gli avrebbe più potuto dare una risposta assoluta. Un legame c'era fra loro. L'idea che, sposando lui, ella avrebbe avuto un collocutore intelligente per le sue conversazioni predilette, uno specchio riflettore perpetuo della sua passione dominante, una specie di segretario intellettuale, gli pareva che dovesse avere un gran peso sulla sua determinazione. Ed egli aveva in serbo, per dare l'ultima spinta, la rivelazione d'un piccolo segreto che, per una certa vergogna, teneva gelosamente nascosto da un po' di tempo a tutta la casa. Ma, ahimè, non era più un segreto per tutti. Il giorno prima di quello fissato da lui per far la sua terza dichiarazione, lo studente Ginoni, entrando in casa all'ora di desinare, diede una notizia che fece prorompere tutti in una risata. «Papà», disse incrociando le braccia sul petto, «ne vuoi sapere una incredibile? Don Celzani, va in palestra!» Ma alla risata succedettero esclamazioni di incredulità. Eppure egli l'aveva visto entrare alla palestra sul corso Umberto all'ora dell'entrata degli altri soci. Non c'era ombra di dubbio. Le speranze fondate da Don Celzani sul primo di maggio furono mandate a monte da un avvenimento imprevisto. Il commendatore che, per scansare le visite dei suoi pigionali, soleva ogni primo del mese passare la giornata di fuori, stette in casa quel giorno, ribadito come sempre sulla sua poltrona, come se li aspettasse. Don Celzani, che aveva preparato tutto per l'assalto, ne ebbe una stizza da addentarsi le mani. Sperò fino alle undici che egli si decidesse ad andarsene, poi perdette ogni speranza e prese a girare per le camere col diavolo in corpo. Ma un pensiero consolante gli balenò a un certo punto, che lo zio avesse curiosità di vedere un po' da vicino la Pedani e di discorrere con lei, poiché non erano corsi fra loro che dei saluti di scala, e che questo fosse un indizio di buone intenzioni. Dopo la visita al direttore, lo zio non gli aveva più parlato dell'affare. Ma Don Celzani capiva che egli non ignorava la persistenza risoluta della sua passione. Chissà, forse egli aveva davvero quel disegno. E allora il suo dispetto si mutò in impazienza. Sarebbe venuta come l'altra volta al tocco e mezzo. Al tocco, il commendatore era seduto nello scrittoio, con la sua maestosa testa bianca abbandonata sulla spalliera della poltrona e gli occhi azzurri al soffitto. Fosse politica o altro, quando la serva annunziò la Pedani, egli fece l'atto di andarsene e di cedere il posto al nipote. Poi cambiò idea. La maestra entrò e parve che non le spiacesse di trovare là il padrone di casa, forse perché questi rendeva impossibile una nuova dichiarazione che essa temeva. Il commendatore era con i suoi pigionali d'una rara compitezza e usava con il bel sesso delle forme straordinariamente rispettose e dignitose. Si alzò, si inchinò con gli occhi chiusi davanti alla ragazza e rimettendosi a sedere, insistè perché sedesse lei pure. Il segretario prese i denari e scrisse la ricevuta con le mani malferme, lanciando continui sguardi di sotto in su a tutti e due. Era preso da una commozione di ragazzo, come se la Pedani avesse fatto la sua prima entrata nella famiglia e si dovesse concludere il matrimonio in quella seduta. Ebbene, signorina, domandò il commendatore con dignità temperata da un sorriso cerimonioso quando il segretario ebbe rimesso il foglio alla maestra. Come va la ginnastica? Era evidente che voleva farla parlare lungamente. La maestra rispose che era sempre alle stesse. Una quantità di pregiudizi da vincere nei parenti delle alunne e anche nelle autorità. Per il che gli insegnanti dovevano sostenere una lotta continua, a scapito si intende, dell'insegnamento. «Nella ginnastica femminile soprattutto», disse il commendatore gravemente. «Nella femminile soprattutto», ripeté la Pedani animandosi. «Per un mondo di riguardi non fondati». «Essa lo saprà. Io non dico che si possa subito, con l'idea di adesso, attuare il concetto dei bomanisti avanzati di non fare alcuna differenza fra la ginnastica maschile e la femminile. Ma al punto a cui si vuol ridurre questa è veramente troppo». Il commendatore fece un cenno d'assenso con le palpebre. Il male, secondo lui, era che si insegnava la ginnastica per dar saggi negli spettacoli e nelle occasioni di visite ufficiali. Per questo si andava all'eccesso nella compassatura e nella riservatezza dei movimenti. «Non è vero?», domandò la maestra con vivacità. «È quello che io dico sempre». E, infervorandosi nel discorso, dimentica affatto o incredula di quello che l'ingegnere le aveva detto, con l'ingenuità d'una monomane, premette il tasto prediletto dell'ex assessore. «Dicono, le ragazze non debbono fare i movimenti che fanno i maschi. Ma io rispondo, o quei movimenti sono igienici o non lo sono. Se lo sono, come si possono omettere per dei riguardi che non si appoggiano sopra alcuna ragione seria. Perché il punto è questo. Le ragazze non hanno da fare ginnastica che davanti alle loro maestre o alle loro madri. Dunque, soppressi gli spettacoli che guastano tutto, è rimossa ogni difficoltà». Il commendatore approvò. Veramente, secondo la sua idea, gli spettacoli andavano lasciati stare. Ma non lo disse. Si restrinse a fare un'osservazione generale sul grande bisogno che c'era, specialmente per le ragazze, d'una ginnastica più energica, più conforme a quella che era in voga in Germania. La generazione nuova, a suo giudizio, lasciava molto a desiderare. Aveva toccato la corda più viva della maestra. «Se lascia desiderare», esclamò questa. «E ancora che lei, signor commendatore, non è al caso di farsene un'idea precisa. Ma noi che le vediamo bene, le nostre ragazze, che abbiamo il dovere di esaminarle, di tastarle, noi tocchiamo con mano l'assoluta necessità che lei dice. Se lei potesse vedere...» Il commendatore socchiuse gli occhi e prestò una profonda attenzione. «Se lei vedesse», continuò la maestra, «che povero sangue! Non dico di quelle che hanno dei veri difetti d'organismo, ma ce n'è un gran numero che hanno una costituzione abbastanza buona, senza alcun vizio organico né alcuna infermità spiegata. Eppure mettono a pietà. Sono cresciute in fretta, ma se è soltanto allungato lo scheletro. Il sistema muscolare non si è svolto in proporzione. Non hanno spalle, né braccia, né petto. Non è il caso davvero di temere le pressioni sul davanti, come temono le mamme. Per il più piccolo sforzo sono anelanti, sudano. Ce n'è che svengono. Pagliono bambine uscite di malattia. Fa dispetto vedersi mettere delle restrizioni monacali all'insegnamento per ragazze simili, che non dovrebbero fare altro che ginnastica dalla mattina alla sera. «Quali restrizioni le sono poste, generalmente?» domandò il commendatore guardandosi le unghie. «Ma, d'ogni specie, rispose la Pedani, vogliono ristrettissimo l'esercizio d'abduzione e sollevazione delle gambe, e che so io. Poi alle parallele e al volteggio, e anche alla sbarra fissa. Nessuno degli esercizi in cui sia necessario sollevare gli arti inferiori. Per le grandicelle non salita alla corda, né alla pertica, domando io». E tirò avanti. Il commendatore ascoltava, con gli occhi azzurri fissi alla volta, come immerso in una contemplazione celeste, muovendo lentamente il capo in segno d'assenso. «E con questo, continuò la maestra, ciò che ci appassiona sempre più per le nostre idee è il vedere che progressi si ottengono anche con quel poco che ci è permesso. Lei non può credere il mutamento che si nota dopo un mese di ginnastica nelle ragazze dai 12 anni in su, e tanto più in quelle che sono magre e anemiche per malattie sofferte nell'infanzia o per l'infatismo acquisito. In un mese si allarga il rossore delle guance, che era soltanto un cerchietto. Le braccia s'arrotondano, il dorso si raddrizza, i muscoli si rilevano. Alle volte, a guardarle di dietro non si riconoscono più. Pagliano donnine fatte. Hanno acquistato quella eleganza e sveltezza dei movimenti che formano la vera bellezza estetica. Specialmente negli arti inferiori, uno sviluppo da far rimanere sbalorditi. È veramente una cosa consolante». Sì, era consolante anche per il commendatore, che seguitava il corso dei suoi pensieri, e fece una domanda che parve scaturire da una profonda meditazione. «Oltre a questo», disse, «ella avrà anche delle particolari soddisfazioni da quelle poche che hanno per la ginnastica un'attitudine fisica eccezionale e un ardore uguale al suo, perché sopra un gran numero ce n'ha da essere sicuramente». Esso chiusi gli occhi, tornò a fissarli in alto come per assaporare la risposta. «Ah, questo sì», rispose la maestra eccitandosi, «ce ne sono. E io ormai le conosco alla prima occhiata, la prima volta che si presentano, che non è poi tanto facile. Perché non sono mica sempre quelle più asciutte e d'apparenza più svelte, che hanno le migliori attitudini?». Queste derivano dalla struttura più o meno armonica delle membra. Ci sono delle grasse, per esempio, che si crederebbero pesanti e impacciate, e hanno invece un'agilità, un'elasticità da far stupire. Bisognerebbe che il signor commendatore potesse vedere nelle ore di ricreazione alle figlie dei militari? Il commendatore chiuse gli occhi. «Perché», seguitò la maestra, «il regolamento della ginnastica può restringere i movimenti finché vuole, ma poi, fuori della lezione, le più brave fanno quello che vogliono. Ce n'ho una dozzina a San Domenico, fra i 14 e i 18 anni, che potrebbero dare spettacolo in un teatro, delle vere acrobate, che fanno dei giri sulla sbarra fissa, da darle vertigini, dei salti con la pedana ad un metro e mezzo d'altezza dei volteggi». Esso giunse con un sorriso. «Fortuna che non c'è spettatori. Maledico, delle braccia e delle gambe d'acciaio, dei vitini che scattano come molle. Una bellezza, le assicuro. E dire che si potrebbero ridurre tutte così. Sarebbe una benedizione». Sì, sarebbe stata una benedizione. Il commendatore ne era persuaso più di chi che sia. E dopo una breve meditazione, riscuotendosi tutto un tratto, disse il suo pensiero. «Speriamo, signora maestra, che a poco a poco ci si verrà. Le buone idee finiscono sempre con vincere. Intanto le resistenze cedono da tutte le parti. E lei prosegua con costanza il suo apostolato, che fa un'opera santa per il bene delle nostre povere bambine. Gliene dobbiamo tutti essere grati». La maestra salzò ringraziando. S'alzò egli pure e, prevenendo il nipote, l'accompagnò garbatamente fino all'uscio, dove le fece un inchino profondo. Il segretario, che per tutto quel tempo era rimasto in piedi, in disparte, immobile, non perdendo una sillaba della conversazione e spiando a vicenda i due visi, gongolava al pensiero che la maestra doveva aver fatto allo zio un'eccellente impressione. Questi, ritornato indietro, si fermò in mezzo alla stanza e, passandosi una mano sulla canizie maestosa, disse con accento paterno, quasi parlando tra sé, «Una simpatica signorina!» e rimase come assorto nel suo pensiero. «Dunque», domandò trepidando Don Celsani, «Lei non avrebbe più da fare alcuna obiezione?» Lo zio parve che non capisse subito quello che voleva dire, poi, quando capì, rispose trascuratamente. «Per me nessuna, solamente», soggiunse guardando il nipote da capo a piedi. «Hai il suo consenso?» Questi prese il suo atteggiamento di chierico con una mano nell'altra e, abbassando gli occhi sfavillanti, rispose con voluta umiltà. «Lo spero!» «Vedremo», disse lo zio, squadrandolo ancora una volta e, risedutosi sulla poltrona, con la nuca alla spalliera e gli occhi socchiusi, si sprofondò da capo nei suoi pensieri. Don Celsani fu felice. La via, dunque, era interamente liberata e, dopo quella visita, la maestra doveva essere anche meglio disposta di prima. Egli contava di fare avanti una domanda di prova con le debite cautele e poi la mossa suprema quando la prima fosse stata bene accolta. Questa la poteva fare dove si fosse. Cercò dunque l'occasione per le scale, ma fu sfortunato. L'Azibelli aveva rifatto con l'amica la sua centesima riconciliazione, provocata da una delle cause solite. Lo studente Ginoni, visti respinti i suoi assalti successivi dalla Pedani, in parte per fare rappresaglia, in parte per certa grossa malizia di ragazzone con la quale credeva di spremere l'amore dal dispetto, si era messo a fare delle piccole cortesie agli Azibelli. Non una corte spiegata, ma una specie di asineggiamento semiserio, delle conversazioni amichevoli, qualche mazzetto, delle strette di mano espressive quando la incontrava sola. E pur senza dar gran peso a quelle dimostrazioni, l'Azibelli, non sospettandone il perché, le gradiva come una carezza al suo amor proprio, una ricreazione, un pascolo piacevole dato alla sua fantasia. Per questo, ritornata in buona con la Pedani, ogni volta che sapeva di non incontrare il giovane, le si riaccompagnava uscendo e rientrando, come in passato. Don Celsani fallì dunque per causa sua vari appostamenti. Una volta, mentre egli stava per cogliere la bella tutta sola, uscì di casa il professor Padalocchi e la fermò per lagnarsi della solita difficoltà di respiro e dirle che la rotazione delle braccia, suggeritagli da lei, lo affaticava troppo. Dopo avere un po' pensato, la maestra gli consigliò la lettura ad alta voce, dicendogli che l'acceleramento della respirazione in questo esercizio era calcolato in 1,26. Badasse però di leggere con una cravatta larga. Ne avrebbe risentito un vantaggio. Il segretario sperò che fosse finita, ma il terribile vecchio chiese dei chiarimenti sui movimenti di flessione della ginnastica Schreber, e allora egli rinunciò al suo proposito. L'aveva un'altra volta quasi raggiunta, sola, ai piedi della scala, rientrando in casa, quando eccoti dietro l'ingegner Ginoni, che pure rientrava. Dopo che Don Celsani era ricascato nella sua passione, quelli aveva ripreso a far con lui la sua parte di protettore, tra benevolo e canzonatorio. Ma questa volta gli diede un dispiacere. «Signorina Pedani», disse con la maggiore serietà, mettendo una mano sulla spalla al segretario, «le faccio la presentazione di uno dei più assidui e valenti acrobati della palestra di Torino». Don Celsani fremè, negò, arrossendo, acceso di dispetto, si sarebbe voluto nascondere, e augurò il malanno in cuor suo all'impertinente. Ma la maestra fece un'esclamazione di lieta meraviglia, guardandolo, come per cercare i cambiamenti che la ginnastica aveva prodotti nella sua persona. In quel momento, appunto, egli stava nel solito atteggiamento pretesco, ma a lei parve di vedergli un che di più vivo negli occhi. Non di meno dubitò d'uno scherzo. «Vedete che non lo può negare due volte», disse l'ingegnere. «Creda, signora maestra, che il fatto d'aver mandato Don Celsani alla palestra sarà la più meravigliosa delle sue prodezze». Quel don ferì un'altra volta nel vivo il Celsani. Ma egli vide in viso della ragazza un sorriso così sincero e di compiacimento, senza ombra di canzonatura, che si consolò. Sì, il momento era giunto. Egli avrebbe fatto bene a non tardare nemmeno più d'un giorno. E la sera stessa, infatti, prima di notte, all'ora in cui sapeva che la Zibelli era fuori, preso il pretesto di andare a vedere se si era fatto un certo guasto nel tubo dell'acqua potabile, salì in casa della Pedani. Sperava di essere ricevuto nella sua camera. Ella lo ricevette invece nel salotto, in piedi. Vestiva la blusa da ginnastica di rigatino turchino, che le disegnava ammirabilmente le spalle, e una gonnella bianca, con una macchietta d'inchiostro sopra il ginocchio. Aveva per la prima volta l'aspetto un po' imbarazzato, ciò che stupì Don Celsani. Ma l'imbarazzo non derivava tanto dalla visita di lui, della quale indovinava lo scopo, quanto dalla certezza assoluta che l'aveva, come se la vedesse, che la donna di servizio, appostata dietro all'uscio, non avrebbe perduto una sillaba dei loro discorsi. Fu quindi costretta ad essere breve e quasi dura nelle parole, cercando di temperare quella durezza con l'espressione del viso. «Signorina», disse piano Don Celsani, tremando dopo aver parlato ad alta voce del tubo, «vengo a domandarle se è sempre della stessa idea». Essa lo guardò con aria benevola, diede un'occhiata all'uscio e ripetì con leggero accento di rammarico le sue stesse parole. «Sempre della stessa idea», Don Celsani impallidì e domandò più piano. «Irremovibile?» La maestra tornò a guardare verso l'uscio e, chinando un poco il viso in atto di pietà, rispose «sì». Il segretario si passò una mano sulla fronte e sbarrò gli occhi. Quella risposta l'aveva paralizzato. Non trovava parole. Il silenzio si prolungava. Non si poteva restare così. La maestra, che neppure sapeva che cosa dire, fece un atto di inquietudine che egli notò. «Allora», disse, «me ne vado». Essa non rispose. Egli si mosse. E quando fu vicino all'uscio, voltando indietro il viso stravolto, con un accento disperato che avrebbe fatto scoppiare da ridere uno spettatore indifferente, «dunque», disse, «nel tubo dell'acqua potabile non c'è niente da fare». Quel contrasto ridicolo tra la voce e la parola toccò nel cuore la ragazza più di qualunque supplica. Ella fu tentata di dirgli qualche cosa per consolarlo, ma la coscienza le vietò d'illuderlo e disse soltanto, con un sorriso affettuoso e pietoso che egli non vide. «No, signor Celzani, non c'è nulla da fare». Quelli rispose con un singhiozzo nella gola. «Tanti rispetti». Ed uscì. E allora si disperò, perché allora l'amava con tutta l'anima, con un misto di sensualità ardente e di tenerezza infantile, avivate continuamente dal pensiero di quell'abbraccio che l'aveva inebriato, dal ricordo dei loro colloqui familiari, di tante trepidazioni, di tante speranze, di tanti disinganni che gli parevano la storia di metà della sua vita. E non sognò nemmeno di ribellarsi alla propria passione come l'altra volta, perché sentiva che non era più possibile. «No, a prezzo di qualunque tormento doveva continuare a vederla, a parlarle, a strisciarle intorno come un cane, a mettersi tra i suoi piedi ad ogni passo, a sentire il suo profumo di gioventù e la sua voce profonda, a godere almeno della sua pietà, a torturarsi l'immaginazione, il cuore e la carne sotto i suoi occhi. E i tormenti si inasprirono, ed egli se li cercò. Con l'avvicinarsi dell'estate, ella alleggerì ancora il suo abbigliamento, mettendo le sue forme in una evidenza che lo faceva delirare. Egli risalì sul soppalco a inginocchiarsi tra la polvere e le foglie secche, col viso all'abbaino. E la vista di lei, che dava allora le sue lezioni col busto scoperto, mostrando nude le spalle larghe e le braccia stupende, lo martoriava. E anche quando non la poteva vedere, stava alle volte un'ora a sentire la sua voce. Ecco i comandi. Prona, supina, palme in avanti, palme indietro, slancio simultaneo delle braccia. Gli risonavano nell'anima come esclamazioni d'amore. Egli non dormiva più la notte per raccogliere tutti i rumori di sopra, al più lieve dei quali sussultava come se si fosse sentito i suoi piedini sul corpo. E s'affaticava il cervello in quel dormiveglia febbrile a immaginare astuzie e industrie temerarie per poterla vedere. Dei buchi nel solaio, dei trafuramenti di muri, delle combinazioni di specchi, dei nascondimenti impossibili. E al punto d'eccitamento a cui era arrivato non si guardava più dai vicini per appostarla. Usciva, entrava, risaliva tutte le ore, la seguiva per la strada, l'aspettava nel cortile, pigliava tutti i più futili pretesti per parlarle. Le offriva ogni specie di strani servizi, in presenza di chi che sia, non più collare ad un pretendente, ma d'uno schiavo, faticandola con uno sguardo fiammeggiante ma umile, che non chiedeva amore ma compassione, ripetendo come l'eco ogni sua parola, abbracciando in un solo sentimento di smisurata ammirazione la sua persona, il suo ingegno, la sua fama crescente, la più comune e più vuota delle sue frasi. E si frenava ancora in sua presenza, ma non più quando era passata. Si metteva allora una mano sulla bocca, guardandola di dietro, e soffocava a quel modo il grido dell'amore e del desiderio, che usciva in un sospiro lamentevole e sordo. E non osava quasi più, come altre volte, fermare l'immaginazione sulla felicità di un possedimento intero, poiché, tolto appena l'ultimo velo al suo idolo vivo, gli si apriva alla mente un tale abisso luminoso di volutà, che egli ne rifuggiva di volo per terrore della pazzia. E allora, per quietarsi, ricorreva ai pensieri dell'affetto, immaginava la casa nuova di sposo, disponeva i mobili, si rappresentava nelle scene affettuose, vedeva una culla bianca. Ma la passione lo assaliva subito anche in quel rifugio. Egli vedeva un'altra culla, dieci, venti, un popolo uscito dal suo amplesso. E non gli bastava ancora, e si tormentava ancora la fantasia su quella persona che gli rimaneva sempre davanti, fresca e potente, come l'immagine della giovinezza immortale e della volutà eterna. E questo ardore cresceva di giorno in giorno nella familiarità amichevole che ella gli veniva rendendo, credendolo rassegnato al suo rifiuto. La giornata intera non gli bastava più a quella varia e vertiginosa successione di fantasticherie, di corsi all'abbaino, di conversazioni di cinque minuti guadagnate con mezz'ora d'attesa, di impeti improvvisi e solitari, di tenerezza e d'angoscia, nei quali soffriva e quasi godeva di soffrire. La sua mente rifugiva dal lavoro, la sua memoria soffuscava per tutti i suoi affari, la sua vita si disordinava, la sua salute stessa s'andava alterando, il suo viso pigliava un'espressione nuova, bizzarra, fanciullesca, spaurita, unita a quella d'una grande bontà ingenua ed attonita, come d'un uomo rapito nell'adorazione perpetua d'un fantasma fuggente nell'aria. L'ingegner Ginoni, che seguiva con occhio curioso ed accordo questo crescendo, incontrata una mattina la maestra Pedani nel cortile, si fermò a cinque passi davanti a lei e le fece scherzosamente un atto minaccioso con il bastone. Poi si avvicinò e tradusse l'atto in parole. «Ah, spietata signorina! Ma non lo sa lei che il povero Don Celsani si va perdendo per cagion sua?» La maestra non capì. «Ma positivamente!» continuò l'ingegnere. «Egli va perdendo la cucuma!» e disse quello che aveva inteso dal commendatore. Da un po' di tempo la segretaria non camminava più, l'amministrazione andava a rotta di collo, gli inquilini dell'altra casa di Vanchiglia erano venuti a fare il diavolo col padrone perché non ricevevano più risposta ai loro richiami. Il bravo segretario si era fatto multare due volte per aver tardato a pagare le tasse di registro. «Ecco», soggiunse, «a che cosa conduce la ginnastica? Ecco i funesti effetti dell'esercizio del sistema muscolare sulle funzioni del cervello». Ancora tre giorni addietro, il povero Don Celsani si era lasciato infinocchiare miseramente nella vendita di 800 quintali di fascine e di legna dei poderi dello zio, facendo uno sbaglio d'addizione che costava al commendatore 112 lire e 75 centesimi. Il commendatore gli aveva fatto una partaccia, era fuori dai gangheri. Se Don Celsani gliela faceva ancora una e egli aveva deciso di dispensarlo ipsofatto dai suoi servizi e di mandarlo a spasimare in casa ad un altro. E lei, fredda di cor vulneratrice, aveva il coraggio di rovinare in quella maniera un povero galantuomo. La Pedani non sorrise. La cosa le rincresceva davvero e lo disse fissando gli occhi a terra come assorta in un pensiero. «Mi rincresce», poi soggiunse. «Io non ho nessuna colpa, però». «Questo è il male», rispose l'ingegnere ridendo. «Perché se ci avesse colpa sarebbe obbligata a riparare». «E allora, veda un po' quanti beni». «Il segretario non perderebbe la testa, il commendatore non perderebbe il segretario». «Povero segretario, un cuore d'oro in fondo, un uomo onesto, la miglior pasta di abatino forviato che Dio abbia messo in terra. Solamente alla disgrazia di aspirare alla perfezione delle linee. E la perfezione, si sa, non la raggiungono che i privilegiati». Qui diede in una risata. «Che prodigio! Dire che lei ha mandato Don Celsani alla cavallina». «Basta», soggiunse il ginoni, «che dal salto della cavallina non passi a quello del ponte del Po». «Oh, signore ingegnere», disse la Pedani con un sorriso, ma non senza inquietudine. «Il signor Celsani non è uomo da fare queste cose». «Eh, signorina», rispose il ginoni, «l'uomo anche più mite e più ragionevole del mondo per se stesso è come dell'acqua in un bicchiere. Che trabocchio no, dipende dal grado di forza della polvere effervescente che ci mette dentro la passione». Detto questo, la salutò e quella si avviò per le scale, pensierosa. Ma uscì ben presto da quel pensiero, poiché la sua passione sovrana riceveva in quei giorni un alimento potentissimo dalle notizie che giungevano d'ora in ora delle grandi feste del congresso ginnastico di Francoforte. Ogni giornale che Eliene recava nuovi particolari rinfiammava il suo entusiasmo. Essa vedeva l'arrivo delle rappresentanze alla città, ricevute dal borgomastro e da una folla immensa di cittadini. Vedeva la gran processione trionfale di 14.000 ginnasti d'ogni paese del mondo, giovanetti, uomini canuti, uomini sul fiore degli anni, sventolanti centinaia di stendardi, accompagnati da 2.000 cantanti delle società corali che s'avanzavano per le vie coperte di bandiere, sotto gli archi trionfali, fra le case decorate di corone e di ghirlande, sotto una pioggia di fiori. Vedeva la palestra smisurata con la statua colossale della Germania e gli attrezzi innumerevoli e 20.000 spettatori plaudenti a miracoli di forza, di destrezza e d'ardire. Si rappresentava la maschia figura del Möller, il vincitore del primo premio, che agitava la sua corona di quercia fra gli urrà frenetici d'un popolo. Si raffigurava quell'esercito di gagliardi sparsi per l'antica città, dove appariva ad ogni passo il ritratto di Jean Turbater, mescolati fraternamente alla cittadinanza, affollati intorno ai ginnasiarchi più celebri, a scrittori, a dotti, a medici, a riformatori, ragionanti in venti lingue diverse di tutto ciò che essa amava e ammirava, inebriati tutti dall'idea rigeneratrice della razza umana, dal soffio di gioventù e di grandezza che spirava nell'aria come un grande spettacolo antico di Corinto e di Delfo. Oh, come tutto questo era bello e grande! Il pensiero di poter concorrere, anche per poco, nel suo angusto campo, a preparare al proprio paese delle giornate simili, diffondendo la fede negli effetti meravigliosi dell'educazione fisica ed eccitando altri a diffonderla come il verbo di un'età nuova, le accendeva l'anima, le illuminava tutte le facoltà, le triplicava le forze al lavoro. In quei giorni, appunto, stava preparando un discorso a quel proposito da pronunciare al prossimo congresso nazionale degli insegnanti primari che si doveva inaugurare a Torino e, avendo avuto ottimo successo una raccolta di vari articoli pubblicata dal Campo di Marte, nei quali essa aveva caldeggiato l'istituzione in ogni grande città d'un corpo di pompiere volontarie, si apparecchiava a tenere una conferenza su quell'argomento nella sala della scuola Archimede e intanto riceveva da molte parti incoraggiamenti, lettere di congratulazioni, proposte e quesiti di filoginnici appassionati e a tutti rispondeva. Certo, il più forte impulso a tutto questo lavoro glielo dava la ferma e calda persuasione di fare del bene che era viva in lei fin dalla prima giovinezza. Ma col crescere della notorietà e del plauso pubblico vi si cominciava a mescolare una compiacenza prima non conosciuta, un'idea d'ambizione che ella non voleva confessare a se stessa, e con questa un altro senso nuovo, il turbamento che dà la prima coscienza della rinomanza, una certa amarezza di non sapere in chi versare il peso della sua vitalità intellettuale e morale, il quale l'agitava, vinceva la forza nativa della sua tempra e faceva sì che si sentisse più donna di quello che si fosse sentita mai. Per lei, che non aveva mai sognato d'uscire dalla più modesta oscurità, quel po' di rumore che si faceva in un angolo del mondo intorno al suo nome era la gloria, e la gloria è solitudine. E quando sentiva questa solitudine, durante le interruzioni del suo lavoro, nei giorni in cui l'amica non le parlava, il suo pensiero andava qualche volta al povero Don Celzani, non come a un amante, ma come a un amico. E allora ella stava per un momento con la sticciola della penna appoggiata al labbro di sotto e con un leggero sorriso di benevolenza rivolto alla sua immagine. Egli l'amava senza dubbio ed essa capiva che la sua era una di quelle passioni che hanno materia da ardere per tutta la vita. Soltanto. Tenne la sua conferenza sulle pompiere volontarie. Aveva scelto male la serata. C'era poca gente, fra cui una trentina di signore e un gruppo di studenti. Ma riportò fra quei pochi, per la singolarità del soggetto e la vivezza originale dell'esposizione, un caloroso successo. Uno dei primi che le corsero a stringere la mano fu il giovane Ginoni, con tanto di faccia fresca, come se nulla fosse accaduto fra loro. Anzi, con un sorriso scintillante in cui ella lesse con rammarico la risurrezione del suo capriccio. Infatti, al veder lei per la prima volta in pubblico, ammirata e applaudita, la sua passioncella aveva ripreso fuoco per la miccia della vanità. L'idea degli squisiti godimenti d'amor proprio che egli avrebbe assaporati, quando fosse riuscito a vincerla, ogni volta che l'avesse vista e udita a quel modo, gli diede come un solletico irresistibile. E non conoscendolo a fondo, si decise a una nuova mossa da giovanotto impetuoso e leggero, che crede nell'onnipotenza dell'assalto alla baionetta. Il giorno dopo, all'ora in cui soleva uscire da sola, egli l'aspettava sul pianerottolo del primo piano. Pioveva, la scala era buia, quindi propizia, per avere un moto d'entratura, egli aveva comperato dal Barry un ritratto del Meller, il vincitore del primo premio di Francoforte, del quale in pochi giorni si erano diffuse migliaia di fotografie in tutta l'Europa. Quando la sentì scendere, salì verso di lei. Essa era veramente bella quel giorno, ancora un po' eccitata dal piccolo trionfo della sera precedente, tutta vestita di scuro, con un grande cappello nero che incoronava mirabilmente la sua forte e snella persona. Il giovane si levò il cappello e con allegra disinvoltura, mettendole davanti la fotografia, «Signorina», le disse, «mi permette di offrirle un ritratto che forse è curiosa di vedere?». Essa avvicinò il viso con diffidenza, ma appena letto il nome emise un'esclamazione di piacere. «Meller!» e, preso il ritratto, si accostò al muro per vederlo meglio, sotto quel po' di luce che veniva dal finestrino della scala. Il giovane le si strinse al fianco, come per guardare egli pure, e, sporgendo il mento sopra la spalla di lei, cominciò a dare delle spiegazioni a bassa voce, segnando con l'indice della mano destra. «Questo è un vero tipo tedesco. Guardi la struttura del cranio, guardi che bocca! Eppure, se non si sapesse, non si direbbe che è il primo ginnastico della Germania. Non pare piuttosto un pacifico professore di letteratura?» «Non mi vorrà mai dire una parola consolante. Sarà sempre così indifferente con me. Avrà sempre un cuore.» Il passaggio da una domanda all'altra era stato così naturale che la maestra non v'aveva subito posto mente, ma lo avvertì bene e meglio, sentendosi la guancia di lui contro la sua e un braccio intorno alla vita. Si divincolò con una brusca mossa, indignata, dicendo «Signor Ginoni, questo è un agguato ignobile!» Il giovane si tirò indietro per farle una risposta comica, ma la rattenne e si rabbuiò, vedendo apparire in capo alla scala la faccia stravolta del segretario, il quale veniva giù lestamente con un ritratto del Meller lui pure. Non di meno egli non fu scontento di trovare una scappatoia alla sua brutta figura. «Che cosa ci fa lei qui?» domandò al segretario, che si era fermato e lo fulminava con gli occhi. «Non viene mica a riscuotere la pigione?» Il segretario non seppe far di meglio che ripetere fremendo le parole della maestra. «È un ignobile agguato!» «Caspita!» riprese il giovane mentre la maestra se ne andava lentamente. «È un eco perfetta!» salvo la trasposizione dell'aggettivo. «Soltanto, Obadi, le parole dette da lei io le piglio in tutt'altro senso!» «E osa ancora!» esclamò il segretario, quasi fuori di sé. «Se non fosse il rispetto che ho per il suo signor padre!» «Oh, per carità!» interruppe lo studente. «In queste cose non c'entra né il signor padre né la signora madre. Sono venni che sono slattato. Qui non ci sono che due uomini. Ma, per non sciupare il fiato, mi dica, lei è uno di quei segretari che si battono?» «Sì!» rispose ad alta voce Don Celsani, pigliando un'impostura troppo tragica per l'occasione. «Sono uno di quelli che si battono!» «E allora basta così!» disse il giovane risoluto. «Avrà l'onore di rivedermi!» e, voltate le spalle, rientrò in casa sua. Un'ora dopo, l'ingegner Ginoni, informato d'ogni cosa dalla Pedani, prendeva il cappello, seccato, e saliva le scale per andare dal segretario col fine di prevenire ogni passo del suo figliuolo. In fondo, benché spiacentissimo dell'offesa fatta alla signorina, considerava la provocazione del giovane come una ragazzata. Ma da uomo di mondo, che conosceva i riguardi dovuti all'amor proprio ad un giovanotto vivo, capace di intestarsi e a voler condurre a fondo la cosa, la voleva accomodare all'amichevole, non già ritrattando la provocazione in nome di lui, ma proponendo una conciliazione, per la quale si facesse un passo avanti dalle due parti. Si presentò dunque al segretario che trovò solo, coi modi cordiali di un amico. Ma quegli, eccitato sempre dalla passione, eccitatissimo allora dalla gelosia, lo ricevette con un sussiego di cui l'ingegnere durò fatica a non ridere. Affabilmente questi gli disse che era stato informato dalla maestra e che era venuto per comporre la contesa da buoni amici. Deplorava l'atto del figliuolo, ma il duello sarebbe stato una pazzia, un'assurdità ridicola di cui non c'era neppure da discorrere. Bisognava assopire la cosa immediatamente. «Andiamo, caro segretario», disse. «La maestra Pedani è fuori di questione. Io posso fare, in nome di mio figlio, per quel che riguarda la signorina le più ampie scuse, com'è di dovere, ma per ciò che riguarda lei non ci fu che un po' di vivacità dalle due parti. Lei non ha che ammostrare un po' di buon volere e la cosa non avrà seguito alcuno», ne rispondo io. «Ma Don Celsani non era più il Don Celsani di una volta». Stette su. «Io sono stato offeso», disse. «Andiamo», rispose l'ingegnere. «Le parole più gravi che si siano pronunciate sono ignobile e agguato, e le ha dette lei. Chi ha più giudizio, più ne metta. Lei ha quindici anni di più. Non è il caso di stare sui puntigli, che diavolo!» Ma il segretario l'aveva a morte per quel certo braccio intorno alla vita. Questo era il punto, non la provocazione. Per questo era di difficile accomodamento. «Pretende forse che io mi umili?» domandò rizzando la cresta. «Ma di che omiliazioni mi va parlando!» esclamò l'ingegnere. «Non si tratta di questo. Si tratta di salvare l'amor proprio di un giovanotto che ha lanciato una provocazione. Non la vuol capire. Si tratta di fare in maniera che non sia costretto a darci seguito. Non ha che da dire che le rincresce da aver pronunciate quelle due parole e le rispondo io che è tutto finito. Oh, santi Dio! Ma per punto d'onore o per gelosia che è tanto duro?» Don Celsani rispose solennemente. «Per l'uno e per l'altro». L'ingegnere lo guardò e perdette la pazienza. «Non credevo», disse contenendosi a stento, «che l'amore gli avesse vuotato il cervello a questo punto. Ma dunque lei cerca un duello?» Quegli alzò il capo e rispose con tono veramente eroico. «Non lo cerco, ma non lo temo». «E allora le dirò che è matto nel mezzo della testa», gridò l'ingegnere esasperato. «E se le piglierà, saranno sue!» e uscì sbattendo l'uscio con violenza. Un'altra scena tragicomica seguiva poche ore dopo al piano di sopra, scagionata dal medesimo fatto. La Pedani, essendo rientrata in casa, all'ora di mettersi a tavola con il viso un po' turbato, la sua amica, che era allora in buon accordo con lei, gliene domandò il perché, amorevolmente. Poco tempo addietro, ella non avrebbe rifiatato. Ma ora che cominciava a sentire il bisogno di aprire l'animo, raccontò per filo e per segno, senza un sospetto al mondo, quello che era accaduto, esprimendo la sua inquietudine per ciò che ne poteva seguire. Alle prime parole, la Zibelli ebbe un colpo al cuore, dissimulò non di meno e stette a sentire fino all'ultimo. Ma non poter rispondere una parola, tanto la rabbia la soffocava. Anche lo studente! Ma era nata per la sua dannazione quella malaugurata creatura. E chissà da quanti mesi durava quell'amore, a cui da qualche settimana ella serviva di divagazione e forse di stimolo. Non terminò di mangiare, disse che non si sentiva bene, ma se non si sfogava schiattava. E non potendosi sfogare per dignità su quell'argomento, ne cercò un altro con impazienza febbrile. Finita in fretta la sua cena, la pedania perse sulla tavola ancora apparecchiata un atlante del Bowman e prese a esaminare le figure. La Zibelli passeggiava per la stanza, mordendosi le labbra. A un tratto si fermò dietro alle spalle dell'amica e dando un'occhiata ai disegni esclamò «Che atteggiamenti da pagliacci, Dio mio!» Stuzzicata da quella parte, la pedani si risentiva subito e sempre. Rispose «Ma trovate una volta una critica nuova, se potete. Non fate che ripetere da anni e anni le stesse dieci parole. È perché sono sempre giuste», ribatté la Zibelli. «E poi, finché farete i sordi e starete sempre in adorazione del gran capo acrobata, come gli artisti pagati d'una compagnia». Era un'impertinenza. Ma la pedani non pigliava mai nulla per sé, non vedeva che l'argomento contrario. «Gran capo acrobata», esclamò con un sorriso ironico. «Ha più buonsenso e talento il Bowman, in un dito mignolo di quel che ne abbiano nel cervello tutti gli obermannisti passati, presenti e futuri. La questione è conclusa». «Ah, non ancora», rispose la Zibelli facendo una spallata. «Il Bowman è un grande sconclusionato, che fa, disfa, senza avere nemmeno un'idea chiara e fissa del proprio metodo, e mette il mondo sottosopra per fare rumore. Non è altro». «Il Bowman», disse paccatamente la pedani, «ha dato una ginnastica all'Italia, che non l'aveva». «Ma come si può dir questo?», rispose la Zibelli, «mentre non ha fatto che esagerare tutto quello che c'era e voltare il modello in caricatura, che è la cosa più facile di questo mondo». «Oh, è un'indegnità», esclamò la pedani. «E chi, fra le altre cose, ha insegnato per primo al vostro obermann la ginnastica fra i banchi? E come potete parlare voi in nome dell'obermann, che era progressista, che sarebbe vomannista ora se vivesse, senza un dubbio al mondo, perché aveva talento, mentre voi non siete nemmeno conservatori e degenerate ancora da lui?». La Zibelli diventò livida e smise di ragionare. «Ebbene», rispose, «se anche fosse, tutto è preferibile all'andare avanti con voi altri, con la vostra ginnastica da alcidi di piazza, pericolosa per i fanciulli, indecente per le ragazze, brutale e ciarlatanesca per tutti». Quando l'amica dava in escandescenze, la pedani ritornava padrona di sé. «Ebbene», rispose con trascuranza, «lasciate che ci rompiamo la testa noi e tenetevi la vostra ginnastica da marmocchi. Non vi farete la bua e salverete il pudore». Questo fece uscire la Zibelli dalla grazia di Dio. «Non voglio essere derisa, per giunta», gridò. «Sono stanca ad essere ingiuriata. È un pezzo. Non ne posso più! Non ne posso più!» E uscì sbatacchiando l'uscio con tutta la sua forza e lasciandola pedani col suo atlante davanti, più stupita che offesa. Ma anche più stanca che mai di tutti quei mutamenti, di tutte quelle sfuriate, di cui non sospettava che vagamente la cagione, ma che diventando sempre più frequenti, le rendevano ormai insopportabile quella convivenza. Tutto andò sempre più attraverso in quei giorni, anche per Don Celsani. Egli non vide i padrini dello studente, perché l'ingegnere aveva rigorosamente proibito al figliolo di dar corso alla cosa. Ma incontrando due giorni dopo la signora Ginoni, che era sempre stata gentile con lui, fino a fargli portare qualche volta a braccetto su per le scale e la sua magrezza indolente, ebbe il dolore di non vedersi restituito il saluto. E sarebbe stato offeso ancora di più dell'affronto se avesse saputo che quella brava signora non l'aveva diretto all'offensore del figliolo, ma all'innamorato della maestra, come quello che intralciava al suo adorato Alfredo una conquista galante, sulla quale ella sarebbe stata lieta di chiudere i suoi occhi materni. Ebbe poi il colpo di grazia, quello stesso giorno, ricevendo il medesimo affronto dall'ingegnere Ginoni, che li passò accanto in via San Francesco senza neppure voltarsi a guardarlo. Era dunque rotta ogni relazione con tutta la famiglia, e questo crebbe ancora lo stato d'eccitamento morboso della sua passione. Ebbe altri dispiaceri il giorno di poi. Fra le altre ragazze, che salivano a prendere lezioni private di ginnastica al terzo piano, vera una specie di zingarella coi capelli corti, figliola ad una venditrice di pomate e di saponette, e maestra di ginnastica essa pure, la quale andava dalla pedania a farsi fare delle combinazioni di passi ritmici, che poi dava per sue. Ed essendo molto appassionata per l'arte, e un po' stramba, faceva continui esperimenti, dovunque fosse, con le gonnelle alla mano, come se avesse il ballo di San Vito. Ora, le signorine devote del primo piano, avendo la sorpresa due volte sul pianerottolo, mentre dava dei saggi a calze scoperte a un'altra allieva della Pedani, scandalizzate e furiose, mandarono a chiamare il segretario perché impedisse quelle indecenze, e gli dissero che non si sapeva più che cosa, per causa della Pedani, fosse diventata la casa. Il segretario, punto nel suo amore e già maldisposto, rispose con male parole, quelle lo rimpolpettarono, e lì alzò la voce, e allora lo misero all'uscio, minacciando di ricorrere al padrone e ordinandogli di non salutarle mai più. Gli seguì anche di peggio nei giorni seguenti. Il professor Padalocchi lo incaricò di andare a pregare in nome suo il maestro Fassi, che a una certa ora cessasse di far saltare e giocare coi manubri la sua figliolanza, perché lo disturbavano nei suoi studi di lingua. Il segretario, già irritato, non fece l'ambasciata coi riguardi dovuti e si lasciò sfuggire la parola baccano. Il maestro andò su tutte le furie. Chiamar baccano degli esperimenti scientifici, le preparazioni pratiche e ragionate che egli faceva delle proprie lezioni, torturandosi il cervello per il bene dell'umanità. Gli pareva il non plus ultra dell'audacia, e, spalleggiato dalla moglie, rimbeccò il segretario in tutte le regole, alludendo con impertinenza alla Pedani. Poi lo mise all'uscio, minacciandolo, essendo a lagnare col professore, il quale, accusando Don Celsani di avere adempito male l'incarico e compromesso un professore con un marrano, lo redarguì, si offese delle sue risposte e non lo guardò più in faccia. Era dunque in rotta con tutti ormai su quella scala, ma c'era di più. Delle sue distrazioni e della sua irritabilità avevano modo di lagnarsi da un pezzo anche gli inquilini dell'altra parte della casa. E poiché la notizia del suo innamoramento, causa di quella grande mutazione, si era diffusa, tutti parlavano alto e basso di lui, senza riguardi. Insomma, l'ostinatezza di quel pretucolo fallito a volere una ragazza che non lo voleva, pareva una petulante pretensione, un indizio d'orgoglio ridicolo o d'imbecillimento addirittura. E non gli facevano neppure l'onore di chiamarlo amore il suo. Doveva essere una brutta passionaccia di seminarista invecchiato, egli si leggeva negli occhi. Raccontavano anzi di tentativi brutali che egli aveva fatto con la signorina su per le scale. Gli davano del porco, lo guardavano per traverso. Poi cominciarono a fargli dei piccoli sgarbi, a cui egli rispose con altri sgarbi. Lui nasprirono fino al punto che diventò egli stesso provocatore. Allora vari inquilini si lagnarono per lettera al commendatore, alcuni di essi accennando all'amore scandaloso, alla persecuzione sfacciata che faceva alla maestra, a scene che seguivano per le scale e sotto il portone, tali che le madri di famiglia non potevano più uscire con le loro ragazze senza correre il rischio di doversi coprire il viso col ventaglio. Fecero tanto fra tutti che un giorno il commendatore perdette finalmente la pazienza e decise di fare al nipote l'ultima intimazione quando fosse rientrato per desinare. Non avrebbe non di meno usato le parole più gravi perché era disposto al buon umore da una letterina della Pedani che lo invitava per due giorni dopo a un saggio ginnastico delle figlie dei militari, nel quale si riprometteva di fare delle osservazioni profonde. Ma si indispettì al veder comparire il segretario con la fronte fasciata, pallido e impolverato. Gli domandò che cosa aveva e gli lo disse. Alla palestra, dove continuava a andare, anche dopo persa ogni speranza a perdomare i suoi nervi, essendosi lanciato per disperazione a un esercizio troppo ardito sulla trave d'equilibrio, gli era fallito un piede ed era caduto giù, picchiando del capo in una delle travi di sostegno. Il commendatore si irritò anche di quello che chiamò una pagliacciata. Poi gli disse fuor dei denti, con una severità che non aveva mai mostrata con lui, che era stanco della sua negligenza, della sua vita disordinata e indecorosa e delle lagnanze che gliene venivano da ogni parte e che lo scandalo doveva avere una fine e che se nello spazio di una settimana non avesse visto radicalmente mutata la sua condotta, egli l'avrebbe cacciato fuori di casa. Aveva già messo gli occhi sopra un altro. Detto questo, e avvisatolo che voleva desinare solo, lo piantò. E allora egli cadde nell'ultima disperazione, la quale non lasciò più che un dubbio nella sua mente sconvolta. Se dovesse partire per Genova e imbarcarsi per l'America o rimanere a Torino e profondere il suo piccolo patrimonio in bagordie e pazzie per istupidirsi e dimenticare. In ogni modo se ne doveva andare subito da quella casa dove la vita non era più tollerabile. In silenzio apparecchiò le sue robe fino a notte inoltrata, poi si buttò vestito sul letto, ma non poté dormire. Acceso dalla febbre, tese l'orecchio per l'ultima volta ai rumori conosciuti. E quella notte i rumori furono continui. Il tanto aspettato congresso dai maestri si era aperto da una settimana. Il giorno dopo era appunto quello fissato per la discussione del quesito della ginnastica, sul quale la Pedani doveva pronunciare il suo discorso. Essa era agitata, scendeva dal letto ogni poco, vi risaliva, tornava a scendere, girava per la camera. Egli sentiva i suoi piedi nudi. E quella fu per lui una tortura dei sensi atrocissima, ma sopraffatta da un grande sentimento di tenerezza, da un rammarico profondo di dover abbandonare per sempre quella camera, di non poter più dire quei rumori familiari al suo orecchio, che egli amava oramai, perché gli ricordavano tante notti insonni, tanti desideri, tante fantasie, tante tristezze. E che non avrebbe mai più dimenticato, ne era certo. Riandò nella mente e al passato. Si levò rito sul letto per sentir meglio i suoi passi e i suoi sospiri. La invocò, le parlò, pianse, si morsi i pugni. Passò una notte di condannato a morte. All'alba si levò stanco e sbattuto. La ferita al capo gli doleva. State incerto tutta la mattina se dovesse accomiatarsi da lei con una lettera o andare di persona. Decise da andare in persona. E al tocco e mezzo salì le scale. La maestra era sola in casa e un po' triste. Dopo la scenata che aveva fatto per lo studente, la Zibelli le rendeva la vita amara con una nuova stranezza. Pareva che volesse sfogare la sua passione sulla tavola. Voleva spendere e spandere in ghiottonerie. Metteva le spese di cucina per una via sulla quale non si poteva andare avanti. Eppure mangiando con l'avidità di uno struzzo, si lagnava ad ogni cosa. Attaccava liti indiavolate per una salsa andata a male, per il pane troppo cotto, per la carne troppo dura, per l'aceto senza gusto. La Pedani non ne poteva veramente più. Quel serpente le aveva avvelenato anche quella mattinata, nella quale avrebbe avuto tanto bisogno di serenità di spirito per prepararsi al suo discorso. Morsa, oltre che dall'altra, anche dalla gelosia del suo prossimo trionfo, la Zibelli non aveva potuto resistere al supplizio di vederla fino all'ultimo momento, e dopo averle fatto una delle solite scenate, sversando la sua ambizione e presagendole un fiasco, se n'era andata senza desinare. La Pedani stava nel salottino, dando l'ultima passata al suo manoscritto, già abbigliata per il congresso, che cominciava alle due e mezzo. Aveva un vestito nero senza guarnizioni, che la stringeva come una maglia, e la faceva parere più bianca di carne e più alta di statura. E l'agitazione dell'animo dava al suo viso un'espressione di sensitività che non aveva mostrata mai. Era sola, e nonostante l'aspettazione dell'ora desiderata e il bel sole che limpiva d'oro la stanza, era malinconica. Alcune amiche che la dovevano venire a prendere per farle animo non erano venute. Quella solitudine le pesava. Ella non aveva mai tanto desiderato la compagnia. Fece dunque un atto quasi d'allegrezza quando le fu annunziato il segretario. Questi entrò col cappello in mano, notò il vestito nero e mise un sospiro. Con quella fronte bendata, pallido, avvilito, triste come una cassa da morto, era veramente una figura da far compassione. Non si volle sedere. La maestra gli domandò subito che cosa avesse fatto al capo. Caduto in palestra, rispose, e soggiunse che veniva a salutarla per l'ultima volta. La Pedani credette che partisse come ogni anno per la campagna e gli domandò «Non viene neppure al congresso?». Il segretario, che aveva visto il biglietto d'invito dallo zio, se n'era dimenticato. Ebbene sì, sarebbe andato prima al congresso. L'avrebbe vista ancora una volta nella piena luce della sua bellezza e del suo trionfo e sarebbe partito poi con quell'ultima immagine davanti agli occhi. Ma non disse questo. La ringraziò soltanto del biglietto che essa gli porse. «Parto», disse poi con voce commossa. «Sono venuto a salutarla per sempre». La maestra lo guardò e capì ogni cosa, ma non trovò parola da dirgli. Infatti, che gli poteva dire? Ella sentiva che qualunque più lieve esortazione a rimanere sarebbe stata una lusinga, quasi una promessa, e la sua schietta natura non le consentiva di farla, perché non l'avrebbe potuta fare che con la determinata intenzione di mantenerla. Scansò i suoi occhi, guardò verso la finestra, imbarazzata. Poi, vedendo che teneva lo sguardo basso, tornò a guardare lui, meditando. Essa sapeva tutto e tutto le tornò alla mente in quel punto. L'aveva trovato in quella casa assestato, operoso, tranquillo, buono, ben voluto da tutti. Egli aveva cominciato a perdere la pace per lei. E tutto era derivato da lì. La maestra Zibelli si era inimicata per la prima volta con lui. Il maestro Fassi l'aveva preso in odio. I ginoni li avevano voltate le spalle. Lo studente lo voleva sfidare. Il professor Padalocchi non lo salutava più. Le signorine del primo piano l'avevano messo alla porta. Tutti gli inquilini li avevano dichiarato guerra. Il commendatore lo voleva cacciare di casa. L'aveva cacciato, forse. Ed egli se ne andava solo e ramingo. E quanto doveva aver sospirato prima che ella se ne avvedesse, e poi sofferto dei disingagni e delle umiliazioni. E quanto la doveva amare per ostinarsi a quel modo, dopo tanti rifiuti di lei e a dispetto di tutti, e con tanto danno proprio. E infine per lei si era rotto la testa. E guardò la sua fasciatura. E come avviene sovente fu ciò che vera di comico in quel povero capo fasciato e nell'immagine che le si presentò di lui ruzzolante e giù dalle travi d'equilibrio, quello che diede l'ultima mossa alla sua pietà e la spinse per la prima volta a un sentimento di tenerezza. Ma il povero Don Celsani, che non le leggeva nell'animo, non vide che il sorriso che esprimeva il penultimo dei suoi pensieri, e lo credette una canzonatura. E quello fu il suo colpo di morte. Ah! esclamò con accento d'angoscia disperata, alzando gli occhi e allargando le braccia. Questo poi non dovrebbe... Lei mi fa troppa pena in questo momento. Oh, signor Celsani, che cosa crede? domandò con slancio la maestra, abbalzando verso di lui. Ma una musica di voci allegre risonò in quel momento nell'anticamera, e un drappello di maestre vestite in gala e ridenti irruppero nel salotto, e dato appena uno sguardo al segretario, s'affollarono intorno alla pedani, facendo un coro di saluti ed esclamazioni. Erano le compagne che venivano a prenderla per condurla al congresso. Erano la sua passione, il suo mondo, la gloria, che le la strappavano e che gli rapivano anche la consolazione dell'ultimo Dio. Don Celsani diede ancora un ultimo sguardo d'adorazione pura in quel momento a quella bella creatura a cui non avrebbe parlato mai più, e rivevendosi le lacrime, uscì, non veduto. Il congresso sedeva nel palazzo Carignano, nell'aula ancora intatta dell'antico Parlamento subalpino. Verrano forse quel giorno più di 300 congressisti tra maestre e maestri, sparsi senza ordine sugli scanni rivestiti di velluto, pochi dei quali erano vuoti. Uno spettacolo nuovo offriva quel salone illustre, dove era risonata la voce dei più grandi campioni della rivoluzione d'Italia, nei momenti più terribili e più gloriosi della nostra storia, occupato ora da una folla di insegnanti elementari, che rappresentavano anche nell'aspetto e nei panni tutti i ceti sociali. Eppure non si prestava allo scherzo il raffronto, poiché faceva pensare che il Parlamento italiano si trovava allora molto lontano, in una città dove pochi anni prima sarebbe parso un sogno a chi sedeva là che si potesse trovare pochi anni dopo. Sopra quegli scanni dove i torinesi avevano visto biancheggiare delle canizie venerande e dei crani spelati di legislatori si rizzavano da tutte le parti penne e fiori di cappellini di maestre, disposte in file o in gruppi, da cui s'alzava un cinguettio di nidi di passere. Al posto di Garibaldi sedeva un vecchio maestro di campagna col gozzo. Sullo scanno del conte Cavour si dondolava un giovanotto in berbe con un garofano all'occhiello. La presidenza era tenuta da un grosso maestro prete napoletano. Si riconosceva a primo aspetto dalla varietà dei visi che quello non era un congresso regionale ma formato di maestri d'ogni provincia d'Italia, fra i quali predominavano le capigliature e le carnagioni brune delle terre meridionali. Sui banchi alti c'era un gran numero di signorine variamente vestite, maestre patentate ma senza impiego, intervenute come spettatrici, per curiosità. Molte con dei fogli davanti e con la penna in mano per pigliar degli appunti, e in mezzo a loro dei ragazzi e delle ragazzine, loro fratelli e sorelle. Due alti usceri col panciotto giallo e le calze bianche giravano per l'aula. Le tribune erano affollate da altri insegnanti e di parenti dei congressisti e si vedevano nelle prime file alcune delle più illustri autorità ginnastiche di Torino, dei professori, dei medici, dei rappresentanti di giornali. Non c'era ancora stata un'adunanza così piena né un'agitazione così viva. Quando Don Celsani entrò nell'antica tribuna pubblica, la seduta era già aperta da quasi un'ora. Appena seduto, egli cercò la Pedani. Non la trovò subito. Vide invece la Zibelli in uno dei banchi più bassi, di faccia alla presidenza, in mezzo ad altre due maestri che egli non conosceva, e risalendo con lo sguardo su pei banchi di dietro trovò il profilo caporalesco del maestro Fassi, che aveva intorno un grosso drappello di maestri di ginnastica di Torino. Quasi tutti visi d'antichi militari, fra i quali riconobbe la testa bionda del maestro della generala. Ma dov'era lei? Dopo aver cercato un altro po' all'avventura, la trovò finalmente, riscotendosi tutto, in uno dei banchi più alti di destra, dove avevano seduto i Massari, i Boggio, i Lanza, la più fedele pattuglia del grande ministro. Era in un posto vicino al finestrone, in mezzo allo stuolo vivace delle maestre che erano venute a prenderla a casa e che le facevano intorno come una scorta d'onore. La luce del sole che entrava per il finestrone accendeva tutta la parte destra del suo corpo serrato nel vestito nero. Aveva delle carte davanti, discorreva con le vicine, pareva un po' agitata. Il segretario pose un pugno sull'altro sopra il parapetto, appoggiò il mento sui pugni e rimase immobile così, guardandola, confortato da un'ultima speranza. Che una volta sola, alzando gli occhi verso quella parte, ella avesse incontrato il suo sguardo. Sarebbe stato l'ultimo addio. Poi tutto sarebbe finito. Di nessun'altra cosa si curava. Come entrando, non aveva nemmeno guardato quell'aula storica che non aveva mai vista, così non sentì neppure una parola dei discorsi che allora vi risonavano. La discussione si aggirava ancora intorno al tema che era già stato trattato il giorno avanti, sull'opportunità di introdurre nelle scuole gli esercizi di lavoro manuale. Aveva parlato prima, con grande dolcezza, una maestrina veneta, facendo vedere un modo trovato da lei di insegnare a far dei canestrini con nastri di carta, e un saggio dell'opera sua andava girando di mano in mano per i banchi, dove le maestre si provavano a rifare il lavoro. Poi aveva parlato un maestro calabrese, con una voce cantante e lamentosa, mostrando una grossa cesta piena di lavori fatti nella sua scuola, fra i quali c'era anche un paio di scarpe. Dopo di lui, avendo parlato alcuni oratori dissenzienti, la discussione si era accalorata e inasprita. Una bella maestra, che faceva da segretario, dovette rileggere una parte del verbale dell'altra seduta. Vera in un banco dell'estrema sinistra una schiera di giovani maestri lombardi arditi e battaglieri, che il con tutta la sua pazienza sacerdotale non riusciva a racquetare. Due maestri dalle parti opposte dell'aula si scambiarono delle parole acri. Insomma, una gran parte del tempo se ne andava in questioni di prammatica parlamentare, gli oratori sentivano l'influsso dell'aura politica della sala, parlavano con troppa enfasi, mostravano un amor proprio eccitabile. Don Celsani fu un momento distratto da una grossa voce che gridò solennemente. I rappresentanti di Milano non hanno alcun mandato imperativo. Poi lo riscosse di nuovo una salva d'applausi fatta in onore di una maestra, la quale, con voce di soprano, aveva detto che se si fosse adottato il lavoro manuale nelle scuole sarebbe stato giusto un aumento proporzionato di stipendio. Poi seguì un nuovo arruffio. Infine un maestro piccolo e grasso, con poche parole lucide e piene di buonsenso, rimise la pace e il presidente poté porre ai voti un ordine del giorno per alzata di mano. Duecento braccia s'alzarono, fra cui si videro moltissimi guanti di donna abbottonati fino al gomito. Un applauso seguì la votazione e si passò all'altro tema che erano le modificazioni da proporsi nell'insegnamento della ginnastica. L'annunzio del tema fece dare uno scossone a don Celsani, che credeva che la Pedani parlasse subito, e nel volgere gli occhi da quella parte egli vide comparire nella tribuna e in faccia alla sua, proprio sul capo della maestra, il viso ridente dell'ingegner Ginoni. Ma la sua aspettazione fu delusa. Altri parlarono prima, maestri e maestri. La discussione da principio s'aggirò con molto disordine sul lato tecnico dell'argomento, al qual proposito si sfoggiò una frasiologia tecnologica di cui i profani non capirono nulla. E i nomi del Bowman e dell'Oberman, proferiti in mezzo a un grande tumulto, dominato per un momento da una voce cavernosa che gridò, Torino che fu culla della ginnastica, ne sarà la tomba. Un maestro richiamò l'attenzione del congresso sull'opportunità di riformare il linguaggio non abbastanza italiano del regolamento di ginnastica, esponendo il parere che si proponessero certi quesiti all'Accademia della Crosca. Don Celsani credeva che il maestro Fassi avrebbe parlato. E infatti egli s'agitava, approvava e disapprovava violentemente, gridando «No, mai! Questa è grossa! Un po' di buonsenso!» Ma non domandò la parola. Un maestro di ginnastica dimostrò la necessità di migliorare le condizioni dei suoi colleghi, che erano pagati dal governo, ma senza avere alcuno dei diritti degli altri impiegati, che si trovavano in uno stato precario, sottoposti all'arbitrio dei presidi di liceo e di ginnasio, i quali aprivano il corso in ritardo, non li ammettevano, come sarebbe stato giusto, nelle commissioni per le esenzioni, concesse quasi sempre a capriccio, e non li spalleggiavano nella disciplina. Quindi la discussione si imbrogliò e si infiammò da capo in una controversia di metodo, nella quale si udirono accenti di tutte le parti d'Italia. Il segretario cominciava a temere che la Pedani non avrebbe più parlato, e si preparava con grande amarezza a rinunciare a quell'ultima volutà di sentire la sua voce, di vedere applaudito e onorato il suo idolo, di portar via la propria disperazione quasi dorata dal raggio di quella gloria. Ogni nuovo maestro che parlava, egli premeva che finisse, gli pareva che prolungasse apposta il suo supprizio, ed egli ne contava le parole fremendo. Finalmente, dopo un breve discorso d'una maestra toscana che si fece applaudire citando a nostra vergogna il piccolo Belgio, dove si offrivano 25.000 lire di premio all'autore d'un buon libro sulla ginnastica, il presidente disse ad alta voce «La parola è alla signora Pedani». Don Celzani scattò come se lo avesse avvolto una fiamma. Corse prima un sordo mormorio, poi si fece un grande silenzio, il quale significava che la maestra era conosciuta per fama e il discorso aspettato. Tutti i visi si voltarono verso di lei. Al primo vederle in piedi, eretta con tutto il busto sopra il banco, alta e possente, col bel viso ovale pallido ma risoluto, si intese un nuovo mormorio, come un commento favorevole alla sua persona, il quale subito cessò. Un secondo senso di stupore destarono le prime note della sua voce bella e strana, quasi virile, ma armoniosa, che corrispondeva perfettamente al corpo poderoso e svelto. Essa cominciò col dire che nessun miglioramento si sarebbe conseguito sia nell'attuazione della ginnastica che nella condizione degli insegnanti, se al governo, ai municipi, a tutte le autorità, non si fosse fatta sentire, come in altri paesi, la forza imperiosa della voce della nazione, profondamente persuasa dei benefici di quell'insegnamento e fermamente risoluta a volerli. Il primo debito di tutti, e in particolar modo degli insegnanti, era dunque di far propaganda di quell'idea, di inculcarla nella ragione, nella coscienza, nel cuore del popolo di tutte le classi. Essa parlava lentamente dapprima, corrugando la fronte in segno di impazienza quando la parola non le veniva, e facendo un atto dispettoso quando si imbrogliava in un periodo, come per lacerare la rete che l'avvolgeva ed esprimere il suo pensiero a ogni costo. Anche per la ginnastica, proseguì dicendo, l'Italia aveva fatto come per tant'altre cose, come per esempio per l'istruzione militare delle scolaresche. C'era stato da principio un grande entusiasmo, dal quale, a poco a poco, si era caduti nella più vergognosa trascuranza, fino a gettare il ridicolo sull'idea e sui suoi due voti. Ma la ginnastica accadeva di peggio. Era sorto contro di questa e s'andava ingrossando un esercito di nemici, dei quali le autorità scolastiche subivano la forza, per modo che l'insegnamento tendeva a diventare una vana mostra, una miserabile impostura, anzi, un'aperta irrisione. L'ignoranza, una vile paura di pericoli immaginari, l'infingardaggine nazionale, la perfidia di certe genti interessate che giungevano con inaudita sfacciataggine fino ad addebitare alla ginnastica le infermità e i difetti organici della gioventù che essa aveva per istituto di correggere, congiuravano insieme. E sarebbe stata una cosa incredibile se non si fosse veduta ogni giorno. Nemici della ginnastica, disse, sono dei colti professori, acciaccatisi a quarant'anni come ottuagenari, appunto per aver troppo affaticato il sistema cerebrale a danno dei muscoli. Nemiche della ginnastica, sono delle madri di fanciulle senza carne e senza sangue, future madri anch'esse d'una prole infelice per non aver mai esercitato le forze del corpo. Nemici della ginnastica, dei padri di giovinetti che per l'eccesso delle fatiche della mente cadono in consunzione, contraggono malattie cerebrali terribili, si abbandonano all'ipocondria e meditano il suicidio. Nemici e derisori della ginnastica a mille a mille, mentre la crescente facilità della locomozione e i raddoppiati comodi della vita già tendono a renderci inerti e fiacchi, mentre la rincrudita lotta per l'esistenza richiede a tutti ogni giorno un maggior dispendio di forza e di salute. Nemici della ginnastica, mentre siamo una generazione misera, sfibrata e guasta, che fa rigurgitar gli ospedali e gli ospizi di deformità e di dolori. Quale cecità, quale insensatezza, quale vergogna! Le ultime parole furono accolte da uno scoppio di applausi. La Pedani prese animo e incominciò a fare un confronto del discredito e della frivolezza della ginnastica in Italia con l'onore in cui era tenuta presso altre nazioni. Qui commise l'errore di diffondersi un po' troppo in citazioni statistiche e qua e là si manifestò un principio di opposizione. Due o tre gruppi di maestre si misero a bisbigliare tra loro per distrarre l'uditorio. Don Celsani sentì il maestro Fassi, che non guardava mai l'oratrice, esclamare due o tre volte con dispetto. È fuori dell'argomento, ma sono cose che si sanno. Una volta esclamò forte. Bella novità! Tanto che molti si voltarono. Ma la Pedani uscì in tempo dal malpasso accennando alle recenti feste di Francoforte con un periodo veramente felice in cui l'uditorio vide per un momento davanti a sé la grande palestra riboccante del fiore della gioventù germanica e sentì come la vampa di quel gagliardo entusiasmo passar sopra il suo capo. La maestra s'accendeva nel viso, spiegava la voce con una sonorità potente, tagliava l'aria col gesto, senza smodare, col vigore di una sacerdotessa ispirata. E si sentiva tutta l'anima sua in quella sincera eloquenza. Si indovinava tutta la sua vita consacrata a un'idea, una gioventù che era come una lunga adolescenza severa, affrancata dai sensi, repugnante a ogni specie di affettazione sentimentale o scolastica, semplice di costumi e di modi, purificata e fortificata da un esercizio continuo delle forze fisiche, del quale erano effetto manifesto la sua salute fiorente, la mente limpida e l'anima retta e ardita. E quando, con l'ultimo tratto, Ella fece passare nell'aula la figura del vecchio Augusto Ravenstein, fondatore della prima palestra del suo popolo, seguito dal corteo dei grandi ginnasiarchi tedeschi, benefattori di milioni di fanciulli e benimeriti della potenza e della gloria della Germania, scoppiò un'altra acclamazione fragorosa, che scosse lei e tutta l'assemblea, e la interruppe per un po' di tempo, durante il quale le sue compagne le si strinsero intorno afferrandole i pagni e le mani, e affondandola di rallegramenti. E allora essa corse fino alla fine con crescente fortuna. Ritornando sull'argomento fondamentale del suo discorso, insistette sulla necessità che tutti gli insegnanti s'adoprassero a persuadere le famiglie altrettanto che ad ammaestrare gli alunni. Alle maestre, più che ad altri, spettava quell'ufficio, perché, esercitata dalle donne, avrebbe avuto maggiore efficacia la propaganda in favore di una disciplina in cui esse non potevano eccellere e che rimuoveva il sospetto dell'ambizione. Rivolgiamoci alle matri, disse. Facciamo vedere loro toccare con mano gli effetti meravigliosi dell'educazione fisica, che sono evidenti e infallibili come i risultati di una scienza esatta. Persuadiamo loro che la ginnastica è la forza e la salute, e che salute e forza sono serenità, bontà, coraggio e grandezza d'animo. E se non bastano il ragionamento e l'esempio, preghiamole, leviamo loro di mano con amorosa violenza, i fanciulli e le fanciulle deboli ed esangui, supplichiamole perché ce li lasciano salvare dalle malattie, dalla infelicità, dalla morte. Oh, se potessimo trasfondere in tutte l'indomabile ardore che è in noi. E prima d'ogni cosa, abbiamo fede in noi stessi, una fede ardente e invincibile, che la nostra idea sarà un giorno l'idea di tutti e che un nuovo sistema d'educazione rifarà il mondo. Sì, io lo credo come credo nell'esistenza del sole che ci illumina. Una nuova educazione, fondata sopra un esercizio perfezionato delle forze fisiche dell'infanzia e della gioventù, preverrà innumerevoli miserie, risparmierà all'umanità innumerevoli dolori, falcerà mille vizi alla radice, agevolerà alle generazioni che saranno più buone perché più forti e più giuste perché più buone, la soluzione dei grandi problemi attorno a cui si affannano inutilmente ora le nostre menti malate e le nostre forze esaurite. Io credo, oh colleghi, in questa umanità nuova che innalzerà ai grandi apostoli della ginnastica delle colonne di bronzo. Ci credo, la vedo, la saluto, l'adoro e vorrei che tutti considerassero come la più santa gloria umana quella di vivere e di morire per essa. A quella chiusa si scatenò una tempesta. Tutti balzarono in piedi, battendo le mani e gridando. La pedani, pallida e trafelata, si dovette alzar tre volte per ringraziare. Le ultime parole erano state dette veramente con vigore d'entusiasmo apostolico e avevano scosso le fibre di tutti. Quando l'acclamazione pareva finita, ricominciò. Tutti i filoginnici dell'assemblea delle tribune erano in visibilio. Due o tre oratori che sorsero dopo di lei non furono quasi più intesi. Quando la seduta fu chiusa scoppiò un nuovo applauso e la pedani discese dal suo banco fra due ali divisi sorridenti e di mani tese, in mezzo a un gridio assordante di congratulazioni e di evviva. L'immagine di una creatura umana che godesse l'ultima ora d'embrezza sulla soglia ad un palazzo incantato, prima ad essere precipitata per un trabocchetto in carcere eterno, basta a mala pena dare un'idea dello stato d'animo in cui il povero segretario aveva udito quel discorso e quegli applausi, e visto accendersi a poco a poco e quasi grandeggiare la figura della maestra. Quando elle ebbe finito egli si guardò intorno come se si riavesse da un sogno, e sentì tutta un tratto una così violenta stretta di tristezza e di pietà verso se stesso che dovette fare uno sforzo per trattenere il pianto. In quel punto si sentì chiamare da una voce conosciuta. «Signor Celsani!» E voltatosi, vide le mille rughe sorridenti del cavalier Pruzzi, ancora tutto vibrante d'entusiasmo, sotto la sua parrucca messa di sbiego. «Ha sentito, eh!» gli disse questi, sporgendo innanzi la pancia tonda. «Che maestre abbiamo a Torino! Non si può dire che il municipio spenda male i suoi denari!» E fosse per puro effetto d'entusiasmo, o centrasse anche il pentimento delle reticenze meditate con le quali, in quell'occasione memorabile, aveva tenuto sulle corde il segretario e gettato un velo misterioso sulla ragazza. Fatto è che vuotò il sacco delle lodi, trattenendo per il bavero il don Celsani che voleva uscire. Non era informato che, da poco tempo, diceva, del passato della maestra Pedani. Essa aveva un lungo ordine di benemerenze. Aveva reso un servigio al provveditor degli studi di Milano, resistendo intrepidamente alla popolazione di un villaggio che non la voleva, perché gliel'avevano mandata ad ufficio, e costretta ad andarsene vera ritornata con la scorta di una compagnia di bersaglieri, e vera rimasta, partita questa, con fermezza ammirabile. Si era fatto onore nell'estinzione di un incendio nel comune di Camina. Aveva, nello stesso comune, salvato un ragazzo da un torrente, guadagnandosi la menzione onorevole del valore civile. «Che gliene pare», disse infine dopo aver ripreso il fiato. «Ora ha fatto onore a Torino, per Diana, in faccia a tutta l'Italia. Abbiamo dei fastidi, è vero, abbiamo delle grandi responsabilità, ma qualche volta almeno si è ricompensati». Esso giunse, rivolto verso l'aula già quasi vuota. «Ma brava, ma brava, ma brava!» Ma il segretario non gli badò quasi e lo lasciò subito. Discese le scale mezzo rintontito. Nell'atrio trovò una folla in cerchio, e indovinando che c'era nel mezzo la Pedani, s'avvicinò. Era lei infatti circondata e festeggiata. Egli riconobbe le penne verdi del suo cappellino. Mentre s'alzava in punta di piedi per vedere il suo viso, sentì dietro alle spalle la voce del maestro Fassi, e voltandosi, lo vide che declamava in un crocchio, col viso livido, torcendosi rabbiosamente i lunghi baffi. «In conclusione», diceva, «non ha fatto altro che battere la campagna. Grandi citazioni, grande retorica, ma in materia di scienza?» E l'accusava di plagio. «Vada per le idee», gridava. «Ma le frasi, ma le parole mi ha portato via, senza degnarsi di pronunciare il mio nome. Ma vi dico le parole una per una, come se le avesse stenografate. Accidenti che disinvoltura! Fidatevi un po' delle conversazioni familiari. Ora si farà strada di sicuro. Sentirete che chiasso, quei cretini di giornalisti! Ah, che bel mondo di ciarlatani!» Lapedani, intanto, stentava ad aprirsi il passo. Quando la folla degli ammiratori si fu un po' diradata, l'ingegner Ginoni si fece avanti con impeto e le disse, stringendole le mani, «Sublime! Ma quasi convertito, non le dico altro!» Poi s'avanzò per complimentarla, strascicando i piedi, il professor Padalocchi. Poi venne il direttore. Non finivano più. Finalmente non le rimasero intorno che una ventina di maestre, mentre molti altri la guardavano di lontano. E allora, non visto, il segretario la poteva vedere. Non gli era apparsa mai così bella, così risplendente, così superba. Pareva che tutto il suo corpo vibrasse dentro a quel semplice succinto vestito nero, come se ne corresse un fremito continuo da capo a piedi. Il rossore le era tornato, quel bel rossore delicato e diffuso che succede alla pallidezza delle grandi commozioni gradevoli, ed è come il pudore gioioso della gloria. Il suo viso aveva un'espressione di gentile bontà femminea che il Celsani non le aveva mai veduta, e che dava ai suoi occhi alla sua bocca e a tutta la sua persona una nuova forza di seduzione. Ed egli la guardò, estatico, preso da un sentimento strano e doloroso, come se fosse già lontanissima da lui, di là da un immenso fiume, sul culmine di una collina, dietro alla quale dovesse sparire per sempre. Quando ella si mosse col suo drappello di maestre, il segretario si nascose dietro un pilastro, e di lì vide una scena inaspettata. Mentre la Pedani stava per mettere piede fuori del portone, le comparve davanti la maestra Zibelli, e le gettò le braccia al collo piangendo, e la baciò più volte con ardore. Don Celsani non udì le sue parole, ma comprese così per nebbia che era stata vinta, e che veniva, mossa da un impulso del cuore, a rendere le armi e a chiedere perdono di qualche cosa. La Pedani la abbracciò, e quella si allontanò subito, voltandosi a mandarle un saluto appassionato con la mano. La Pedani uscì sulla strada, ed egli la seguì, a molta distanza. Andava innanzi lentamente, preceduta, fiancheggiata, seguita da uno stuolo di maestre giovani, i satelliti consueti dei trionfatori, che le facevano intorno un cicaleccio festoso, avvertendola di scansare le carrozze e lanciando qua e là, come per attirare su di lei l'attenzione dei passanti. Tratto tratto, una di esse si accomiatava, un'altra sopraggiungeva e s'univa al gruppo. Svoltarono in via Santa Teresa, e tirarono avanti a destra, il povero Celsani sempre dietro. Sì, la voleva vedere finché avesse potuto. Poi sarebbe andato a prendere la sua roba e partito da Torino. Per dove? Non sapeva. Per Genova forse, per imbarcarsi. Dio l'avrebbe guidato. Purché andasse lontano, a soffocare la sua passione in una dura vita di lavoro, a dimenticare se fosse stato possibile o se non altro a soffrir meno. Poiché veramente, alla disperata vita a cui era ridotto, non gli bastavano più le forze dell'anima. E dopo quel trionfo, egli si sentiva più miseramente e, per così dire, più bassamente infelice che non fosse stato mai, poiché non aveva sentito per l'addietro che la differenza esteriore che c'era fra lei e lui. Ma la riconosceva ora troppo superiore a sé anche per lo spirito. Ella non aveva soltanto innalzato se stessa alla gloria, aveva precipitato lui nella polvere. La vedeva tra pochi anni celebre, cercata da tutti, amata, sposata forse da un uomo bello, illustre e potente. Gli pareva allora un'insensatezza ridicola quella di aver osato di chiederle la mano, di importunarla, di inginocchiarsi davanti a lei e di abbracciarle ginocchi. Nel questo ricordo, appunto, la sensazione che gli ridestava di quell'abbraccio, gli bruciava il sangue e il cervello. E intanto la divorava con gli occhi di lontano. Ora una carrozza, ora un gruppo di gente, e le la nascondeva. E poi essa riappariva, e li riappariva ogni volta più grande, più formosa, più trionfante, per fargli entrare più addentro nel cuore lacerato, la punta della disperazione. Le amiche l'accompagnarono fino al portone. Egli si arrestò all'angolo di via San Francesco. Di là aspettava di vederla sparire per sempre, come in un abisso. Ma quando vide le amiche lasciarla e lei entrare in casa, una risoluzione improvvisa lo spinse, un bisogno irrefrenabile di dirle addio ancora una volta. Fece la strada di corsa, entrò nel cortile, si mise dietro a un pilastro, e la vide avviarsi verso la porta interna e salire a passi lenti, voltandosi ogni tanto a guardare indietro, come se le paresse d'avere smarrito qualche cosa, o rimpiaggesse la compagnia che l'aveva lasciata, e sentisse ripugnanza, dopo quel trionfo clamoroso fra tanta gente, a ritornare in casa così sola, per quella scala nera e solitaria. Le andò dietro in punta di piedi, ad agio ad agio. Quando fu al secondo pianerottolo, non poté più reggere, si slanciò su, la raggiunse. Ella si voltò. Si trovarono di fronte l'uno all'altro nel buio, lei sopra uno scalino più alto. «Il signor Celsani?» domandò la maestra. Egli ruppe in un singhiozzo e mormorò. «Son venuto a dirle addio». Ma non aveva finito di dirlo, che si sentì una mano vigorosa sulla nuca e due labbra infocate sulla bocca, e nella gioia delirante che lo invase in quell'immenso paradiso oscuro dove si sentì sollevato come da un turbine, non poté cacciar fuori che un grido strozzato. «Oh, Dio grande!»